Grazie. Sono le ore 14.34 e iniziamo il Consiglio Comunale. Do la parola a Sittà Comunale per l'appello. Buongiorno a tutti, allora procediamo con l'appello. Renata Tosi? Presente. Rosati? Presente. Ok. Frisotti? Non c'è. Ok. Totti? Totti? L'ho visto prima. Anch'io lo vedo, l'avevo visto. Totti? Eccolo lì, ma... Totti? Totti, presente. Lo vedo. Lo vedo anch'io, però ha il microfono spento. No, ma è fuori perché non c'è la telecamera accesa. C'è la telecamera accesa? Come? Sì, sì. Ah, si tocca. C'è la telecamera però, il microfono, forse non riesce. Totti, ci senti? Adesso. Ok. Angelini? Presente. Pellegrino? Presente. Perfetto. Maiolino? Presente. Mussoni? Presente. Bene. Galassi? Presente. Pelle? Non lo vedo. C'era. Ok. Non è... No, c'era, l'ho visto prima Pelle. Pelle? Forse è lì, quel piccolino, no, no. No, guardiamo di qua, se l'elenco. No, non c'è Pelle. No, non c'è, non c'è. Prima c'era. Per il momento lo diamo assente. Boschetti? Boschetti l'avevo vista. Presente. Perfetto. Banti? Presente. Faccio io appule. Bedina? Presente. Ragni? Ha già detto, ha detto adesso. Presente. Ok, Ricci? Lo vedo. Presente. Bene. Testa? L'ho vista? Però... Non c'è. Sì, l'ho vista. È qui, però non c'è. Testa? Niente, per il momento è assente. Vescovi, la vedo? Presente. Vescovi. Bene. Imola? Lo avevo visto. Lo avevo anche visto. Presente, Imola. Presente. Presente. Gobbi? Lo avevo anche visto. Ecco lui. Lì, presente. Perfetto. Andruccioli? Presente. Presente. Gnambetti? Presente. Perfetto. Allora, Conti? Lo vedo. Questo è solo per farlo. Andiamo a sentire. No, mi sente. Presente. La Greta sta dicendo presente. Del Bianco. Presente. Carbonari. Presente. Un baldi. Non lo vedo. Allora, Greta sta provando a dire il presente. Ecco, la testa, ok? Ma non si sente, Greta. Greta non si sente. Prova a uscire e rientrare. È l'unico modo. Va bene. Bene. Andiamo avanti. È comunque da me presente. Sì, abbiamo fatto tutto. Sì. Bene. È stato l'appello interessante. Ora, prima di passare alle question time, ci sono due comunicazioni istituzionali che dobbiamo darvi. Ci sentite tutti? Mi sentite tutti quando parlo? Fateci con la testa eventualmente. La prima comunicazione istituzionale la va dal sindaco. Se l'avesse avuto, già te l'avete fatto. L'assessor Medici. La delega. Gli spazi pubblici per il comune. Ma questa non devo darla con la quale. Ho nominato Lea Ermetti, anche titolata della delega allo spazio pubblico bene comune. Seconda comunicazione istituzionale che vi devo dare è la nomina di due commissari delle commissioni pari opportunità. La signora Maria Caterina Fazio, nata a Napoli il 27 settembre del 47 per il Partito Democratico e la signora Alessandra Prioli, nata a Riccione il 4 ottobre del 61 per la rappresentanza Gruppo Consigliare Riccione Civica. Detto questo, essendo usate le comunicazioni istituzionali, passiamo alle question time. La prima question time è del Consigliere Conti. Consigliere, prego. Consigliere, prego. Tre minuti. Il microfono è attivo? Sì, ti sentiamo. Bene, io vorrei chiedere al Sindaco perché non ha dato seguito al tavolo congiunto maggioranza e minoranza insieme alle categorie economiche, alle rappresentanze di categorie e agli altri soggetti economici di cui avevamo parlato e che si era detto si sarebbe fatto. Grazie. Non so io. Voi sapete, forse non lo sa, ma la maggior parte dei consiglieri non lo sa, c'era stato un momento nel periodo dell'emergenza totale nel quale abbiamo e ho preso l'iniziativa di procedere ad un tavolo congiunto con il capigruppo della minoranza e della maggioranza. Un tavolo di dialogo nell'indicazione. Un tavolo di dialogo nell'ambito del quale si facevano proposte piuttosto che iniziative. Ciò non portava nessun obbligo da parte di nessuno e in ragione soprattutto del fatto che a seguito delle prime due riunioni gli esponenti, il capigruppo della minoranza, si sono presi la libertà assolutamente riconoscibile e riconosciuta di portare tutto ciò che era stato detto al tavolo alla conoscenza della stampa. Ho pensato che fosse molto più interesse per i componenti del tavolo espressioni della minoranza avere una visibilità piuttosto che arrivare effettivamente a dare un contributo in un momento di così alta crisi. E quindi ho ritenuto che la successiva richiesta di comunque aprire ad un tavolo che era già esistente tra la maggioranza delle categorie economiche, perché senza che lo debba nessuno, Io ho aperto il tavolo con tutte le categorie economiche di Riccione, anche doppiamente rappresentate sin dal primo giorno 8 marzo della crisi, proprio perché c'è la necessità di confrontarsi e mettersi umilmente a servizio. Quindi non ho ritenuto che fosse necessario oltremodo il contributo di nessun'altra parte. Grazie. Consigliere, grazie a tutti. Quindi abbiamo scherzato la proposta che fra l'altro non è partita nemmeno da lei, però lei sostiene che sia partita da lei, ma così non è, ed è stata accolta da voi anche sulla stampa di cui parla, è stato uno scherzo. Giusto per andare sui giornali e dire che si faceva questa cosa insieme. Però visto che lei sostiene che la minoranza sia uscita sui giornali, io a questo punto se lei me lo consente, gli altri partecipanti della chat me lo consentono, porterei non a conoscenza del pubblico, chiaramente perché non c'è nessuna necessità, però a conoscenza di tutti i consiglieri comunali il contenuto di quella chat, in modo che si possano fare tutti un'idea corretta sui tempi in cui si è intervenuti. Perché noi abbiamo presentato delle proposte dopo più di 20 giorni dal suo idinieghi di fare questo tavolo, quando in quella chat stessa lei ci dice lo faremo, lo faremo, lo faremo la prossima settimana e poi dopo, dopo più di 20 giorni non se ne ha notizia. Quindi se siete d'accordo, il gruppo presenti, farei conoscere a tutti i consiglieri il contenuto di quella chat, in modo che si possano fare loro un'idea di quello che è realmente successo, perché la rappresentazione che ha fatto lei oggi non corrisponde al vero. Grazie. Costituisce una domanda, non ho capito. No, se nulla osta, farei vedere il contenuto di quella chat, lo presenterei a tutti i consiglieri comunali, non chiaramente al pubblico perché mi sembra... Questo comunque rimane un consiglio comunale, se voi ritenete di fare questa cosa, fatela pure, ma non nella chat del consiglio comunale... No, no, assolutamente, assolutamente, non sto parlando in questo momento chiaramente. Ma siete liberi, non c'è nulla di segretato, siete liberi di fare quello che ritenete più opportuno. Nei limiti rispetto alla libertà altrui, insomma. Certamente. Prima di andare avanti con la prossima question time del consigliere Del Bianco, volevo far fare una prova al consigliere Testa che mi scrive che non può parlare. Non si non riesce a parlare. Consigliere Testa? Io non la sento, consigliere. Dove è qui? È raggiù in basso. Non si riesce a parlare. Provi a staccare e attaccare il microfono. Allora, disattiva. Non è che c'è un piccolare attaccato il pubblico, vero? No, non ce li ha. Allora. Magari attaccato e non messo. Adesso non ti dà più. Prova adesso? No. Non la sentiamo. Sei l'auricolare? Proverai, scriverai nella chat. Adesso vediamo, andiamo avanti. Proveriamo di nuovo. Allora, intanto la dossier del Bianco, prego, la sua question time. Ricordate che ci sente. Sì. Tre minuti, consigliere. Buon pomeriggio a tutti, mi sentite? Sì. Perfetto. Allora, volevo chiedere un paio di cose relative all'avviso pubblico pubblicato in data 3 aprile 2020 che riguarda i buoni spesa, tanto per capirci. Visto che diversi sono stati contati da parte dei cittadini che purtroppo in questa fase hanno avuto estremo anche bisogno. Volevo, se era possibile, avere velocemente una risposta in merito a alcuni punti. Dato che ho notato l'avviso estremamente semplificato, ora posso capire che sia stato semplificato nelle sue componenti per essere anche probabilmente più fruibile, ma io ho rilevato alcuni punti che vorrei che il sindaco mi chiarisse. Uno soprattutto è intanto un parere che è quello riguardante il fatto, ovvero se l'obiettivo è stato raggiunto o no, se davvero abbiamo aiutato le famiglie che avevano in modo tangibile bisogno. Il fatto di fare un bando di questo tipo, quindi senza neanche un minimo di certificazione, almeno dei redditi pergressi, inserendo una clausola molto lasca come quella della giacenza media inferiore ai 10.000 euro, hanno tutelato, secondo voi, le fasce più deboli e hanno davvero favorito quelle che avevano necessità. Vorrei sapere se verranno effettuate delle verifiche a stretto giro e in ultimo, ma l'argomento è sempre quello, se è stata una buona idea non considerare in questa prima tornata le fasce, i soggetti che già avevano delle facilitazioni di altro tipo. Grazie. Grazie consigliere, risponde l'assessore Galli. Sì, allora, come ben sa, prima di uscire con l'avviso abbiamo fatto anche i passaggi opportuni, quindi sia un confronto in termini di enti del nostro territorio, piuttosto che con le organizzazioni sindacali. Allora, la risposta che abbiamo dato, direi che, visti i dati, è precisa e puntuale. Ricordo che, naturalmente, tutte le cose che le persone hanno dichiarato, si trattava naturalmente di un'autodichiarazione, quindi la responsabilità è del singolo individuo. A noi, naturalmente, compete tutta la parte dei controlli, quindi abbiamo fatto anche controlli incrociati attraverso l'accesso dei dati dell'IMS, in modo particolare. Come diceva lei, ci siamo dati dei requisiti, vista anche la nostra tipologia di popolazione, visto quello che diceva l'ordinanza. Perché vorrei ricordare che l'ordinanza parlava di situazioni di difficoltà economica dovute all'emergenza del coronavirus. Quindi, in prima battuta, occorreva dare risposta a quella che è una fascia grigia di popolazione che si è trovata in difficoltà dovuta a questa situazione e che prima non era mai venuto a contatto né con i nostri uffici né con gli sportelli sociali d'ascolto del territorio. Abbiamo raccolto 1.195 domande, di cui già da ieri, comunque da oggi, abbiamo dato pagamento e risposta a tutte, sia le prioritarie, che erano 716 del primo gruppo, ed erano tutti coloro che non avevano avuto nessuna tipologia di aiuto, né da parte degli enti, parlo comunque dei primi mesi del 2020, quindi non riferito al pregresso. E abbiamo dato risposta successivamente utilizzando anche risorse del comune, piuttosto che risorse donate dai privati su quel conto corrente che abbiamo subito attivato per la raccolta delle donazioni da parte dei privati, abbiamo dato un'ulteriore risposta a 331 domande che diciamo erano il secondo gruppo, cioè coloro che avevano già avuto altre tipologie di aiuto. E quindi abbiamo, rispetto ai 203 mila euro che arrivavano dall'ordinanza della protezione civile, aggiunto più di 100 mila euro come risorse comunali. C'era sembrato anche, vista l'emergenza, di tenere in considerazione la giacenza media dei conti correnti, perché era impensabile in questo periodo innanzitutto l'accesso per le persone, sia per andare naturalmente a predisporre un ISEE piuttosto che altra documentazione, mentre il controllo della giacenza media, naturalmente quello come lei sa, è fattibile. Ecco, dopodiché è normale che ogni territorio ha guardato anche alla sua popolazione e anche alla tipologia delle attività. Quindi secondo noi è stata al momento una buona risposta. Certo che non è finita qui, ok? Quindi in tutti i tavoli e in tutte le occasioni possibili abbiamo ribadito che occorrono nuovi fondi e che naturalmente abbiamo evidenziato le difficoltà, come dicevo prima, di questa nuova fascia grigia che purtroppo si è creata. Consigliere del Bianco Sì, volevo fare una precisazione all'assessore che ha appena risposto. Nel punto dove si richiama la giacenza media... Mi perdoni signor sindaco. Nel punto dove si identica la giacenza media bancaria e barra postale del nucleo familiare... Non vediamo lo schermo però, consigliere del Bianco, non la vediamo. Eccomi, scusate. Nel punto dove... Io ho ravvisato questo. Nel punto dove si cita la giacenza media bancaria e postale inferiore ai 10.000 euro, giacenza media può voler dire tutto come non vuol dire nulla. Lì andava, secondo il mio punto di vista, espressamente specificato le disponibilità finanziarie. Perché io sul conto corrente potrei avere 1.000 euro e avere 200.000 euro di investimenti presso quell'istituto e non solo, presso istituti di ordine assicurativo. Quindi, anche qualora venisse fatta una verifica da quel punto di vista lì, chi avrebbe dichiarato la giacenza media inferiore ai 10.000 e non dichiarato le altre attività finanziarie non sarebbe possibile di eventualmente richiedere indietro il danaro. Questo è un punto che ritengo che fosse opportuno inserire, perché era semplicissimo, come era semplicissimo inserire la giacenza media, era anche semplicissimo chiedere, o meglio, inserire la voce attività finanziarie, che vogliono dire anche le restanti attività, non solamente le attività liquide. Quindi su questo punto io invito a riflettere, perché probabilmente, qualora ci fossero state delle richieste non opportune, non sarebbe, perché sarebbe stato rispettato il bando, possibile richiederle indietro, se non erro. Grazie. Grazie consigliere. La prossima question time è del consigliere Carbonari. Prego consigliere, tre minuti. Sì, anche meno. Intanto, ciao a tutti. Oggi mi occupo di piste ciclabili. Allora, mi sono giunte delle segnalazioni da parte dei residenti della zona di San Lorenzo, i quali vorrebbero delle delucidazioni sui ritardi del completamento della pista ciclabile di Via Veneto. Quindi come mai ancora non è stata finita e come mai c'è questo ritardo? Tutto qua. Mi si sente? Mi sentite? Sì. Salve, intanto buongiorno a tutti. Chiaramente questi tre mesi di ritardi sono abbastanza chiari, nel senso che rimettere in attivo tutti i cantieri che dovevano iniziare non è stato semplicissimo. A partire quindi anche dal Via Veneto, eravamo già pronti, come vi ricordate, la pista ciclabile è divisa in due lotti, la parte che va dalla scuola fino alla statale e la parte che va dal sottopasso fino al confine di Coriano. Divisa in due parti, le ditte hanno già firmato il contratto. Io credo che stamattina è venuta una ditta per concordare l'inizio lavori, perché chiaramente con l'emergenza ci sono, come in qualsiasi cantieri, da mettere in campo diverse modalità di normative, insomma di responsabilità e di regole da mettere in campo sui cantieri, così anche per la pista ciclabile. Quindi si conta di partire il 99% la prossima settimana. Io ora mi confronto, mi stanno dicendo che sia la prossima settimana, mi confronto con gli uffici per dare comunque la data certa e usciremo comunque con la data 5. Grazie, Assessore. Il problema dei cantieri, di molti cantieri, è che molte ditte, vincitori dell'appalto, vengono da fuori e quindi non è stato facile organizzare il tutto. Quindi siamo praticamente in addirittura di arrivo per quanto riguarda la partenza del cantiere. Grazie, Assessore. Consigliere? Sì, capisco l'emergenza che ha comunque bloccato tutto. Una cosa che non ho capito è, quindi è mutata la ditta appaltatrice? È sempre la stessa? Sì, è esattamente, rispondo io giusto per vicinanza. È esattamente la stessa ditta, anzi sono due distinte ditte, uno per il troncone nord che va a Coriano, uno per il troncone che viene in città e necessariamente dovevano riprendere con i loro protocolli gli adeguamenti al Covid e quindi i ritardi sono abbastanza naturali. Non avremmo voluto, anche perché tutte le cifre, come sapete bene, sono coperte, comprensive anche di 245 mila euro di contributo da parte della regione. Quindi noi siamo contenti di poter iniziare il prima possibile, ma inevitabilmente i ritardi ci sono stati. Grazie. La prossima question time è del consigliere Imola. Prego consigliere, tre minuti. Grazie Presidente, mi rivolgo sempre all'assessore Ermeti. Io faccio riferimento al piano dell'asfaltatura, in quanto ho dato un'occhiata ai comuni limitrofi che sono ripartiti col piano dopo circa un mese e mezzo, diciamo 8 ottobre all'inizio del lockdown, 23 aprile mi sembra ripartenza degli altri comuni. Volevo capire noi come eravamo messi con le tempistiche, in particolare con il programma relativo ai 70 interventi che erano stati pianificati a inizio gennaio per il 2020 con le spese straordinarie previste. In particolare, l'assessore mi preme sottolineare e richiedere dell'uscitazione in merito a Viale Trebbio, per il quale feci interrogazioni negli anni scorsi e per il quale parlamo negli uffici dei lavori pubblici, anche in sua presenza ed è uno dei viali più compromessi della città, per intenderci, è quello al villaggio argentino ai confini con Misano. Grazie. Interesse quello di Misano. Intanto non ripeto la cosa che ho detto prima all'assessore Carbonari, quindi a tutte le problematiche dei cantieri, in ogni caso volevo ricordare che prima dell'emergenza erano già stati fatti tutti i viali a mare, quelli che erano previsti. Volevo ricordare che intanto hanno finito, appena siamo potuti ripartire con i lavori pubblici, siamo ripartiti con tutta via Milano. Ora ripartiremo, la prossima settimana inizierà Piazza dell'Unità d'Italia e quindi proseguiremo, adesso io non ti so dire il crono programma, ma siamo assolutamente ripartiti. è chiaro che questo ritardo di tre mesi ci porta dietro diverse situazioni e come bene lei sa, riuscire ad ascoltare strade durante il periodo estivo, magari vedremo di spostarci nella parte monte che stiamo riorganizzando il tutto perché questi ritardi non sono semplici da gestire, ma siamo assolutamente ripartiti. Quindi la prossima settimana comincerà a vedere anche i lavori di aspettatura di tutta Piazza dell'Unità in Paese. Grazie. Grazie Assessore. Consigliere, prego. Sì, chiaramente io richiedevo via le trebbio, lei mi ha detto che al momento memoria chiaramente non se lo ricorda, eseguirò probabilmente un accesso agli atti per richiedere il crono programma aggiornato a seguito del mese e mezzo di stop legato al lockdown. Grazie. Grazie consigliere. La prossima question time è del consigliere Gambetti. Prego consigliere, tre minuti. Buon pomeriggio a tutti. Chiedevo all'assessore Ermenti se è possibile questo. Passando, passeggiando da quando è possibile per piazzare Roma, incontro gli addetti della ditta per la pulizia delle bolle. Allora, per tali addetti con il camion della ditta acceso durante tutto il giorno, mattina e pomeriggio, con l'acqua che viene, la sostanza che viene erogata, chiedo, se è possibile, se è possibile, quando il costo economico di questa operazione, almeno fino adesso, e se è stato valutato il costo in termini di inquinamento ambientale, inteso in termini di inquinamento acustico, tutti i mezzi che rimangono accesi, inquinamento atmosferico, perché il camion a gasolio accesi in piazzale a Roma per quelle 8-10 ore al giorno non sono proprio aria di montagna, e il costo in termini di consumo di materiali e di acqua. Grazie. Rispondo io, consigliere Gambetti, perché non è una pratica dei lavori pubblici, ma è una pratica del turismo, comunque poco importa, in ragione del fatto che il comune è uno. Puntualità nei numeri, così come mi chiede, non lo ricordo assolutamente, comunque mi impegno a farle avere assolutamente il conteggio del conto economico. La questione ambientale è stata esaminata nel momento in cui abbiamo scelto il materiale prima e calibrato anche la società che procedeva successivamente all'eliminazione delle bolle, perché tutti i materiali che sono utilizzati sono assolutamente non inquinanti. La questione del camion, in alcune zone nelle quali non è possibile accedere con una presa diretta per poter attivare la idropulitrice, ma questo succede ovunque, qualsiasi cosa si vada a pulire, così quando puliamo la cartellonistica, piuttosto che le panchine, piuttosto che i bidoni anche nei parchi, se non hai una presa diretta, la idropulitrice viene attivata con il motore del camion, sempre, anche quando siamo nei parchi, a pulire le panchine, perché l'idropulitrice così funziona. Grazie, Sindaco. Consigliere Gambetti? Beh, allora, innanzitutto, non è proprio la stessa cosa a pulire delle panchine da pulire delle bolle che c'avano qui. Il problema, quindi non stiamo parlando di qualche minuto o qualche ora, stiamo parlando di 8-10 ore per 10 giorni alla settimana. Il conto economico, quindi quando riesco a saperlo, grazie. Entro la prossima settimana cerco di farglielo avere, consigliere. Grazie. Ricordo che, così non volevo l'assegno. Signi, ricordalo però. Sì, lo ricordo per tutti i consiglieri che non è, chi non si attiva la telecamera purtroppo dobbiamo assegnarlo non presente, assente sostanzialmente. La prossima question time è del consigliere Andruccioli. Prego consigliere, tre minuti. Sta bene, frisotti. Buon pomeriggio a tutti. Sì, la mia domanda è per l'assessore Ermetti. Volevo chiedere, in riferimento a Via Sardegna, che avevo già posto l'attenzione dell'amministrazione a fine anno scorso, quando è previsto l'intervento? Perché dopo la segnalazione è stato posto un cartello strada deformata, mi riferisco alla parte finale, quella con i cipressi che dividono le due carezzate. Però, visto che arriva la bella stagione, anche le persone vanno in bicicletta e lì è veramente pericoloso. Penso che il cartello chiaramente sia necessario anche per la copertura assicurativa del comune, però vorrei evitare che dovessimo assistere a incidenti, insomma, gravi. Quindi chiedo quando è previsto l'intervento di asfaltatura per quel pezzo di strada. Grazie. Sono costretta a ripetermi sul fatto che questo periodo di stop ha creato degli slittamenti e chiaramente ha spostato alcuni lavori in avanti e quindi ricontrolleremo il cronoprogramma e appena avrò le certezze sulle date mi riconfronterò con lei. Grazie. Consigliere? Io la ringrazio Assessore Sì, mi sentite? Sì, io la ringrazio Assessore no, la cosa era perché al tempo quando avevo controllato fine anno la strada non mi pare fosse inserita all'interno degli interventi urgenti. È inserita consigliere Andruzzoli. Perfetto, se è inserita aspettiamo allora che i lavori possano riprendere. Perfetto, se è inserita aspettiamo che possano riprendere i lavori urgentemente in quella zona. Grazie. Grazie consigliere Andruzzoli. La prossima questione è consigliere Gordi. Prego consigliere tre minuti. Sì, una domanda molto più pragmatica e semplice. Volevo chiedere in merito alla gestione della manutenzione del verde se era previsto un piano di potatura delle alberature in quanto ho ricevuto diverse segnalazioni soprattutto nel quartiere Fontanelle e nello specifico così le faccio anche la domanda assessore se mi risponde per via Sicilia e limitrofe e per via Puglia e limitrofe e in generale un po' nelle varie parti della città comunque. consigliere Gordi le rispondo io il piano delle potature avendo passato i tre mesi nei quali sono possibili e realizzabili deve essere necessariamente slittato oltre la stagione perché oggi le piante sono in fioritura quindi non possono assolutamente essere potate si possono potare prima della primavera quindi andremo anche a ricalibrare per l'autunno logicamente quelli che erano i viali già previsti nella primavera perché abbiamo necessariamente dovuto stoppare tutto velocemente voglio ricordare che anche tutti i dipendenti di Geat sono stati in cassa integrazione e Geat come tutte le società è andata in lockdown quindi riprogrammeremo quello che è l'autunno in termini di potatura lo vedremo se mai insieme prendiamo nota di via Sicilia ma in realtà è ben nota via Sicilia e via Puglia grazie grazie consigliere Gobi va bene ringrazio il sindaco che ha preso nota di questa cosa e anche del fatto che eventualmente lo possiamo anche se ci sono delle emergenze guardare insieme dopo l'estate in autunno quindi consigliere Conti scusi consigliere Conti prego la sua prossima question time grazie grazie presidente sono dovuto uscire e rientrare perché è molto instabile la la connessione si blocca anche si blocca spesso mi sentite vero adesso perfetto io vorrei chiedere sempre alla sindaca quale vantaggio ritiene abbia portato ai rizzonesi a Riccione la battaglia e la susseguente polemica per la riapertura delle spiagge prima del 18 con l'annunciato ricorso al TAR poi non fatto ma sostituito con tutt'altra azione ben diversa grazie approfitto per raccontare un attimo le vicende che hanno preceduto quella diciamo scelta veramente senza essere supportata ad alcuna motivazione né medica né epidemiologica tutte le decisioni che sono state prese sulla provincia di Rimini direttamente e indirettamente dalla regione perché io vorrei ricordarvi che il primo decreto che ha determinato la creazione della zona rossa sulla provincia di Rimini vede nello stessa ordinanza di Bonaccini l'indicazione precisa e puntuale che è stata richiesta dai sei comuni zona sud perché avevano in quel momento una situazione di gravità e di emergenza sanitaria molto alta dicevo per l'appunto che comunque queste tutte e tre le ordinanze Bonaccini che hanno costituito e protratto la zona rossa erano supportate da una ricerca e da una documentazione e da una lettera dell'Asl che faceva presente lo stato dell'arte in quel momento di fatto e che esprimeva un proprio desiderata medico ed emergenziale nei confronti della politica l'ultima quella strana e inconsueta in cui invece improvvisamente un giovedì pomeriggio siamo stati convocati dall'assessore regionale Corsini per vedere che cosa pensavamo della chiusura delle spiagge non ha visto e non ha neanche ottenuto dietro a mia richiesta alcuna motivazione medica neppure epidemiologica e neppure statistica ma è stata semplicemente una scelta politica in ragione del fatto che l'autorità sanitaria sono i sindaci e non sono invece i presidenti delle regioni io ho ritenuto fare presente la contrarietà del comune di Riccione alla chiusura delle spiagge non solo per un motivo per l'appunto di libertà e non supportato da alcun'altra motivazione contraria ma anche per un problema è un motivo di immagine perché una città turistica balneare che vede chiusa la sua unica grande risorsa e il suo vero petrolio nel momento della promozione crea un danno di immagine oltremodo non recuperabile e lo vediamo in questi giorni nei quali come avete visto questa mattina la regione cerca di correre e di anticipare i tempi proprio perché oggi si sono accorti che senza il tempo utile per la presentazione della promozione della comunicazione non ci sono turisti nonostante si proceda all'apertura di tutte le attività e anche della spiaggia relativamente al ricorso tar piuttosto che non non rispondo di ciò che scrive la stampa perché processi su cose che non mi riguardano logicamente non ne voglio neanche parlare io ho sempre parlato di ricorso to cur perché poi normalmente facciamo una riunione in sede dirigenziale con il segretario e con l'avvocato del comune per andare a qualificare che tipo di attività di difesa delle nostre scelte portare avanti e la scelta del ricorso amministrativo in autotutela al presidente della regione era il ricorso più giusto corretto e consono soprattutto facendo presente al presidente che probabilmente aveva dimenticato le motivazioni mediche inesistenti e che quindi poteva porre rimedio a questa mancanza e a questo tra virgoletto errore procedendo in autotutela alla cancellazione di questo inutile divieto la data nella quale comunque c'eravamo dati con il ricorso amministrativo al quale in me non ho ancora avuto risposta dalla regione è oltremodo sfumato perché la regione ha aperto le passeggiate al mare il 18 e ha aperto a venerdì l'intero uso della spiaggia anche per motivi turistici e di attività grazie sindaco consigliere prego due minuti sì grazie presidente io ho fatto un'altra domanda io ho chiesto quale vantaggio ritiene abbia portato lei mi ha detto che non erano non dinanza fondata e ho visto che anche fra l'altro altri sindaci non sono stati d'accordo ma non hanno usato quel metodo assolutamente polemico e che ritengo non possa portare a nulla visto che il risultato non è stato minimamente ottenuto fra l'altro se il sindaco è il responsabile della sicurezza e della sanità a quel punto se era così sicura poteva emettere a lei un'ordinanza differente se era supportata come ha fra l'altro annunciato e poi non fatto per quello che riguarda la stampa probabilmente bisognerà rivedere i comunicati perché se la stampa scrive ricorso al tar e lei dichiara ricorso al tar poi se pensa di aver dichiarato qualcos'altro sarà forse da rivedere il modo in cui si comunica con la stampa ha parlato di danno d'immagine quindi presumo a questo punto che si richiederà un risarcimento per il danno d'immagine che sarebbe forse se fosse fondato e vero quanto dice l'unico atto che si potrebbe veramente fare io sinceramente ho i miei dubbi che se fosse aperto un po' prima oggi saremmo pieni di turisti perché fra l'altro la possibilità di muoversi nelle regioni è stata successiva la possibilità di muoversi fra regioni ancora non c'è e quindi io ho visto una grande speculazione su questo ma non ho visto assolutamente nulla di buono per la nostra città quindi se magari invece che fare una polemica semi personale con gli organi ci fossimo adoperati per fare qualcosa di più concreto io ritengo che sarebbe stato molto molto meglio questa è una mia opinione ma mi sembra di rispecchiare sentendo gli umori l'idea di moltissimi cittadini grazie consigliere ho bisogno di farle due precisazioni solo due perché sono molto tecniche forse lei non ha diciamo non ricorda così mettiamo meglio il Dficiem di Conte che permette alle regioni e anche ai comuni di essere solo più restrittivi non più permissivi ok in un primo momento addirittura alla prima ordinanza che fu emessa dalla regione anche la ristrettezza doveva essere avvallata dal governo infatti la prima ordinanza venne avvallata dal ministro Speranza a fianco alla firma del governatore Bonacini quindi ciò che lei dice circa il fatto che io avrei potuto concedere la passeggiata non era prevista dal DPCM altrimenti non avrei fatto nessuna questione e avrei provveduto direttamente nella moltitudine di ordinanze che anche il sindaco ha fatto in questo periodo ma non era nei miei poteri l'interesse grande forse che lei è sfuggito che ho cercato di tutelare fino in fondo è l'interesse e il diritto alla libertà che non mi pare poca cosa soprattutto quando la ristrettezza come le dicevo poc'anzi non è motivata da un supporto medico di emergenza o organizzativo emergenziale come era stata le precedenti tre volte grazie alle lettere di Tonini a questo punto scusate solo una cosa però mi perdoni presidente volevo un secondo le faccio replicare stavo dicendo questo grazie mille grazie mille se mi faceva posso? vedo i segni io lo ricordo benissimo che le ordinanze potevano essere solo più restrittive venivo solo dietro alle sue dichiarazioni quando disse che a Riccione il 4 avremmo aperto comunque le spiagge e quello era l'unico strumento e quindi era un'altra cosa che probabilmente i giornali hanno riportato in modo sbagliato ma io ne ero perfettamente a conoscenza e ne erano a conoscenza più o meno tutti però ripeto magari pensarci prima di dire le cose sarebbe più opportuno vista la sua posizione lei è il sindaco non è una persona qualunque che può dire quello che vuole questo è semplicemente la questione io le ho riportato quanto lei ha sostenuto tutto qui grazie consigliere grazie presidente la prossima consiglio del bianco lei è sento o è presente presente presidente ma deve tenere accesa la telecamera è accesa perché altrimenti io non ho difficoltà incredibile la devo tenere da sete se non la vedo io la vedo gli altri tutti con la telecamera spenta può essere ma no io li vedo sono tutti accesi noi vediamo li vediamo tutti accesi allora chiedo allora chiedo venia comunque ho aspettato tutto il dibattito tutto il dibattito la sua question time prego consigliere ma io allora volevo andare invece proprio su una questione che diversi cittadini mi chiedono intanto volevo sapere se l'amministrazione aveva o sondato o aveva un ordine di idee o ha fatto una verifica campione relativamente a quante probabilmente attività commerciali non apriranno nella stagione 2020 se sì i settori chi chiaramente ha sofferto di più questa situazione probabilmente deciderà di non aprire quindi se c'è una fotografia dei vari settori tra ricettivo commerciale eccetera è molto importante e se è già stata fatta una stima proprio in funzione di questo aspetto di impatto sul bilancio comunale grazie consigliere del bianco le rispondo io allora dagli uffici dal settore delle attività produttive al momento abbiamo solo una attività alberghiera che ha già comunicato la non apertura non ci sono altre attività di nessun altro genere che hanno appunto dichiarato di di chiudere o comunque di non aprire la situazione credo si potrà comprendere capire solo da oggi perché in realtà da oggi che è nota la data di apertura di quella che come dicevo prima è la nostra grande risorsa e quindi la spiaggia perché vorrei ricordarvi che noi siamo una località turistica balneare e quindi occorrerà comprendere da adesso fino al primi di giugno che dovrebbero essere confermate le date di apertura delle regioni e a seguire anche delle frontiere italiane per comprendere e capire quali sono le attività che effettivamente apriranno per quanto riguarda la questione del bilancio abbiamo fatto scelte ben precise già da ora che avrete sicuramente letto sulla stampa circa alcuni aiuti e quindi rinunce di tassazione da parte del comune circa ad esempio la COSAP dove abbiamo rinunciato a tutto l'introito anche di quella che è l'attuale occupazione suolo pubblico pubblici esercizi degli artigiani e del commercio per quanto riguarda le altre imposte comunali le scadenze sono state nell'immediata dichiarazione dell'emergenza spostate il più in là possibile la prima scadenza diciamo utile ai fini dell'Atari è il 17 di agosto e questa è stata una scelta non solo e finalizzata a dare respiro diciamo per quanto riguarda il pagamento ma anche soprattutto finalizzata a potervi incidere positivamente a favore dell'utenza in ragione del fatto che confidiamo che con il decreto rilancio rivisto perché come sapete perfettamente il decreto oggi non prevede grandi spazi per i comuni e neppure la previsione di una ristoro dei danni per la zona rossa di Rimini possiamo nel momento degli equilibri di luglio riconsiderare le entrate e conseguentemente le spese al fine più che andare semplicemente e giustamente a ricalibrare tutto quello che è il nostro bilancio l'intenzione politica è quella di comprendere che spazi e che manovre possiamo compiere per andare incontro ai nostri cittadini rinunciando a tutto quello che è possibile rinunciare a di fuori di quelli che sono i servizi primari all'infanzia e alle fragilità grazie sindaco prego consigliere quindi sindaco non è stata fatta al momento una stima rispetto a quello che potrebbe essere lo sbilancio delle voci principali di introito diciamo state ancora valutando insomma non avete un'idea indicativamente rispetto alle cifre poi capisco perfettamente che il decreto non preveda il sostentamento economico come invece prevede per altre province italiane e su questo mi sembra anche abbastanza assurdo però soprattutto per noi che viviamo solo di turismo però quindi mi conferma che non è stata fatta neanche una quantificazione diciamo con ampi margini di revisione di questo noi abbiamo sott'occhio tutti i giorni il bilancio però la revisione è un conto quella che facciamo quotidianamente per tenere logicamente monitorato la situazione è un conto quella che verrà fatta in maniera ufficiale quello che le dicevo grazie consigliere no no ringraziavo perfetto l'ultima domanda d'attualità è del consigliere Carbonari prego consigliere no volevo intanto dire una cosa al consigliere testa che col microfono mi era successa la stessa cosa perché mi collegavo da un notebook e hanno dei blocchi il microfono per le applicazioni di google io ho risolto collegandomi dal tablet forse lei potrebbe magari collegarsi dal telefono se ha un tablet adesso io non so ecco chiuso nel senso siccome ho dovuto affrontare lo stesso problema magari se le posso essere utile dunque invece per quanto riguarda la question è sempre un'altra pista ciclabile in questo caso quella dietro al cimitero vecchio e quindi penso che la domanda andrà rivolta ad assessore Ernetti volevo sapere quali attività ed azioni sono state assunte ad oggi per porre rimedio alla situazione grave a mio parere di sicurezza che si è manifestata lungo la pista ciclabile del vecchio cimitero a seguito del movimento franoso della sponda destra la situazione credo che l'amministrazione la conosca bene anche se in questi ultimi due anni si è limitata a delimitare sommariamente la zona con segnali di pericolo in New Jersey in plastica la situazione di pericolo è anche aggravata dal fatto che la ciclabile è molto frequentata essendo una via di collegamento tra determinati quartieri della zona centrale e inoltre la zona di pericolo si trova ridosso del parco giochi sempre pieno di famiglie e bambini quindi si chiede quanto circa si dovrà aspettare per riportare la zona in sicurezza e ciò anche è ragione del fatto che se la frana dovesse ulteriormente aggravarsi si potrebbe creare una situazione pericolosa del flusso regolare del fiume grazie prego vai vai intanto volevo dire grazie così ne approfitto anche per ricordare che c'è già un progetto abbiamo già elaborato il progetto per questa frana che scende e crea delle pericolosità giustamente come ha detto lei adesso abbiamo chiuso il cantiere che cercheremo di sistemare ancora in modo più decoroso abbiamo l'abbiamo guardato proprio la settimana scorsa in modo tale da vedere di poro rimedio il prima possibile quindi il progetto c'è già riguardo una qualificata quindi è un lavoro di ingegneria che ci permetterà chiaramente di mettere in sicurezza una pista ciclabile che come dice lei è molto frequentata che permette che permette di mettere in comunicazione come in questi giorni per fortuna molte persone girano in bicicletta già dal parco della resistenza fino al parco degli olivitani fino al porto quindi sicuramente è una delle grosse priorità grazie grazie assessore prego consigliere no per adesso sono soddisfatta quindi nessuna retta grazie benissimo essendo usoriti consiglieri le question time e quindi preliminari di consiglio passiamo al terzo punto all'ordine del giorno non lo trovo terzo punto all'ordine del giorno che modifica statuto GIA proponente l'assessore Luigi Santi prego assessore dieci minuti buongiorno a tutti allora con questa delibera portiamo all'attenzione del consiglio comunale la richiesta di liquidazione delle quote in GIA da parte dei comuni di Coriano di San Clemente di San Giovanni e la provincia di Rimini il coordinamento soci di GIA si è già riunito e ha espresso parere favorevole e noi come consiglio comunale siamo chiamati in quanto socio di maggioranza di ampia maggioranza di GIA a dare il nostro assenso la liquidazione avverrà attraverso la diminuzione la riduzione del capitale sociale in minima parte attraverso l'utilizzo della riserva straordinaria e lodiamo anche questa procedura da parte di GIA perché dà la possibilità secondo l'attuale normativa quindi dalla legge Madiem poi alle società agli enti scusate ai comuni che vogliono dismettere le quote delle partecipate di GIA ha dato questa possibilità noi siamo fermi invece bloccati e questa è una nota che il consiglio deve sapere siamo fermi nelle nostre richieste nei confronti di PMR Start ed Amir le cui quote ammontano a circa un milione di euro complessive quote che il comune potrebbe recuperare e poi investire e anche durante l'ultima assemblea avvenuta qualche giorno fa in cui eravamo presenti io e il sindaco PMR ha rigettato la nostra richiesta accampando alcuni alcuni motivi secondo noi alquanto discutibili quindi per quanto riguarda ad esempio Amir questo ente ha richiesto fin dal 2016 di uscire quindi di vedere liquidata la propria partecipazione ma ancora niente quindi bene ha fatto GEAT bene sta facendo GEAT a procedere in questo modo e l'attuale normativa prevede che gli enti che vogliono uscire lo debbano fare possono restare nelle partecipate fino alla fine del 2021 possono in caso di bilanci positivi i bilanci in attivo ma possono anche decidere di alienare le quote delle partecipate quindi come è stato fatto da Corriano San Clemente San Giovanni dalla provincia di Rimini così deve essere fatto anche nei confronti degli altri comuni come quello di Riccione quindi bene ha fatto GEAT chiediamo un voto favorevole la nostra quota in GEAT dal punto di vista del capitale sociale aumenta di poco quindi siamo sul 99% e lo diamo anche il fatto che la società abbia un bilancio sano abbia una riserva importante che quindi sia nelle condizioni comunque di affrontare anche vicende come queste che sono legittime per legge e ci auguriamo quindi che anche altre società possano seguire lo stesso virtuoso esempio grazie grazie assessore dunque ora iniziamo la possibilità dei consiglieri comunali di intervenire su questa pratica chi vuole si può prenotare nella casella dei messaggi in alto e lassù allora vediamo subito qui abbiamo intervengo io consigliere Maiolino prego è l'intervento principale mi sente consigliere Maiolino arrivo ecco mi sentite prego è l'intervento principale si è l'intervento principale grazie presidente buon pomeriggio a tutti con la delibera di quest'oggi andiamo ad approvare la modifica portata allo statuto di GEAT SRL relativa al capitale sociale riducendolo così in proporzione agli enti sociali che hanno richiesto di smettere le loro quote nel novembre infatti nel novembre del 2018 il coordinamento dei soci ha votato la liquidazione delle quote societarie di quattro soci che hanno fatto richiesta ovvero il comune di Coriano di San Clemente di San Giovanni Marinano e della provincia di Rimini senza soffermarmi diciamo sui dati numerici di questa liquidazione che sono già stati rappresentati dall'assessore e dall'assessore Santi vorrei soffermarmi e sottolineare alcuni passaggi di carattere politico in parte già accennati dall'assessore stesso questa delibera oltre ad evidenziare la solidità ed efficienza della GEAT società che è perfettamente in grado anche di rispondere compiutamente alle richieste di liquidazione delle quote dei soci mette in rilievo soprattutto la disponibilità e l'atteggiamento di questo comune a non opporsi alle richieste di liquidazione degli enti dei soci purtroppo questa stessa disponibilità come a poc'anzi ha accennato l'assessore non è stata riconosciuta nei confronti del nostro comune rispetto alle rispettive richieste di dismissione di liquidate presentate in AMIR PMR e START ad oggi infatti nonostante la nostra rinnovata richiesta di liquidazione ad AMIR che è datata ben 22 marzo 2016 quindi oltre 4 anni fa e le successive richieste di liquidazione inviati da PMR e START datate 2017 il comune di Riccione ad oggi non ha ancora ottenuto un centesimo e molto probabilmente visto l'ostruzionismo ricevuto prima del 31-12-2021 termine ultimo che la legge di bilancio ha stabilito e riconosciuto agli enti di potersi adeguare alla legge Madia sulla dismissione delle quote non vendrà nessuna cifra e forse lo stesso comune sarà addirittura costretta a far causa per ottenere il suo legittimo diritto purtroppo aggiungerei la liquidazione di queste quote richieste da tempo avrebbe potuto portare nelle casse del nostro comune oltre un milione di euro che avremmo potuto destinare i nomi repubbliche risorse e linfa vitale soprattutto in un momento storico come questo in cui a causa di questa tragica pandemia tutti i comuni si trovano in enorme difficoltà a causa delle numerose spese delle entrate incerte e insufficienti e soprattutto a causa della totale inconsistenza degli aiuti da parte dello Stato ad ogni modo confidiamo di poter ottenere quanto prima questa liquidazione e queste somme ad oggi però vogliamo augurarci che soprattutto la provincia di Rimini faccia davvero buon uso di questi importi investendoli nell'entroterra così bisogno di interventi trascurato per troppi anni e non utilizzi queste somme per aumentare i costi della politica che purtroppo per noi nel nostro paese sono già tra i più alti d'Europa vi ringrazio e poi con l'occasione esprimo anche la dichiarazione di voto che in questo caso ovviamente non può che essere favorevole grazie grazie consigliere testa c'è qualche altro consigliere maioino scusate grazie consigliere maioino c'è qualche altro consigliere che intende intervenire non essendoci altri interventi non essendoci altri interventi consigliere Conti vuole intervenire lei micro se riesco attivare mi sentite scusate ma come apro la chat mi si blocca tutto siamo controllerati prego sì io guardate io condivido anche il tempismo nel quale vengono liquidate queste queste partecipazioni e capisco anche la rapidità nel farlo che poi è una rapidità fino a un certo punto perché ci hanno chiesto di essere dismessi nel 2017 uno nel 2018 gli altri quindi il più vicino è a due anni di distanza però condivido e non capisco bene l'operazione di chi esce ma condivido il momento perché per il comune di Riccione è è un momento interessante perché se lo facessimo poi più avanti in Giat in questo momento ci sono in pancia anche 3 milioni e mezzo di euro di azioni della vendita dell'azioniera e probabilmente con i residui e tutto dovremmo pagare anche anche di più quindi io annuncio il voto che faccio prima così risparmiamo anche il tempo che sarà di astensione è assolutamente non non contrario capisco la rapidità tra virgolette rapidità perché comunque ripeto è stato chiesto il primo 3 anni fa però capisco il momento in cui vengono fatte e lo trovo vantaggioso per il comune grazie grazie consigliere consigliere Vesco vi prego l'entramento principale sì grazie presidente ma in realtà mi ha mi ha anticipato conti quindi non devo aggiungere molto altro ci tenevo visto che sia il sindaco che il consigliere Maiolino hanno sottolineato questa l'assessore Santi scusate che il consigliere Maiolino hanno sottolineato questo atteggiamento a detta loro maggiormente corretto nei confronti dei soci di poterli far uscire che la prima richiesta vi è arrivata nel 2017 e che non c'era un momento migliore di questo in termini di convenienza economica per il comune di Riccione per accettare l'uscita di questi soci non a caso è stato fatto il coordinamento soci poche settimane prima se non addirittura giorni della decisione del consiglio comunale di Riccione di dismettere la quota detenuta da Geat delle azioni ERA che a questo punto vanno in riserva straordinaria e che se la possibilità per i soci che escono fosse stata data dopo l'approvazione del bilancio 2019 avrebbe visto il comune di Riccione dover pagare di più il valore della quota ai soci che escono quindi da un punto di vista della gestione economica del bilancio l'azione assolutamente corretta da un punto di vista però della correttezza istituzionale se fosse stati ditti non avremmo fatto questo intervento visto che sottolineate anche una presunta da parte vostra maggiore correttezza istituzionale vi dobbiamo ricordare che probabilmente invece è pura convenienza quindi solo questo grazie consigliere consigliere Gobi prego sì grazie presidente ma in realtà non volevo intervenire perché fondamentalmente anch'io ritengo che da un punto di vista della tempistica economica sia favorevole all'ente però francamente trovo fastidioso il fatto che voi volete sempre mettere in evidenza cose che non sono vere come il comune è istituzionalmente corretto a volte la provincia invece lasciate quel dubbio quel sottodetto quel non detto e francamente questa cosa non mi sta bene non mi sta bene perché quando è ora di fare sistema noi come provincia ci siamo sempre vi devo ricordare che non più di una settimana fa abbiamo stanziato 4,1 milioni di fondi per le scuole per l'edilizia scolastica tra cui la Catullo quindi non dimenticamoci di queste cose l'importanza di fare sistema bisogna smetterla di fare i fenomeni che ognuno va per conto suo perché quando si fa sistema i risultati si raggiungono quindi per favore dovete essere pacati e onesti intellettualmente quando fate certe affermazioni voglio ricordarvi ancora che non più di qualche mese fa abbiamo messo sempre come provincia dei fondi a sostegno della disabilità che come prima giustamente il sindaco ha detto è una cosa primaria un valore primario anche per il comune di Lizzone che non verranno tolti i fondi per cui per favore cerchiamo di dire le cose e rappresentarle in maniera vera grazie grazie consigliere Gobbi posso dire una cosa? no no c'è qualche altro consigliere che vuole intervenire? no allora Poulet se si prenota non alzando la mano ma scrivendo sul testo la ringrazio consigliere Poulet stavo cercando di capire dove era però nella chat si consigliere Poulet in alto la su manda il messaggero grazie prego è l'intervento principale consigliere è l'intervento principale prego semplicemente in realtà è una puntualizzazione perché sembra non bello sentire la frase che ha detto il consigliere Gobbi in questo momento ma fare sistema non è questione di fare sistema noi della provincia abbiamo dato soldi per le scuole voi della provincia o meglio la provincia perché non siete i proprietari della provincia la provincia sta dando dei fondi che ha e che vengono dallo Stato e dai cittadini quindi non è che voi regalate qualcosa a qualcuno i fondi per le scuole è giusto che la provincia li dia li deve dare punto non ho capito perché si dà della definizione di inveritiera a quello che dice la Maiolino sinceramente non lo trovo molto bello tutto qua non volevo dire nient'altro grazie consigliere Poulet ci sono altri interventi dei consiglieri comunali non essendoci altri interventi l'assessore vuole intervenire non mi sembra sindaco penso che voglio intervenire perché aprivo il microfono prego sindaco sì io voglio intervenire perché allora come sempre insomma anche una pratica che dovrebbe essere routine scatena una serie di necessarie precisazioni noi abbiamo ricevuto richiesta dai comuni che oggi aiutiamo e accompagniamo fuori da GEAT perché hanno fatto una scelta di razionalizzazione delle loro partecipazioni nel 2017 ma concordemente con loro perché vorrei ricordarvi che GEAT ha un coordinamento dei soci nei quali partecipano tutti i soci anche più piccoli e nei quali si vota non per capacità di partecipazione al capitale sociale ma per teste nel perché l'interesse della GEAT è un interesse di servizio pubblico e quindi deve poter rispondere a tutti i propri soci nel coordinamento dei soci per l'appunto vi ricordo che anche se chiesti nel 2017 tutti hanno concordato la modalità e la tempistica per poter arrivare ad avere la necessaria provvista per la liquidazione della quota perché la decisione di poterli fare uscire era stata immediatamente da parte di tutti accolta ma come tutte le società si deve andare a creare la provvista per liquidarla quindi una tempistica nota certa e accettata ciò che è stato detto dal consigliere Maiolino invece non avviene stranamente in tutte le altre società dove il comune di Riccione è socio e dalle quali proprio per obbligo di legge ha già espresso in consiglio comunale con la razionalizzazione delle partecipate e con le comunicazioni fatte espressamente e vi ricordo Amir una società che per noi è un doppione rispetto a SIS Start una società nella quale facciamo trasporto e non dobbiamo fare trasporto perché i comuni non devono essere soci di società commerciali e PMR perché è una società inutile in quanto stranamente solo nella provincia di Rimini esiste una società che regola il trasporto e una società che è proprietaria dell'asset quindi di tutte le palline del trasporto provinciale e anche del TRC come dicevo stranamente in tutte queste tre società è stato detto un chiaro no alla nostra uscita dalla società invocando in maniera impropria l'interpretazione di una norma statale che dice che è possibile ma non è obbligatorio entro il 2021 liquidare le quote dei comuni noi abbiamo addirittura anche a seguito del loro no fatto atto di precetto e confidiamo di arrivare alla esecuzione sul capitale sociale anche perché vi racconto ma potete andarlo a vedere negli atti che nel momento in cui due anni fa il comune di Rimini non chiudeva il bilancio e ha chiesto la riduzione della propria quota del capitale in Amir immediatamente Amir ha liquidato la quota al comune di Rimini ok altra cosa la questione dei soldi consigliere Gobbi credo che il consigliere Pullè sia stato addirittura edulcorato nel dirle che la provincia ci deve i soldi la provincia consigliere Gobbi che è anche consigliere provinciale lei dovrebbe sapere compiutamente che fa nel caso delle scuole il passacarte noi non abbiamo ottenuto un finanziamento per l'accatullo dalla provincia ma l'abbiamo ottenuto dal Miur quindi fa solo il raccoglitore dei fogli di tutti i comuni delle province e li porta al ministero ma non ci doveva niente la provincia e nulla ci ha dato in ogni caso concordo con l'interpretazione del consigliere Pullè che non siete i proprietari della provincia anche se capisco che in molti casi vi sentite tali in ultimo ma non per ultimo invece vorrei e non l'ho sentito un accorato invito nei confronti della provincia e qui invito il mio consigliere Pellegrino e il consigliere Gobbi a farsi portatore dell'interesse affinché i 50.000 euro che andiamo a liquidargli non finiscano mai nel compenso del presidente ma vengano adeguatamente investiti affinché si possano ad esempio asfaltare diverse strade dell'entroterra che da tempo richiedono un intervento della provincia ma alla quale la provincia ancora non ha provveduto grazie sindaco a questo punto passiamo alle dichiarazioni di voto una per ciascun gruppo di chi non ha già parlato prego consiglieri sentite che a parlare del bianco si sentite sono dichiarazioni di voto non essendoci dichiarazioni di voto pongo in votazione la pratica ora consiglieri passo la parola al segretario comunale per l'appello nominale per la votazione una cosa ci tengo a dire questa pratica ha l'immediata eseguibilità quindi il segretario comunale vi chiederà la doppia votazione senza ripeterla ma chi chiamerà il consigliere Pullet voterà sia per la pratica sia per l'immediata eseguibilità in modo da accelerare un attimino i tempi delle votazioni perché la votazione è ad appello nominare non possiamo mozzare la manina in questo caso non ce lo permette il regolamento quindi prego segretario comunale sì allora seguiremo l'ordine al profetico allora Andruccioli come si esprime a favore o contrario o sostiene per la proposta mi astengo per la proposta assoluto e per l'immediata eseguibilità uguale mi astengo idem perfetto Angelini in suo voto favorevole favorevole e per l'immediata eseguibilità favorevole prova idem prova mi sentite sì Berlina non ce l'ha già fatta ok lo dirà più avanti Berlina favorevole favorevole e per l'immediata eseguibilità favorevole idem Boschetti favorevole in entrambi i casi perfetto per entrambi carbonari astenuto per entrambi ok conti astenuto per entrambi d'accordo del bianco astenuto per entrambi frisotti no microfono no microfono si aspetta che arriva vai sentite sì favorevole e favorevole d'accordo Galassi favorevole e favorevole Gambetti astenuto 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 godi doppia astensione per entrambe maio favorevole per entrambi mussoni favorevole favorevole pellegrino favorevole 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 ragni non si sente da ragni ha un problema di un microfono ragni ragni scusate consiglierci se la si sente anche voi per quello sorridiamo non vogliamo mancare di rispetto a nessuno ma sembra un bambino di due anni dalla voce favorevole 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 allora vi faccio un segno di ok e ho potuto raccontare vi faccio un segno perché non riesco ok ok ricci favorevole 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 testa favorevole favorevole e per l'immigliata esigibilità si favorevole favorevole si favorevole favorevole tonti favorevole entrandi ok tonti favorevole tutti e due bandi non c'è è bandi favorevole tutti e due vescovi astenuta su entrambe d'accordo e basta finito perfetto quindi con sedici voti favorevoli nessun contrario e otto astenuti la pratica è stata dichiarata votata favorevolmente dichiarata immediatamente eseguibile passiamo al prossimo punto l'ordine del giorno eh New Palaricione SRL modifiche istitutarie in attuazione del nuovo testo unico in materia di società partecipazione pubblica proponente l'assessore Luigi Santi prego assessore sì grazie di nuovo presidente e cogliamo l'occasione di questo consiglio per portare anche le modifiche allo statuto del palace New Palaricione in gran parte richieste dalla normativa in parte per rendere ancora più forte e più competitiva la nostra partecipata con queste modifiche secondo noi la New Palaricione avrà ancora più forze più slancio per operare sul mercato e ricordiamo anche eh favorevolmente le gestioni caldari e bergamaschi che hanno portato e che stanno portando nuovi record di presenza e di fatturato con queste modifiche ci sono le condizioni per ripartire ancora con ancora più slancio in un mercato certamente difficile dopo la crisi sanitaria e la crisi economica che abbiamo ma siamo convinti che eh dare nuovo slancio attraverso queste modifiche che ripeto sono richieste eh in parte in gran parte anche dalla normativa eh darà alla New Palaricione un sostegno importante e quindi chiediamo un voto favorevole a questo consiglio per per procedere per procedere in modo ancora più spedito e per poter permettere alla nostra partecipata di vincere le nuove sfide che il mercato riserverà grazie Allora grazie Sessore Santi a questo punto apriamo gli interventi da parte dei consiglieri Chi interviene? Io qui c'ho, va bene C'è qualche consigliere che eh ha piacere di intervenire su questa pratica? Uno, due, tre, sono una Non essendoci interventi Ah consigliere Conti Vedo che si sbrazza, prego consigliere È l'intervento principale consigliere Accenda il microfono Consigliere Conti il microfono Adesso sì Infatti è durissimo fare un consiglio Prego È durissima sì perché è veramente perché come provo a mandare un messaggio si blocca più Ah ma no ma lo diciamo Avete a usare un altro telefono possibilmente No no sono al computer Sono al computer Prego Va bene Grazie presidente Ma sì cos'è il sì sì va bene No penso di ricavarmelo in cinque minuti Lo faccio senza problema E guardi io volevo riconoscere sinceramente che è innegabile il tempismo Nel portare una pratica del genere e tentare di farla passare come un semplice adeguamento alla madia Ed è strategicamente perfetto se non altro perché la disattenzione di tutti i cittadini sono le prese con problematiche Quelle incertezze collegate all'attuale crisi post lockdown e sono altre cose sinceramente impegnate come tutti gli operatori Quelli collegati al turismo Però penso che sia necessario fare un pochino di chiarezza su quello che si profila come un passaggio importante di una strategia per la gestione del paracongressi Con tutti i risvolti di opportunità e anche di potere che ne comporta Io procederei un attimo per gradi per fare un po' la storia E le vicende amministrative sono ormai tutte note ma vale la pena un po' ricapitorarle Perché siamo passati da un'opposizione al Palace come centrale di sperpio di denaro Fino all'autocelebrazione visto che non lo facevano altri per i risultati raggiunti dalla struttura stessa Però il 17 ottobre 2017 l'amministrazione comunale in adempimento di un obbligo di legge Trasmette alla Corte dei Conti gli atti relativi alla new palariccione Che è partecipata al 78,8% 78,84 mi sembra Riconfermando la decisione di dismettere le quote già assunta nel piano del 2015 Poiché la società non sarebbe riconducibile ad alcune delle cotecherie Di cui l'articolo 4 del decreto legge 175 2016 Non perseguendo finalità istituzionali Il termine però per il perfezionamento della procedura di dismissione inizialmente Previsto per l'anno 2017 è stato poi posticipato Al 31 dicembre 2018 E successivamente nel corso del 2019 L'amministrazione comunale invia una missiva ai soci di minoranza Invitandoli ad esercitare il diritto di prelazione Sulla vendita delle quote societari della new palariccione Per poche centinaia di migliaia di euro Nonostante pareri di valorizzazione antecedenti alla gestione Adesso assessore Caldari Individuassero valori aziendali stimabili fra i 3 e 4 milioni di euro Palesando quindi negli atti una volontà di vendita Da lì poi cambiando idea in consiglio comunale aperto del giugno 2019 La sindaca dichiara pubblicamente che l'amministrazione comunale Non ha alcuna intenzione di cedere le quote di partecipazione della new palariccione E nel medesimo anno queste quote Vengono inserite nell'elenco delle partecipazioni da non dismettere In quanto società che opera nel settore di gestione di spazi fieristi Tutto questo però in sfregio a quanto sostenuto nello stesso consiglio comunale Dall'assessore Caldari Che dice di voler rendere appetibile la società Per vedere se qualche privato fosse interessato Cito le sue testuali parole Accompagnare la new palariccione in questa esperienza molto virtuosa E mi auguro non oggi, non domani Tra un mese, tra un anno Quando sarà, si possa innescare quella scintilla di interesse Da parte del privato, affinché si possa comunque avvicinare Affiancare, poi come, quando, perché, lo vedremo Lo decideremo e sarà, come dire, un passaggio che insieme condivideremo Perché il privato non è brutto Io credo che anzi, penso, che questa amministrazione Veda nel privato una grossa opportunità Quindi potremo essere in eccellenza e via discorrendo Oggi invece proponiamo un ordine del giorno In cui modifichiamo lo statuto della new palariccione SRL Ma solo e apparentemente in adempimento al decreto legislativo del 19 agosto 2016 In effetti, fra le modifiche proposte Vi è il riassetto della governance Con l'affidamento della gestione di un amministratore unico Al posto dell'attuale consiglio di amministrazione Al plausibile e anche lodevole, se vogliamo Fine di contenere i costi Anche se poi questo contenimento non ci sarebbe neppure Visto che, fra l'altro, qualche consigliere del Palace Del consiglio di amministrazione, nel maldestro tentativo di non pubblicare i redditi Appoggiato, fra l'altro, dalla sindaca Ha rinunciato anche al gettone A ben vedere, però, al di là di questo Ci sono ulteriori proposte che lasciano perpessi e preoccupano un po' In primo luogo la modifica dell'oggetto sociale Con soppressione dell'incipit Dedicato alla finalità generale di pubblico interesse Insita nella promozione di riccione del prodotto turistico In questo modo, infatti, lo scopo della società viene limitato Al mero sfruttamento commerciale del Palazzo dei Congressi Anche mediante gestione di eventi improprio e conto terzi Attività che, di certo, non può considerarti strettamente necessaria Per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'amministrazione Per la quale, a questo punto, si dovrebbero dismettere le quote Vi è anche qualcos'altro Infatti, nell'ambito dei poteri di attribuire all'Assemblea dei Socii della New Palazzo Si propone di delegare Delegare la decisione della maggioranza dei soci L'insindacabile potere di vendere o affittare l'azienda congressuale Ciò quindi, indipendentemente da ogni decisione del Consiglio Comunale Se tali modifiche fossero approvate, di fatto Si attribuirebbe al Sindaco Il potere di decidere, in beata solitudine Di vendere o affittare l'azienda congressuale Infatti rappresentiamo l'80% delle quote E quindi disponiamo della maggioranza assoluta Con le modifiche proposte Da un lato si determina la necessità di un intervento Per garantire il rispetto della legge Che vieta tra l'altro alle amministrazioni pubbliche Di detenere quote in società meramente commerciali Dall'altro si attribuisce al Sindaco Il potere insindacabile di risolvere il problema Disponendo anche eventualmente La cessione dell'azienda o parte di essa Senza di nonche dover rendere conto della decisione Al Consiglio Comunale All'accettinanza e alla minoranza dei soci Le decisioni prese oggi però Potrebbero incidere molto pesantemente Anche sulle prossime amministrazioni Senza possibilità di recupero Se fossero ad esempio decise cessioni O locazioni con durata superiore al mandato Chiunque arrivi dovrà sopportare Le scelte scelerate di questa amministrazione Vi è la modifica dell'amministratore unico Nominato dal socio di maggioranza Con decisione insindacabile Questo metodo elettivo altro non fa Che non rispettare minimamente La rappresentanza dei soci di miglioranza Della new palariccione Quindi se la volontà che abbiamo È quella di creare una poltrona di grande potere Di gestire la new palariccione Come una società privata Questa è sicuramente la strada Se si vuole invece solo adeguare la madia Questa non è la strada giusta E non è l'intendimento di queste modifiche Quindi non ci resta che augurarci Che queste modifiche non passino Che non trovino accoglimento Semplicemente anche perché In contrasto con i principi di trasparenza E partecipazione democratica Ma soprattutto E ve lo voglio ricordare con un aforismo In quanto più grande potere E più pericoloso è il suo abuso E qui creiamo una posizione di grandissimo potere In cui i soci di minoranza Non conteranno più nulla Grazie mille Grazie consigliere Come no Pullet e poi i vescovi Prego consigliere Pullet Eccomi Mi sentite? Pronto? Se si la sentiamo consigliere Prego Grazie Ma semplicemente Mi lascia perplessa La definizione del consigliere Conti Perché nella sua disquisizione Nella sua lettura Nella sua disquisizione Di quest'oggi pomeriggio Ci dice Che ci sono delle scelte scellerate Proprio definizione che ha riportato Uno strapotere Dei soci di maggioranza E una completa riduzione Della forza dei soci di minoranza Può essere una valutazione Anche interessante Ma dovrebbe andarsi a lamentare Con il governo E con il ministro Madia Che allora fece quella legge O meglio il governo Che volle quella legge Perché come ha ben detto L'assessore Santi Si tratta in grandissima parte Di un adeguamento A quella che è la normativa Della legge Madia Soprattutto in tema Di rappresentanza Di consiglio di amministrazione Ed eventualmente Di amministratore unico Ora È normale Che in una società Partecipata E comunque Che in un consiglio di amministrazione Se si decide Che ci può essere L'amministratore unico Si scelga la strada Si scelga la strada Dell'amministratore unico Ora si vedrà Che cosa si deve fare Ma se quello dice la norma Non possiamo poi dire Siccome il socio Sceglie l'amministratore C'è la dettatura Della maggioranza C'è in realtà Quello che è previsto Da una legge Quindi io sinceramente Non capisco Tutte queste perplessità E trovo anche Poco carino Sempre riferire L'abbiamo già sentito Parecchie volte Quest'oggi pomeriggio Il fatto che noi Sceglieremmo Dei momenti strategici Per portare fuori Pratiche Proprio in questo momento Di fine covid Dove le persone Non sono attente Allora Se non facciamo I consigli comunali Ci dite che non facciamo I consigli comunali Anche per il covid E quindi si sbaglia Se portiamo delle pratiche Durante i consigli comunali Nell'epoca del covid Non le dovremmo portare Perché in questo momento Non bisogna portare Pratiche Reputate importanti In realtà Tutte le pratiche Sono importanti I momenti Vengono a rilievo E quando si hanno Delle decisioni Da prendere Si prendono Io sinceramente Tutte queste Dietrologie Tutti questi Sotterfugi O questi momenti Di letture diverse Non li vedo E non solo Non li vedo Ma non li accetto Neanche Perché significa In qualche modo Andare un pochettino A sminuire Quella che è L'operatività Che noi stiamo Che noi stiamo Facendo Non è corretto Da un punto di vista Umano Oggi cerco Veramente di essere Molto molto tranquillo Perché i momenti Sono ovviamente Difficili per tutti Però Sempre andare Anche vedevo Nelle question time A polemizzare O a ripetere Questo tipo di punti Secondo me Non ha Un grosso fine Ecco Questo è quanto Poi per quanto riguarda E già mi esprimo Quindi con la dichiarazione Di voti La pratica È un sì Convinto Proprio perché Si corregge Tutta questa polemica Avvilità Avvilità Perché io pensavo Di trovare In questo consiglio comunale In ragione Delle gravi Difficoltà Delle gravi Preoccupazioni Che i nostri cittadini Stanno attraversando Un clima Un pochino diverso Io questo lo devo dire Quindi il mio intervento Sarà un pochino Spento Perché Onestamente C'è da rimanere Veramente basiti Davanti anche Alla Scarsa delicatezza Per non dare un altro nome Di un sindaco Che si permette Di intimare Al proprio collega Presidente della provincia Con cui fino a ieri Braccio a braccio Hanno definito Le strategie Di gestione Dell'emergenza Covid Di non usare soldi Per la propria retribuzione Vorrei ricordare Il sindaco Tosi Che il presidente Santi Fa il presidente Della provincia Fino ad oggi Con l'indenità Da sindaco Di San Giovanni Mariliano Che è di 800 euro Lordi E vorrei ricordare Al sindaco Tosi Che se i suoi colleghi Avessero Nei suoi confronti La stessa Scarsa Attitudine Rispetto istituzionale Probabilmente Lei sarebbe Travolta Dai suoi colleghi Che spesso Invece La ignorano Per evitare Di alimentare Inutili polemiche In un momento In cui le persone Sono chiamate Ad occuparsi Di altro Mi permettetemelo Perché onestamente Oggi mi aspettavo Di trovare Un consiglio comunale Con un prima diverso Volendo tornare Alla pratica Io non posso Che rilevare Che in effetti Al di là Del volere Individuare Un particolare Tipo di tempismo C'è un microfono Un microfono aperto Stop Che ritorna Al di là Di volere Trovare Valutazioni Sul tempismo Di questa pratica C'è un fatto Che il pallariccione E ci è stato Ricordato Ce lo siamo Ricordati Più volte È una società Che funziona Grazie ad un Enorme Investimento Che i cittadini Hanno sostenuto E stanno sostenendo Ancora oggi E proprio per questo Corrisponde Alla necessità Di un interesse Pubblico generale Che avrebbe previsto Su questa pratica Un dibattito Di ben altro Spessore Di ben altro Livello E con una Più ampio Spazio di condivisione Perché oggi Noi facciamo Questo consiglio comunale In streaming Lo stiamo facendo Soltanto noi Non siamo neanche In diretta Non ci sta ascoltando Nessuno Ma cosa peggiore Su queste modifiche Statutarie È stata convocata L'assemblea dei soci Per informare I soci di minoranza Soltanto ieri sera E quindi I soci di minoranza Non hanno nemmeno Avuto l'occasione Di poter In qualche modo Esprimere I propri pareri E le proprie valutazioni E vorrei ricordare Se dovesse Essere utile Che i soci di minoranza Della parte Della New Pala Riccione Non sono Soggetti O persone Fisiche Non sono Dei privati Rappresentano Il mondo Economico Del nostro territorio E della nostra città Perché la vocazione Del Pala Congressi E della New Pala Riccione Vi vorrei ricordare È stata Da sempre Quella Di rappresentare E soddisfare Un bisogno Di destagionalizzazione Di questa città Che corrispondesse All'incremento Delle opportunità In termini Di allungamento Della stagione Ogni cittadino Riccionese Ogni categoria economica Ogni operatore privato Di questa città Ha un interesse Più che legittimo A voler Definire Condividere E stabilire Quale deve essere Il futuro di questa società Che a questo punto Viene trasformata In una pura società Commerciale Perché io vorrei far notare Che è stato eliminato Nelle modifiche statutari L'incipit del vecchio statuto In cui si faceva proprio Riferimento Alla funzione Corrispondente All'interesse pubblico Generale Che questa società Appunto Svolge E si è trasformata Sostanzialmente In un'agenzia A viaggi In un'ente Che organizza Iventi Per conto di terzi Per conto di terzi E per conto proprio Quindi di fatto Una società privata Come ce ne possono essere Tante nel mondo In aggiunta E l'ho già detto Il consigliere Conti Quindi non mi ripeto Si va a definire Un assetto di governance Che sostanzialmente Elimina Il ruolo Della minoranza E vorrei ricordare Perché fino ad ora Non è stato ricordato Che c'è anche un paradosso In questa delibera Che noi andiamo Ad approvare oggi Della quale Della quale abbiamo chiesto Anche l'UMI In commissione Ma non abbiamo ricevuto risposte Nella delibera Di accompagnamento Che noi tutti i consiglieri Saremmo chiamati oggi A votare E qui faccio anche La mia dichiarazione di voto E noi voteremo Sicuramente Contrariamente Questa pratica Si fa riferimento Anche ad una fantomatica Golden share Sulla nomina Dell'amministratore Un diritto particolare Aggiuntivo Speciale Concesso al comune Dirigione Che poi non viene richiamato In statuto E che peraltro È sostanzialmente In totale È totalmente inutile Perché i diritti Dei soci Della società Sono definiti E qui volevo un attimo Ricordare Perché ho sentito Il consigliere Poulet Ripetere che Questa modifica statutaria Fa riferimento Alle applicazioni Della legge Madia Ma no Siamo lontanissimi Da questo Perché c'è solo Uno degli articoli Che viene modificato Sulla base Raccogliere la responsabilità Di raccogliere la responsabilità politica Di andare a definire Determinare una scelta strategica Così importante Per una società Che vi vorrei ricordare Dopo che avete scelto Di ridurre il canone d'affitto Che la New Pal Riccione Paga al comune di Riccione Ha in cassa Un milione di euro Perché questa è La situazione Ed è una società Che sta dando Redditività Ai riccionesi E se quel milione di euro Che avete lasciato Nella New Pal Riccione Che oggi pensate Con un percorso Che avviate Evidentemente O di dare in affitto O di vendere Tornando ancora una volta Con un tentativo Che va anche contro Ciò che avete detto Quando è stato convocato Dalle forze di opposizione Di questa città Con il Consiglio Comunale Aperto Di fatto voi In questo momento Andate a decidere Che dentro quella società C'è un patrimonio E c'è un valore Che potrebbe essere Nelle casse del comune Semplicemente Rimettendo a posto L'importo degli affitti E che invece Siete pronti A mettere a mercato Questo è abbastanza evidente Ma la cosa Che più mi colpisce E che più mi rattrista E che al di là Della tanto sbandierata Condivisione Collaborazione Dialogo E partecipazione Con la città I soci di minoranza Di questa società Non sono nemmeno Stati preavvertiti Con una presentazione Dello statuto E con una spiegazione Che fosse qualche cosa Di più Di meglio Di più approfondito Rispetto che anche Quella che anche Quella che anche L'assessore Santi Ha fatto a noi Leggendoci un testo Senza entrare Troppo nel dettaglio E nel merito Della questione Ora È tutto molto semplice Al governo Giustamente Come dice il consigliere Pullè Non ci sarà sempre Il sindaco Tosi Non ci sarà sempre Questa maggioranza Ma con questa accelerazione E con queste modifiche Statutarie Nei prossimi due anni Il futuro E il destino Di quella società Potrebbe cambiare Io non Non credo Che sarebbe stato Un errore Sindaco Tosi Su una partita Così importante Come questa Provare a fare Un confronto Più aperto Con tutta la città E ancora prima Per diritto Con i soci di minoranza Che invece Andrete a consultare Dopo questo consiglio comunale Dopo avere approvato La modifica statutaria E di questo Non ci sarebbe Neanche niente di strano Fa parte della procedura Ma che avrebbe Secondo me Avuto molto più senso E molto più significato Se fosse stata fatta In termini di condivisione Reale e vera Sul futuro Della società Perché io voglio ricordarlo ancora Quella società E quella struttura La pagano i ricionesi E le categorie economiche Che sono presenti Dentro La compagina societaria Rappresentano Il tessuto economico Di questa città Il tessuto Economico Di questa città Non ha bisogno Di posizioni Di Strapotere O concentrazione Del potere Magari in capo Ad un amministratore unico Che sceglierà Da solo Il comune di Riccione Peraltro richiamando Una fantomatica Golden share In modo del tutto Improprio Anche da un punto di vista Tecnico Che non ha Nessun valore Ma i soci Di minoranza Di questa società Dovrebbero Rappresentare Le istanze Della città Perché Quella Quella società E quel palazzo Sono un volano Indiscusso Della nostra capacità Di offerta turistica E di Destagionalizzazione Onestamente Tutta questa Concentrazione Del potere Ci trova Più che Contrari Ma la cosa Che ci trova In assoluto Più che Contrari È questa Attitudine A volere Raccontare Che questo È una banale Modifica Statutaria Derivante Della legge Maria Quando È semplicissimo Capire Dalle modifiche Che sono state Che vengono Proposte oggi Che in realtà Questa è una Trasformazione Identitaria Di quella società Che la porta A diventare Una società Commerciale Pura E che ancora Una volta Dimostra Che le Giravolte Che sono state Fatte Dal sindaco Tosi Su questa Società Sono E hanno Dell'incomprensibile Ma che cominciano Pezzo dopo pezzo A palesare Un progetto Molto Chiaro Lo diceva Il consigliere Conti Il punto Non è La concentrazione Del potere Ma è L'eventuale Abuso Del potere Che chiunque Oggi Il nostro sindaco Domani Un altro sindaco Potrebbe fare Di questa Di questa Di questa società Da questo punto di vista Noi ci troviamo Assolutamente contrari Concluda Consigliere Grazie Presidente Da un punto di vista Di merito Ma soprattutto Da un punto Di metodo Siamo nell'ambito Della peggiore Delle scorrette Istituzionali Nei confronti Della città Ed il resto Dopo aver aperto Il Presidente Della provincia Nota da più Da meravigliarsi Perfetto E' bellissimo Quando uno Tra tutte le certezze Della provincia Ora ci sono Altri interventi Consiglieri Non vedo Né mani alzate Né prenotazioni Vai Assessore C'è l'assessore Che vuole intervenire Una cosa Velocissima Una cosa Velocissima Presidente Cioè guardando Lo statuto Vecchio Per quanto riguarda La nomina Del consiglio Di amministrazione Anche nel vecchio Statuto Al socio Comune Di Riccione Spetta la nomina Di due componenti Di cui uno Rivesterà la carica Di presidente Del consiglio Di amministrazione Quindi questa Facoltà Data al comune Di Riccione Esisteva anche Nello statuto Precedente E quindi viene Richiamata anche Nel nuovo statuto Io dovevo dire Solo questo Insomma Per precisare Grazie Consigliere del Bianco Vuole intervenire? Sì grazie Intervengo Perché Chiaramente Sono assolutamente D'accordo Con quanto Sostenuto Negli interventi Precedenti Da Il mio collega Carlo Conti E quello più recente Del consigliere Vescovi Volevo rimarcare Un paio di aspetti Perché Chi è in consiglio O meglio Chi è in questo consiglio Sa perfettamente Che La battaglia Che è riconducibile Alla difesa Che secondo Il mio punto di vista Che poi è stato condiviso Da tutti i consiglieri Di minoranza Quando abbiamo chiesto La convocazione Del consiglio comunale Aperto Un anno fa Se non ricordo male Per dibattere Del futuro Del pala congressi Era evidente Ed era Anticipante Anticipava Scusate Tutta una serie Perplessità Che piano piano Si stanno dispiegando Mi pare Chiaro Che ogni volta Che si prende in mano Il dossier Pala congressi Questo dossier Debba essere In qualche maniera Sempre sottratto O comunque Non anticipato O comunque Non in modo Approfondito Discusso Con la cittadinanza Io voglio ricordare Che questo asset Questa infrastruttura È l'infrastruttura Più costosa In assoluto Che il bilancio Comunale Di Riccione Ha sopportato E quindi Una buona amministrazione Soprattutto In quello Che è l'anno 2020 Cioè un anno Dove In sostanza Questo Non è un'opinione mia Ma è un'opinione Molto diffusa Si dovranno ripensare Anche molte Delle strategie Non solo Di comunicazione E di riproposizione Della città Attraverso Marketing Attraverso Il dialogo Attraverso Il contatto Con i nostri mercati O con i mercati Che ci saranno Futuri Il tema Palacongressi È un tema Centrale Non fosse altro Perché la struttura All'interno Che opera Dentro Palacongressi Ha comprovato Il suo Know-how Cioè la sua capacità Non solo di stare Sul mercato Ma di rinnovarsi Tanto per smentire Quello che il sindaco Diceva Nelle prime battute Quando Un anno e mezzo fa Se non ricordo male Settembre 2018 Testuali Parole del sindaco La società Era una scatola Vuota E ci lavoravano 8-10 strutture Evidentemente Non era così Evidentemente Ha generato Un buon management Un volume D'affari Estremamente Importante Evidentemente La scatola Non era vuota Ma forse La si voleva Vendere come vuota E questo Lascio a Chi ascolterà Il consiglio comunale Magari Non in streaming Ma in podcast Le considerazioni Del caso Mi pareva E mi pare Abbastanza Elementare Giusto per non ripetere Quello che hanno detto I miei colleghi Che un cambio Dello statuto Come questo Condivisibile o no Non sto a entrare Nei punti Che staremmo qui Fino a domani Ma assolutamente Andava condiviso Non solo con i soci Di minoranza Ma con gli imprenditori Con le categorie economiche Perché Perdonatemi Questa infrastruttura Io la L'ho definita In qualche passaggio Dibattendo con altri imprenditori O con cittadini Edicionesi Non tanto un bene pubblico Ma un bene comune Che è un'altra cosa Rispetto a un bene pubblico E quindi Quando si prepara Una svolta come questa Con delle direttive Che cambiano Senza la necessità Che debbono necessariamente Cambiare A stanze E a porte chiuse Un motivo Evidentemente C'è Ora Non voglio ripetermi Tanto I cittadini E' estremamente chiaro Ci sarà Il modo Per tornare Ad affrontare Questo dossier Forse Sperando Che la gente Prenda Davvero coscienza Di che cosa È avvenuto Nella storia Di questa infrastruttura E' chiaro Che Se questa Se noi aspettiamo Che questa amministrazione Faccia sapere davvero I ricionesi Qual è l'impatto economico Che quella struttura Finché era operativa Perché purtroppo Il lockdown Ha colpito Principalmente Il settore Di cui si occupa La Nupala Riccione Ha O meglio Aveva Sulla città Forse avremmo avuto Le orecchie più alzate Io ricordo Che nell'ordine del giorno Del consiglio comunale aperto Che come opposizione Avevamo portato L'anno scorso Non si volle Votare una cosa Molto semplice Che sarebbe costata Anche molto poco Alle casse comunali Che era Un'indagine Di impatto economico Io ricordo Che nel dibattimento Nel dibattimento La sindaca Terminerò Terminerò Molto rapidamente Io ricordo Che per evitare La risposta Ovvero No Consigliere Del Bianco Noi non vogliamo Che la città sappia Qual è l'impatto economico Di quella società Relativamente A quello che fatturano Chiaramente I riccionesi Grazie a quella società Confuse Banalmente Un'indagine Di impatto economico Con quello Che è un business plan Il business plan Si fa prima Della via Di questa società Io voglio ricordare Che gli occhi E le orecchie Saranno Attivate Su ogni passaggio successivo Mi pare Scontato Grazie Grazie consigliere A questo punto Ritorno a chiedere Ci sono Marini Consigliere Gambetti Vuole intervenire lei? Sì grazie Prego Prego Cinque minuti Grazie Presidente Allora Brevemente Io ritengo Inopportuna In questo Momento Una discussione Su una modifica Della new Pallariccione Ma non tanto Per questioni Complotistiche Dietro Come si È stato anche detto Sulle quali posso Anche in linea di massima Anche essere d'accordo Però Voglio sorvolare Vorrei fare una ragionata Un pochino più Un pochino più Contestualizzata Il contesto è questo Noi Stiamo attraversando Una crisi Economica E E non solo Di cambiamento Del costume Di cambiamento Delle usanze Che Necessariamente Modificherà Il nostro Modificherà Il turismo Il nostro target Le persone Che verranno Da noi E Andare a fare Una Modifica Della Neopallariccione Nel momento In cui ancora Non sappiamo Quali mercati Si apriranno Quali saranno Le prospettive Quali Perché Questa crisi Questa emergenza Sanitaria Cambierà anche La struttura E la struttura E il tessuto Economico Della nostra Città Mi pare Perlomeno Inopportuno Perché Come viene Ricordato Da Tutti i consiglieri Di minoranza La Neopallariccione È un bene Comune Di tutti I ricionesi Quindi Io per il rispetto Dei ricionesi Mi sarei aspettata Almeno Di vedere Cosa Tiriamo fuori Cosa Saremo capaci Di elaborare In termini Di proposta Turistica Nei prossimi mesi Grazie Grazie Consigliere No Non mi sembra Ci siano altri Interventi Mi contraddicete Sì Non essendoci Altri interventi Non vedo Mani O prenotazioni E l'assessore È già intervenuto Sindaco Vuole intervenire Grazie Prego Sindaco Allora Prima una battuta Perché Forse Il consigliere Vescovi Non sa Dell'ultima Delibera Di bilancio Provinciale Dove per l'appunto Il presidente Della provincia Ha proposto L'aumento Del suo emulumento Fino a 43 mila euro Io non direi mai Altre cose Se non quelle scritte Nell'ambito Dei documenti È sì vero Che poi Ha chiuso Dicendo Che Rivedrà Quella Posizione Tornando Ad un Compenso Diciamo Ordinario Però Finché non vedremo Scritto nero su bianco Che cosa Significa Questa scritta Ordinaria Poi la Riqualificheremo Perché diversamente Non mi permetterei mai Poi Insomma vorrei ricordare Che Santi Non è sindaco Di San Giovanni Marignano Ma è sindaco Di Gemano Per quanto riguarda Invece La pratica In oggetto Chiudo Comincio Proprio Da alcune parole Che ho sentito Poc'anzi Dalla consigliera Gambetti Perché Più che un bene Comune Il palace È un debito Comune Perché In giunta L'altro ieri Abbiamo appunto Sospeso Il pagamento Delle rate Dei mutui Che non abbiamo potuto Ricontrattare E Il risparmio Del comune Di Riccione Per questo Non pagamento Delle rate Nel 2020 Che però Saranno poi Allungate A me di un altro Anno È di un milione Mezzo Di cui Un milione Quattro Sono le rate Del palace Quindi Le rate Del palace Pesano ancora Sulle tasche Dei cittadini Del comune Di Riccione In maniera pesante E ricordo Che nel business plan Si doveva guadagnare Da decenni Già L'altra cosa Che vorrei precisare Perché veramente Non so da che fonti Vi arrivano queste notizie Che non avrei consultato I soci di minoranza Che stranamente Mi potrà sembrare Ma il vostro sindaco Si comporta correttamente Quindi Ancora prima Di andare nel CDA Personalmente Ho chiamato Il presidente Di Della società Commerciale Di Confcommercio Il presidente Di Confindustria E il presidente Di Riccione Congressi A tutti e tre Ho precisato L'operazione Che si stava mettendo In campo E ne abbiamo Parlato serenamente Con grande linearità E con grande Concordia Comune Quindi Le fonti Dalle quali Vi arrivano Non sono così Diciamo Attendibili Potevate serenamente Chiamare il vostro sindaco E ve l'avrei Detto Non stiamo Facendo Nessun complotto Particolare Ma stiamo Adeguando Lo statuto Ad una legge Che si chiama Legge Madia Che se non ricordo male Era anche Ministro Del PD Che comportava Appunto L'adeguamento Della governance Delle società Non Strumentali All'ente E anche La razionalizzazione Della organizzazione Al fine appunto Di evitare Dei pesi Anziché Delle opportunità Lo avessero fatto Altri comuni Che invece Tutti gli anni Ricevono La signora letterina Della corte Dei conti regionale Che invece Non solo Non hanno razionalizzato Le partecipate Ma non hanno Neppure adeguato I loro statuti Ma questo è Un altro discorso Quindi Abbiamo adeguato La legge Madia E abbiamo colto L'occasione Della spesa Straordinaria Notarile Per andare Giustamente Perché così Lo hanno condiviso Tutti i soci Oltre che tutti I componenti Del CDA Andare A inserire Delle modifiche Come si fa Normalmente In tutte le società Di questo mondo Proprio perché Dovremmo affrontare Una spesa straordinaria Che è quella Notarile Vorrei poi ricordare Che Come diceva Il consigliere Pullè La partecipazione Nell'ambito Del Palace È del Comune di Riccione Non è di Renata Tosi E il Comune di Riccione Si muove In questo modo Come state vedendo Oggi Cioè il sindaco Non può partecipare All'assemblea E non può andare Dal notaio Se non ha i poteri Del consiglio comunale Sia per modificare Sono tutti Tutti logicamente Chiarite le situazioni E non c'è nulla di male Nel modificare Uno statuto E nel mantenere In capo Al socio di maggioranza Così come era prima La designazione Della governance Lo ha ricordato Anche l'assessore Santi Prima Il Comune di Riccione Designava Due consiglieri Di cui il presidente E nominava Gli altri Su una rosa Presentata Da tutti Perché ricordo Che comunque Il peso del voto Del Comune di Riccione È circa L'ottanta per cento Così Giustamente Se ci sarà Un amministratore unico Lo dovrà Disegnare Il Comune di Riccione Io avrei Preferito Che vi fosse stato Fatto un plauso Da questo punto di vista Perché manteniamo In capo Al socio di maggioranza Quello che è Il giusto potere Di nominare La governance E di contenere L'amministrazione Di quella società E non lasciarla Invece A soci di minoranza Che vorrei Ricordarne La genesi Forse qualcuno Di voi Non si ricorda Che la Camera Di commercio È scappata Vi ricordate La Camera Di commercio Che doveva Aiutare tutte Le infrastrutture Fieristiche L'abbiamo Liquidata A un euro Ad azione Quando i debiti Del palace Erano del profondo 60 milioni Forse non lo ricordate Io c'ero In quel consiglio comunale Abbiamo liquidato Soci di maggioranza Come la signora Minoranza Come la signora Provincia Di Rimini Che dovrebbe Partecipare Le infrastrutture Le infrastrutture Che danno Respiro L'economia Del territorio Uno a uno Quando c'era Il profondo Debito Di 60 milioni Di euro Quindi Prima di dire Certe O di fare Certe affermazioni O certe Dietrologie O innescare Certe nebbi È meglio Avere memoria Grazie sindaco A questo punto Passiamo alle dichiarazioni Di voto Una per ciascun gruppo Consigliare Salvo chi non ha parlato Andruccioli Prego Consigliere Andruccioli Due minuti Dov'è che è? Non la vedo Sono qua Grazie presidente No Sarò molto breve Aveva già preannunciato La capogruppo Vescovi Il nostro voto contrario Che io ribadisco Ribadendo Per i cittadini Che ascoltano La motivazione Alla base Secondo me Dovrebbe essere chiara Di questo voto contrario Già una volta L'amministrazione ha detto Dobbiamo cedere La società Perché la legge Madia Non permette Di tenerla Poi La legge Madia Permette di tenerla Io penso Che il cambiamento Di statuto Che voi proponete Trasformando la società In una società Completamente commerciale Ponga Il comune di Dicione Nelle condizioni Di non poter Poi detenere In futuro Le quote di questa società Proprio per la legge Madia Quindi io penso Che questa trasformazione Sia un attimino Schizofrenica Nella sua struttura E penso che ci porterà Il comune di Dicione A dover decidere Di cedere La società Proprio in ottemperanza La legge Madia Questa è la preoccupazione Di fondo Che io ho E che penso Dovremmo avere tutti E per questo Il mio voto Il voto del gruppo Sarà contrario Grazie 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 consigliere Tu la vedi Nella cera Allora Ci sono altre Dichiarazioni di voto? Ma lei usa il computer Ma non riesce a parlare Se lei usa il computer Va bene se ti vota in chat? Poniamo In votazione La Pratica Come la pratica precedente Consiglieri Il segretario Farete la doppia votazione Al segretario Quando verrete nominati Chi non è in grado Di parlare Perché è in difficoltà Che non riesce A connettersi Magari Vota in chat Giusto consigliere D'accordo Chi non lo può fare Però quando venite chiamati Non adesso Quindi prego il segretario Ok Allora si trovano sui soldi Di prima Andruccioli Sia per la proposta Che per la diseguibilità Voto contrario Per entrambe Sì E Angelini Voto favorevole Per entrambe Perfetto Bedina Favorevole per entrambi Boschetti Sono favorevole Per entrambi Carbonari No Microfono Microfono Ah Scrivi in chat Mettiti la chat Stefania Se senti vota in chat Ok Adesso poi vedremo Conti Contrario per entrambi Del bianco Assolutamente contrario per entrambi Frigiotti Favorevole 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 Galassi Favorevole per entrambi Gambetti Contrario Contrario Precisazione Se il sindaco Spende il microfono Quando fa i commenti Contrario Contrario Ok Anche se non lo vediamo Però lo abbiamo sentito Chiaramente Imola Imola non c'è Non essendoci Soltiamo Allora Magliorino Favorevole per entrambi Mussoni Favorevole Favorevole Pellegrino Non si sente Pellegrino Microfono Favorevole Per entrambi Emilia Seguibilità Favorevole Ok E Bullen Favorevole Favorevole Ranni Fa il dito Facciamo un segno Ok Un segno favorevole Per entrambi Mamma mia Ricci Favorevole 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 Rosati 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 Non ho lasciato l'ordine Scusate che non partiva Testa Testa quindi Sì 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 Ok Staviamo fatta Tonti Favorevole Favorevole Entrambi Ok Tosi Favorevole Entrambi Ubatti Non c'è Bambi Favorevole Entrambi Vescovi Contraria Contraria Ok L'unico Che non era riuscita a parlare La carbonara Non siamo riusciti a vederla Quindi voto Contraria Sono già scritta in chat Ok Mancava solo Contraria per il contrario Ok Ho letto Chi mancava Chi mancava Abbiamo consigliere Imola C'era il consigliere Imola Che continua ad essere assente Quindi poi Rosati Ma dove andiamo? Rosati Che è assente? Rosati niente Non lo vediamo neanche Quindi risulta assente Perfetto Ok Ok La pratica Con sette voti contrari E quindici voti favorevoli È stata votata favorevolmente E dichiarata immediatamente eseguibile Passiamo al prossimo punto L'ordine del giorno Costruzione della nuova caserma Dei Carabinieri di Riccione Servizi e accessori Variazione della destinazione Di zona d'uso pubblico Il sistema Articolo 3 1.2 Come sede Le norme di attuazione del RUE Il proponente Il sindaco Torgi Renata Prelogo Sindaco Sì con questo a delibera Facciamo un ulteriore passo in avanti Ai fini della realizzazione Della caserma dei Carabinieri a Riccione Perché andiamo Procediamo All'allineamento Della destinazione urbanistica Nell'ambito di quelle che sono Secondo il nostro RUE Le possibili per l'appunto Destinazioni a standard Quindi essendo precedentemente Stata scelta come standard La destinazione pubblica a parcheggi Oggi andiamo ad allineare Alla stessa destinazione pubblica Standard Però precisando E appunto Mettendo quella di caserma E quindi di servizio pubblico Per la sicurezza Delle comunità È un ulteriore passo in avanti Perché è appunto Necessario E opportuno Affinché non vi siano poi problemi Nell'ambito di quella Che è la giusta stipula Del contratto Nei confronti e a favore Del demagno Per la costituzione Del diritto di superficie Come già deliberato Per poi arrivare Alla completa E definitiva Ed esecutiva Progettazione Da parte Del demagno Stato Il demagno La scorsa settimana Ha chiesto Mi ha chiesto I numeri Del capitano Del colonnello Dei carabinieri Proprio perché Faranno un ultimo incontro Per definire La progettazione Per poi finalmente Presentarci Gli elaborati Da approvare Come edilizia Normale edilizia La conferma Che mi è arrivata Dalle demagno E che ci fa Sicuramente Grande piacere Indistintamente Diciamo Nell'ambito Delle espressioni politiche Di questo consenso E' quello che Tutte le risorse Per la realizzazione Della caserma A detta appunto Delle demagno Sono già state inserite Nel bilancio Dello Stato Grazie Signor Sindaco Ci sono interventi Da parte Di consiglieri Consigliere Maioli Prego L'intervento principale Arri Mi sentite? Sì Prego L'intervento principale Un'impresa Sì L'intervento principale Grazie Presidente Con questa delibera Come già Ha evidenziato Il nostro sindaco Diamo Diamo Seguito All'atto Di indirizzo Approvato Da questo stesso Consiglio comunale Nel novembre Ultimo scorso Per la costruzione Della nuova caserma Di Riccione Che verrà costruita Nel parcheggio Di fronte All'ex liceo Volta In via Viale Corte Maggiore I costi Per la realizzazione Di questa opera Saranno Totalmente A carico Del ministro Della difesa Sono somme Già disponibili Come ha Pocanzi Anticipato il sindaco Nel bilancio Dello Stato Che nulla Hanno a che vedere Né con il nostro bilancio Né con il nostro Triennale In questa circostanza Ho piacere Di ricordare Senza riprendere I passaggi Tecnici Che sono stati appunto Evidenzati Pocanzi Alcuni passaggi Ovvero Finalmente Nel nostro territorio Viene realizzato Un servizio pubblico Importante E grazie anche Alla sinergia Dei privati Della parte sud Del rio Melo In cui ci sono stati Già degli avvocamenti Verrà gestita Nel migliore dei modi Anche la questione Per la realizzazione Dei nuovi parcheggi Siamo davvero Pieri di poter Contribuire Alla realizzazione Di questi Parche E da Inizio Esprimere Nelle migliori Condizioni logistiche Anche in termini Di ampiezza Dal momento Che per troppi anni Ha lavorato In una struttura Assolutamente inadeguata La nostra soddisfazione È rivolta Anche a tutti i militari Che al complemento Dei lavori Potranno beneficiare Di una sistemazione Adeguata Per svolgere Il loro insostituibile Lavoro di tutela E garanzia Di sicurezza Per il nostro territorio Grazie ad un importante Gioco di squadra Tra i vari livelli Istituzionali Quest'oggi Facciamo un altro passo Per rendere possibile La nascita Di questo nuovo Comparto Provinciale Di carabinieri Nell'area sud Siamo davvero Orgogliosi Che l'Armia Abbia proprio scelto Il comune di Riccione Per realizzare Un'opera così importante Un nuovo luogo Di accoglienza E protezione Per la nostra città I suoi cittadini E di cui beneficerà Tutta l'area provinciale Grazie Grazie consigliere Ci sono altri interventi? Consigliere Imola Prego È l'intervento principale? No presidente Mi scuso per prima Ho avuto un problema All'UPS Sono riuscito a rientrare Solo ora Per quanto riguarda La delibera Che stiamo per andare In votazione Chiaramente Noi come manifestato Anche allo scorso Consiglio Comunale E come manifestato Dalla raccolta firme Che abbiamo intrapreso Siamo certamente Favorevoli Al fatto Che i carabinieri Abbiano una nuova caserma E non solo i carabinieri Ma anche chiaramente Chi dovrà fruirne Abbiamo però Qualche perplessità Legata Alla locazione Di questa caserma E alla delibera Che andiamo adottare Non tanto In termini Della valenza Della delibera Ma in termini Degli standard Urbanistici Che devono essere Garantiti Come Presso in commissione La nostra Perplessità Perdonatevi il termine Perplessità Sta nel fatto Che su tale area Insiste appunto Un parcheggio E nella Nella delibera Si fa riferimento Ad un parcheggio Multipiano In sostituzione Ai metri quadri Esistenti Il cui iter Ancora non è stato avviato Quindi quello Che preoccupa Maggiormente Noi Riguardo appunto A questa delibera È il fatto Che Un'anticipazione Dell'iter Della caserma Rispetto all'iter Del parcheggio Multipiano Possa portare La città Di Riccione Ad avere Per un lasso temporale Più o meno definito E In parte La La fruizione E La mancata fruizione Di questi Di questi Di questi Che age In particolare Di questi Standard Della città E L'altra Le altre Perplessità Circa Appunto Questa delibera Sono legate Al fatto Che nella delibera Precedente Si faceva riferimento Ad una successiva Delibera Di giunta Che avesse Individuato I metri quadri Precisi Necessari All'intervento Della caserma Dei calabinieri E questa delibera Di giunta Non è stata Non è stata Mai approvata Mai fatta E che Non si trova Traccia Di una convenzione In termini economici Ancora depositata Però Ciò non toglie Che Non siamo Non Che il nostro voto Diciamo Non sarà Contrario A questa pratica E ripeto Quello che ho detto In premessa Il Il nostro Il nostro pensiero È legato Al fatto Che I carabinieri E li ringraziamo Per la loro Costante presenza Nella città Abbiano diritto Ad avere Una caserma Riasestata Una caserma Pienamente funzionante Grazie Grazie Consigliere Or dunque Ci sono altri interventi? Non essendoci Altri interventi Sindaco Assessore Vuole intervenire? Facciamo un'intervento? Prego Sì Allora Giusto Due precisazioni Che mi vengono Dall'intervento Del consigliere Imola La giunta comunale Non è stata fatta Perché il demanio Non si è più mosso Da Bologna Non si poteva neanche muovere Quindi siccome devono fare Un picchetto E un allineamento Catastale Hanno come dicevo prima Preso appuntamento Con il capitano dei carabinieri E il colonnello provinciale Al fine di definire Prima il progetto con loro Poi ci vedranno con noi Per fare sul luogo Una perimetrazione Esatta e compiuta Per poi fare il frazionamento Catastale Che verrà approvato Dalla giunta Ci siamo sentiti In questi mesi Ma non sono potuti Assolutamente venire Per quanto riguarda La convenzione Consigliere L'abbiamo già detto Nella scorsa delibera Noi non prendiamo Nessun compenso Avremo il grande piacere Finalmente Di dare ai carabinieri Quella sistemazione Giusta e corretta Che devono avere Sul nostro territorio E devono avere Quali forze dell'ordine Che operano in città Non ci danno un compenso Questo forse era sfuggito Viene concesso Il diritto di superficie Per 99 anni Gratuitamente Allo Stato Ma anche perché Siamo sempre noi Hanno necessità Solo di avere Questo diritto Di superficie Perché Al fine di Sono motivi tecnici Al fine di inserire Una spesa così importante Si parla di circa 10 milioni di euro Quali necessari Alla realizzazione Della caserma Il demanio Deve essere titolare Di un diritto reale Quindi Poteva essere O la proprietà O la O la Diritto di superficie E abbiamo Convenuto Diritto di superficie Stop Non percepiamo Nessun Compenso Se non Il grande piacere Finalmente Di avere la caserma Giusta Adeguata E consona A quello Che è il grande sacrificio Il grande lavoro Che i carabinieri Fanno nella nostra città Grazie Sindaco Si era prontato Il consigliere Vescovi Ora farà la dichiarazione Di voto Vediamo di Essere Larghi C'è col tempo Prego consigliere Grazie Presidente Non so Forse non è arrivato Il messaggio Mi sembrava Somma fosse arrivato Comunque Va bene La ringrazio Per il maggior tempo Che mi concede Allora il tema Per noi È molto semplice Come ha già anticipato Il consigliere Imola Che il signor sindaco Ha ben chiaro Che tipo di convenzione Andrà firmata Con il ministero Forse Non vi siete capiti Il nostro problema E il nostro tema Non è Dare Una dignitosa Sistemazione Alla compagnia Dei carabinieri Di Riccione Che peraltro Non hanno scelto Riccione Stanno a Riccione Perché l'organizzazione Provinciale Dei carabinieri Prevede una sede Rimini E una sede Riccione Delle compagnie Da questo punto di vista È talmente importante Per noi Dare una Nuova caserna I carabinieri Che ci siamo anche Impegnati attivamente Nella raccolta Delle firme In questa città Per poter supportare Politicamente La nostra richiesta Abbiamo però detto Già Dalla prima Nostra Dal nostro primo intervento In consiglio comunale Che riteniamo Che quell'area Abbia una serie Di caratteristiche Non particolarmente Positive Nell'andare appunto A sistemarci La caserma Non abbiamo mai Voluto però Politicamente Fare una questione Di l'anacaprina Su quello che per noi È un obiettivo Prioritario in assoluto E cioè Affermare la volontà Politica Di questa città Di fare tutto quanto È necessario Per consentire I nostri carabinieri Di garantire Ai cittadini La sicurezza Come fanno da sempre E per Cosa per quale Li ringraziamo anche Oggi In una condizione Oggettiva Di Di disagio Per noi L'area È sbagliata L'abbiamo detto L'altra volta Lo ribadiamo anche adesso La pratica di oggi Ci preoccupa Ancora di più Se volete Non mi si sente Presidente La pratica di oggi Ci preoccupa Ancora di più Se volete Perché noi Riteniamo Che le due cose Cioè L'approvazione Del Frazionamento L'approvazione Del progetto La convenzione E l'allineamento Urbanistico Avessero dovuto Procedere Parallelamente Perché cosa Succederà oggi? Succederà oggi Che noi Avremo Un'area Che avremmo Potuto utilizzare A parcheggio Erogando un servizio Indispensabile Alla città Che in questo momento Rispetto allo standard Urbanistico Che gli viene Assegnato Con questa delibera Non potrà essere Più utilizzato Con la giusta E coerente Previsione Urbanistica E non ci possiamo Certo accontentare Di una dichiarazione Informale Assolutamente Destrutturata E ufficiosa In cui ci dite Che state trattando Un'area privata Per andare Ad integrare La quota P1 Che è prevista Dal nostro PSC Obbligatoriamente Per quell'area Quindi Da un punto Di vista Urbanistico Non è una variante È un allineamento Ma rimane il fatto Che ad oggi Quella porzione Di terreno Non sarà più Destinata Urbanisticamente Ad utilizzo Ad utilizzo A parcheggi Questo per noi È un problema Serio E sarebbe stato Molto più opportuno Manifestando anche Maggiore interesse Nei confronti Della città Visto e considerato Che c'è un margine Di incertezza Ancora piuttosto Largo Rispetto ai tempi Alle modalità Ma e alla Ipotesi Reale Di realizzazione Di realizzazione Di questa caserma I parcheggi Sono un elemento Del territorio Prezioso Ce lo saremmo Spettato Non lo avete Fatto Questa cosa Ci mette nelle Condizioni Di non poter Votare Favorevolmente Questa pratica Noi ci asterremo Con una precisazione Che è quella Che abbiamo Appunto fatto Perché riteniamo Che salvaguardando In modo chiaro E netto La necessità Di procedere Alla realizzazione Della caserma Questo tipo Di attenzione Nei confronti Della città E dell'uso Del suo territorio Si sarebbe potuto Quanto meno avere Non ci basta Sara Sapere che state Negoziando Con un privato Per coprire Di partenze Standard Che non avremo più E nemmeno ci basta Quella previsione Buttata là Di project financing Su un marcheggio Multipiano Senza nemmeno Averne definito Nella data Nella scusate Nel trenale Delle opere pubbliche Un'ipotetica data La sensazione È che Queste delibere Siano fatte Con un margine Di approssimazione Tecnica Che non ci mette Nelle condizioni Serenamente Di esprimere Un parere favorevole Pertanto Ci asterremo Grazie Grazie Consigliere Mi dia la parola Prego Sindaco Voleva Ho bisogno Di fare una precisazione Tecnica Perché Insomma Sono delle inesattesse Ho bisogno Ho bisogno Di dirle Tecnicamente Si tratta Di un allineamento Che abbiamo Voluto fare Per correttezza E perché Si possa Poi presentare Un progetto In linea Ricordo invece Che questa opera Poteva andare In deroga Da sola Senza neanche Venire in consiglio Comunale Così come ne sono Venute mille Da parte Delle amministrazioni I precedenti Volete che le ricordi Il lungomare 1 Lungomare 2 Tutto L'interrato Del parcheggio Quando venne realizzato Non venne affatto In consiglio comunale Per chiedere Cosa pensava Il consiglio comunale Di quell'allineamento Invece noi Correttamente Andiamo Un passo alla volta A permettere Per appunto L'allineamento L'allineamento Rispetto alla situazione Di fatto Non c'entra nulla Perché Sappiamo Perfettamente Finquanto non c'è Il rogito Di costituzione Del diritto Nessuno ha Altra disponibilità Di quel bene Se non Il proprietario E quindi Così come venne Usato a parcheggio Anche tutta l'aria A Diciamo Monte Della stessa A fianco al comuna Per più anni Ancora prima Della destinazione A parcheggio Anche quello Potrà essere destinato Mi duole Comunque Ricevere Un voto Di astensione Perché Avevo compreso Che la caserma Fosse nel cuore Di tutti Però È un voto Possibile Quindi Non duco nulla Ci sono altre Dichiarazioni Di voto Consigliere Consigliere Conti Prego Ci sono? Ok Ci sono? Scusate i segnali Ma Le difficoltà Sono queste Vi ringrazio Per la rapidità Nel vederle No Io Su questa pratica Ho espresso Qualche perplessità Non dal punto di vista Tecnico O altro Io ho espresso Delle perplessità Già in commissione Proprio sulla Mancanza di previsione Già strutturale Dei parcheggi Che verranno Verranno tolti Mi è stato detto Che verrà implementato La possibilità Di costruire Parcheggi Con un progetto Insomma Di fianco All'area Però non c'era Nel periodennale Dei lavori pubblici Non lo vedo Ancora Quindi Questo è l'unico motivo Sindaca Per cui non voteremo Favorevolmente Questa pratica Che però Ripeto Abbiamo sollevato Il problema Già Quando abbiamo votato Favorevolmente In consiglio comunale Dicendo che Bisognava lavorare Immediatamente Andava bene Quello Ma bisognava lavorare Immediatamente Per recuperare Quei parcheggi Lo abbiamo risollevato In commissione E siamo ancora Qui a dirlo Non siamo assolutamente Contrari Ma vogliamo Evidenziare Ancora una volta La questione Che non è A tuttora risolta Quando la questione Sarà risolta Ci sarà Anche il nostro Appoggio favorevole A qualunque pratica Afferente A questo tema Ma fino a oggi Ci limiteremo Ad astenerci Per quanto siamo Convinti Che l'opera Sia Importante E E necessaria Per i nostri carabinieri Ma in particolare Per la nostra Per la nostra città Quindi Rivadiamo semplicemente Dubbi che abbiamo Già espresso Più volte Ma che ancora Non sono stati chiariti Grazie Grazie consigliere Conti Ci sono altre Dichiarazioni di voto? Non essendoci Altre dichiarazioni di voto Rifacciamo Il tour Delle votazioni Sì Prego Iniziale Che si Lo sapere Se il consigliere Bobbi È presente Io non lo vedo Dalle 6 Sono presente Sono presente Sono presente Pronto? Sì Ecco Non mi va più La telecamera Non mi va più La telecamera Non so perché Ok Però fino adesso Ho tutto sentito Ho sentito Tutto Il dibattito Perfetto Io mi astengo Per entrambe Io non c'è Non so se Angellini Favorevole per entrambe Bedina Assolutamente Favorevole per entrambe Boschetti Favorevole per entrambe Carbonari Astenuta per entrambe E Conti Aveva detto favorevole Astenuto per entrambe Aveva detto favorevole Astenzione per entrambe Prisotti Ho capito che Sì Assolutamente Correttamente Favorevole Favorevole Galassi Favorevole per entrambe Pianpetti Astenuto Astenuto Gobbi Attenzione Attenzione Imola Astenuto per entrambe Maiolino Favorevole per entrambi Mussoni Favorevole Favorevole E Pelegrino Favorevole per entrambi Pullè Favorevole per entrambi Ragni Comincio a capirlo Ascolti Favore potrebbe scriverlo nella chat Lo scriva Lo scriva quindi Per il momento sospendo La sua votazione E Ricci Ricci Come carabinieri In pensione Favorevole Favorevole Rosati Orgogliosamente Favorevole Favorevole Testa Scrive la testa Testa scrive Ragni ha scritto Favorevole per entrambi Ok Ragni Leggo Favorevole Allora Testa Chiudi Marco Si è chiuso Testa favorevole per entrambi Ok Tonti Favorevole entrambi Tosi Favorevole per entrambi Ubaldi assente Bambi Favorevole tutte e due Vescovi Astenuta per entrambi Perfetto Con 16 voti favorevoli E 8 Astenuti La pratica è stata Votata Favorevolmente E ha anche L'immediata Incebibilità Scusate Ora Passiamo al prossimo Punto L'ordine del giorno Rattifica di Deliberazione di giunta Comunale Avete l'oggetto Emergenza Coronavirus Risorse per la Solidarietà alimentare E variazioni di urgenza Bilancio di provviso Del registro finanziario 2020 Proponente L'assessore Luigi Santi Prego Assessore Grazie di nuovo Presidente Con questa Variazione di bilancio Siamo andati a recepire Il contributo Da parte dello Stato Di 203 mila euro Per L'emergenza Dei buoni spesa Quindi per permettere Ai comuni Di erogare Buoni spesa Per Le persone Che poi Le hanno richieste Le famiglie Che le hanno richieste Che avevano i requisiti E sono stati accertati Anche 30 mila euro Di donazione Che ad oggi Fortunatamente Sono di più Quindi andremo In una prossima Variazione di bilancio A ritoccare A rialzo Questa somma E ci fa molto piacere Che i cittadini E le imprese Riccionese Abbiano contribuito In questo modo Significativo Questo dimostra Anche il gran cuore Della nostra città Dei nostri operatori Dei nostri cittadini Siamo andati Anche grazie Alle ulteriori donazioni Anche grazie Al bilancio comunale A soddisfare anche Le ultime 331 domande Che erano rimaste In sospeso Quindi siamo riusciti Veramente Con uno sforzo Notevole Ad accontentare Tutti Quelli che avevano I requisiti E come ripeto Le risorse Che sono arrivate Dallo Stato Non sono bastate E sono servite Donazioni E la nostra integrazione Io ringrazio Anche I servizi finanziari In primo luogo Ma anche I servizi sociali La dottoressa Pierigella Assessore Galli Per aver In modo celere Dato queste risposte Importanti In un periodo Così difficile Chiediamo Un voto favorevole Grazie Grazie Assessore Dunque Qui abbiamo Già una richiesta Di intervento Che è dal consigliere Ricci Quindi prego Consigliere L'intervento principale Immagino Prego Dieci minuti Deve accendere Il microfono Consigliere Ricci Non si sente Consigliere Ricci Deve accendere Il microfono Non la stiamo sentendo Consigliere Consigliere Ricci Deve accendere Il microfono Oddio Consigliere Ricci Si prova Ci sta provando Vedi Sta parlando No Non mi sembra Che si parla No Secondo me Sta cercando Di accendere Il microfono Accendi Il microfono Come per votare Piero Giorgio Come per votare Devi accendere Il microfono No Se no Non ti sentiamo Niente Non riesce Magari diamo la parola Che si è prenotato Allora Riproviamo con lui Riproviamo con lui Dopo Intanto c'è qualcun altro Si vuole prenotare Per questo intervento Consigliere Ricci Provi A desistere Del microfono Chiami Un'assistenza Un'assistenza familiare Eccolo È comparso Ok Non mi saliva Non mi saliva Non mi saliva Il microfono Vabbè Il Dipartimento Della Protezione Civile Con ordinanza 658 Del 29 marzo 2020 Ha disposto Che sia adottato Un primo incremento Del fondo Di solidarietà Comunale E ha stanziato 400 milioni di euro In favore dei comuni Ciascun comune È stato autorizzato All'acquisto Di buoni spesa Utilizzabili Per l'acquisto Di generi alimentari Presso esercizi Commerciali Riconosciuti E anche Per generi alimentari O prodotti Di prima necessità Al comune di Riccione Sono stati Assegnati 203.299 74 euro A cui si sono aggiunte Generose Numerose donazioni Da parte Della cittadinanza L'avviso pubblico Per la concessione Di buoni spesa A le famiglie In condizioni Di necessità Economica Che derivava Dalla momentanea Sospensione In condizioni Di Dalla momentanea Sospensione Dello stipendio O dell'attività Lavorativa Per l'emergenza Covid-19 È stato chiuso Il 21 aprile C'è un avviso pubblico È stato chiuso Il 21 aprile Sono state presentate 1.195 domande Vagliate Dallo sportello sociale 28 sono state Rigettate Perché senza I requisiti Per accedere Ai buoni spesa 331 Sono invece Le domande Sospese Perché Relativa Nucle Familiari Che già Percepivano Aiuti pubblici E 802 Sono stati Nucle familiari In regola Con la normativa Stabilita Dalla giunta Comunale Proprio ieri Sono state Soddisfatte E 331 Domande Sospese I buoni spesa Sono stati Destinati Non solo A chi era Già presente Negli elenchi Dei servizi Sociali Ma a chi Non aveva mai Avuto accesso Ad aiuti Ed era A questi Mai assistiti Prima Perché Generati Dall'epidemia Del coronavirus Che è andata Prioritamente L'attenzione Proprio per un Principio Di giustizia sociale E per far emergere Quella situazione Di difficoltà Non conosciute Dallo sportello sociale Quindi È questo Parere favorevole Del revisore dei conti Parere di regolarità Tecnica E parere di regolarità Contabile Che ringraziamo Questo È finito così Grazie Consigliere Mi si accorti Ci sono altri Interventi Consigliere Conti Voleva intervenire No Ok Ha il microfono acceso Però Ha il microfono acceso Però lasciamo L'ho acceso Che non dà fastidio L'ho tenuto per votare Se no mi si blocca Un'altra volta Ho bloccato Per velocità Stia buono in silenzio Che non dà fastidio Dico una parola C'è qualcun altro Che vuole intervenire Voglio sentire Imola È presente? Non è presente Imola non è presente Imola e Gobi sono assenti Gobi? Assenti Ok No scommi Mi arrondiamo Io sono presente Gobi Io sono presente Ok Imola Ok Perfetto Allora Gobi Non deve essere presente E ogni tanto mi dia un segnale Ecco mi aiuti Ecco Imola Sì Io sono Il microfono aperto Così Spengo a volte il telefono Perché il mio caricabatteria Non ha la potenza Che è richiesta Dal consumo Di questa applicazione Quindi Ok Ma ogni tanto Datemi qualche segnale Perché altrimenti Io vi perdo Ecco Scrivo in sal Allora Gli tanto scrivo in sal Ok grazie Consigliere Vesco Vi prego L'intervento principale Sì grazie Sì grazie presidente Prego Lo ridevo con la spiegazione tecnica Dell'ingegner Imola Che lascia molto desiderare Allora Ovviamente noi non possiamo che essere favorevoli A qualsiasi delibera O forma di aiuto Nei confronti delle famiglie E dei cittadini In un momento drammatico Come quello che stiamo affrontando E quindi Anticipo già da ora Che ovviamente Potremo Favorevolmente Questa pratica E esprimiamo però Ma devo dire Per rendere Per condividere Queste informazioni Con tutto il Consiglio Comunale Di avere condiviso Già queste perplessità Con l'assessore Galli Con cui ci siamo sentiti In occasione Di questa emergenza Proprio perché Ognuno di noi Consiglieri Comunali In questo periodo Ha ricevuto Una serie di sollecitazioni Da cittadini oggettivamente In difficoltà Alcuni casi Anche proprio casi disperati Quindi io Mi sono sempre sentita Con l'assessore Galli E ho anche pensato Fosse opportuno Fare un accesso agli atti Su come il Comune di Riccione Ha deciso Di gestire L'avviso pubblico Per l'erogazione Di questi Buoni spesa Lo aveva già anticipato In parte anche Il Consigliere Del Bianco Nella sua domanda Di attualità Io vorrei ripartire da lì Non perché Ci sia Una questione Particolare Su questa pratica Che come ripeto Voteremo favorevolmente Ma perché Siamo certi Che nei prossimi mesi Questo tipo di sostegno O per il tramite Di azioni Che arriveranno Dal governo Piuttosto che Dalla regione Piuttosto che Dalla raccolta fondi E la protezione civile Ha consentito Ai comuni Dovremo ulteriormente Integrare E rinforzare In termini di aiuto Sia per il Buoni Spesa Che per i canoni E quindi Vorrei fare Un appello Al Consiglio Comunale Perché Non si ripeta Ancora In una seconda occasione La situazione Che abbiamo avuto Con il primo avviso Io vorrei Mettere a confronto Due realtà Cittadine Molto vicine Che sono Il Comune di Ricciore E il Comune di Rimini Su come sono stati Erogati Questi Buoni Spesa Sulla base Di quali requisiti Partendo intanto Da un indicatore Molto importante A Ricciore Sono arrivate Quasi 1200 domande In una città Di 35.000 abitanti A Rimini Che è una città Da 150.000 abitanti Ne sono arrivate 4.000 Questo dovrebbe essere Già un indicatore 3.000 Scusate Scusate anche Per i santovanni Di prima Mi sono confusa Prima e anche adesso Con il numero E questo dovrebbe essere Vi dicevo Già un indicatore Molto importante Di come Il Comune di Ricciore Abbia scelto Una strada Eccessivamente Facile Per poter accedere A questi buoni Spesa Con pochi paletti Il Comune di Ricciore Ha fatto una richiesta Sola Che la presenza Sui conti correnti Bancari Medi Dell'ultimo periodo Vedicionesi Non fosse superiore I 10.000 euro Il Comune di Rimini Ha stabilito Un limite A 2.500 euro Per il mononucleo E a 4.000 Per un nucleo familiare Con più di due componenti In aggiunta Il Comune di Rimini Ha stabilito Che il buono spesa Potesse essere erogato Ai nuclei familiari Con redditi Superiore A 40.000 euro Fino a due componenti O a 60.000 Unperiore Scusate A 40.000 E 60.000 Per redditi familiari Con più di due componenti Quindi con almeno due tubi Introducendo quindi Un ulteriore paletto Quindi Contocorrente intanto Molto più basso Dichiarazione dei redditi E soprattutto Perché qui stava La ratio Del trasferimento Dei fondi Dallo Stato Ai Comuni Dimostrare Cosa che non potremo E non abbiamo potuto Verificare Se non con una General generica Autocertificazione Che peraltro In sedi di presentazione Della domanda Non è stata nemmeno Allegata Dimostrare Che nel mese di marzo Quindi nel pieno Dell'emergenza Si fosse Ottenuto O si fosse avuto Un danno Effettivo Dall'emergenza Coronavirus Questo criterio Questo criterio Che nel nostro Bando È apparso In modo Molto Lasco E poi comunque Non concretizzato Nell'insedi di presentazione Della domanda Rappresenta La ragione Per la limitazione Imposta A coloro Che avevano Già avuto Sussidi Da parte Dell'ente Si prevede Nel Comune Di Rimini Che ci fosse Una dimostrazione Oggettiva Anche quantitativa Del danno Provocato Dall'emergenza Coronavirus Dunque Tutto questo sistema Di panetti Di filtri A Riccione Non è stato messo Io ho fatto Un accesso Di atti Ho chiesto Anche di poter Accedere All'elenco Degli assegnatari Il Comune Di Rimini Ha pubblicato Con il numero Di protocollo L'elenco Degli assegnatari Con le motivazioni Di accettazione E le motivazioni Di rinuncia Garantendo Una trasparenza Totale Che a Riccione Non abbiamo avuto E non abbiamo visto Io ho l'elenco Con I beneficiari Ho potuto Accurare Che per il futuro Sarebbe opportuno Per la città Di Riccione Tanto ci troveremo E io spero Che lo si possa Decidere insieme Nell'interesse Di tutti Possano essere messi Dei paletti O dei requisiti Che possano Rappresentare Meglio Le condizioni Di disagio Economico E patrimoniale Delle famiglie Perché con Un conto corrente A 10.000 Senza alcun altro Limite Che così Per come è stato Gestito La sensazione È che noi Si sia lasciato Fuori Una platea Di persone Che hanno Particolari Bisogno Che invece Andrebbero Fortemente Supportate Siamo con voi Nella scelta Di aiuto Alle famiglie Sempre Vogliamo assolutamente Collaborare Io vi prego E auspico Di poter valutare Questo nostro Contributo In termini Proprio di Perfezionamento Dell'avviso pubblico Non come polemico Ma come oggettivamente Costruttivo Anche perché Altri comuni Lo hanno fatto E orientato A mirare Con maggiore Certezza La fascia Di popolazione Oggettivamente E realmente Più debole Della città Grazie Grazie Consigliere Rescovi Abbiamo Altri interventi Consiglieri In chat Non vedo Prenotazioni Ci sono Altri interventi Da parte Di consiglieri Non ci sono Altri interventi Non ci sono Altri interventi Consigliere Galli Assessore Galli Chiedo scusa Assessore Vice sindaco Prego A lei La parola Devo fare Una precisazione E' vero Che Con la consigliera Vescovi Ci siamo sentiti In più occasioni Anche per situazioni Di fragilità Anche perché Penso che Come è stato detto Più volte In questo momento Di emergenza L'importante Era fare rete E in questo Fare rete Mi piacerebbe Appunto Anche Condividere con voi Il fatto che Il nostro stesso Sindaco Chiese Un'uniformità Territoriale Ok Nella gestione Di questi fondi Però La sua richiesta Non fu attesa In primis Dalla provincia E poi successivamente Anche da altri Territori Ok Anzi Ci tengo a precisare Questa cosa Perché nel confronto Con le organizzazioni Sindacali Questo ci venne Chiesto Ok Proprio per far sì Che le persone Indipendentemente Dal luogo Della loro residenza Possero trattate In maniera uniforme Vista la difficoltà Capisco che Come dire I fondi Erano limitati Abbiamo dovuto Naturalmente Aggiungere Ulteriori risorse Per dare risposte Ma vorrei Precisare Anche Che tutti Gli altri Servizi Che abbiamo Da sempre Attivi Non si sono Mai fermati Vorrei rendere Noto Giusto Per così almeno Riusciamo anche A capirci Degli ulteriori Interventi Solo in questi Primi Neanche tre Mesi Di emergenza Abbiamo Dato contributi Per una cifra Come commissione Contributi Perché abbiamo Attivo anche Questo tipo Di servizio Come sportello Di circa 145 mila euro Ok Se noi Prendiamo Confronto Tutto Quello Che era stato Dato Nell'anno 2019 Parliamo di Un totale Di 238 mila Quindi Per dire Come In questi Tempi Non solo Questi fondi Che ci venivano Da una Ordinanza Della protezione Civile a livello Nazionale Venivano poi Affiancati Da un'ulteriore Grossa mano Ok Del nostro Comune Con tutte le risorse Che avevamo a disposizione Questo Più naturalmente Tutto il lavoro E io vorrei Condividere con voi Anche il fatto Delle numerose Telefonate Che il nostro settore Non solo Il settore servito Alla persona Ma anche Gli educativi Hanno fatto A tutta la popolazione Sopra i 65 anni E ci sarebbe Da scrivere Un libro Per i ringraziamenti Che abbiamo avuto Ok Quindi abbiamo Attivato Nuovi Ulteriore 30 percorsi Sul progetto Emporio Ok Così com'è Strutturato Ma ulteriori 57 consegne Tra spese Alimentari E medicina Attraverso anche La protezione civile Abbiamo agganciato Ulteriore 40 nuclei Come sportello Sociale Quindi questo Significa Essere arrivati A quelle fragilità Che come dicevo Anche prima Magari erano Sconosciute Ok Abbiamo anche E mi permetto Di dirlo Perché così Almeno Ognuno di voi Lo sa Nei tavoli opportuni Evidenziato La necessità Di questi mesi In termini di risorse Sugli affitti Sulle bollette Cioè sul fatto Che i territori E in modo particolare Gli enti Dal momento Che devono rimodulare Anche tutte le loro risorse Hanno bisogno Non solo di più risorse Ma di più flessibilità Quindi Ovunque C'è stata data La possibilità Abbiamo messo in evidenza Quali erano Le difficoltà E quindi Mi permetto di dire Insomma Un lavoro Certosino E Nello stesso tempo Un lavoro di rete Fra noi La protezione civile Le associazioni di volontariato Che mi permetto Di ringraziare Perché ci hanno dato Anche una grossa mano Nella consegna Appunto Sia Dei pacchi spesa Nonché anche Dei medicinali Perché come ricordo Questi buoni spese Erano Destinati Sia all'acquisto Di genere alimentari Ma anche Di medicinali Mi permetto anche Di ringraziare Le farmacie Che oltre Naturalmente A tutti gli esercizi Commerciali Hanno Aderito Quindi Direi che Non è la fine Come dire È solo Una partenza Ma occorre Anche mettere in evidenza Tutto il grosso lavoro Che la città di Riccione Ha fatto Sia a livello Di ente Ma anche a livello Di privati Come diceva prima L'assessore Santi Bisogna ringraziare Bisogna ringraziare Anche i tanti Riccionesi Che veramente Hanno messo mano Al loro portafoglio Per dare Un aiuto Concreto Naturalmente Al resto Della città Grazie Assessore A questo punto Sindaco Vuole concludere Sì grazie Io voglio Concludere In coda All'ottimo Intervento Del mio Vice sindaco Dicendo E appunto Affiancando I miei ringraziamenti Perché io voglio Ringraziare Appunto Le associazioni Di volontariati I tanti privati Che ci hanno Contattato Dicendo Ho la fortuna Di lavorare Voglio aiutare Chi più ha bisogno Di me I tanti Che Si sono anche Prestati In termini Di volontariato Le maestre Che senza colpo Ferire Hanno fatto Migliaia Di telefonate E qui Voglio anche Ringraziare Il nostro Presidente Del Consiglio Perché Forse L'avrete notato In ragione Del fatto Che ha girato Con la macchina Della protezione Civile Logicamente Da loro Autorizzato E per conto Nostro In termini Di consenso Ricevendo Le telefonate Al numero Che in tre Minuti Abbiamo Costituito Per cercare Di arrivare Alla Immediatezza Del bisogno Forse Quello Che non Si è colto Nell'ambito Di quella Che è La situazione Emergenziale Che si è Improvvisamente Dovuta Affrontare Era il valore Del tempo Nel poter Arrivare Al bisogno E nel poter Dare Le risposte Perché Io voglio appunto Approfittare qui Nel ringraziare Il dirigente Pierigè E la posizione Organizzativa Massimiliano Ricordo Sono arrivate Già Le prime Risposte Con l'accredito Dei soldi Sulla Carta Sanitaria Questa Era la risposta Che dovevamo dare Perché Consigliere Vescovi Accolgo Con piacere La disponibilità E la volontà Per l'appunto Di Votare Non in maniera Contraria A questa delibera E di essere Propositivi Però Una delle due O abbiamo fatto Una delibera A maglie larghe Accogliendo tutti O non abbiamo Dato risposte A tutti Perché forse Non vi è stato Cioè Non è stato Chiarito sufficientemente Per questo Mi dispiace Noi abbiamo creato Anche due fasce Che non ha creato Nessun comune Perché Tutti i comuni Hanno si elaborato La propria delibera Proprio perché Non hanno accettato La mia proposta Di fare Un unico metodo Per rispondere Al bisogno Ma hanno dato risposta Solo a coloro Che si trovavano Nel nuovo bisogno Di buono spesa Mentre noi Abbiamo permesso Con la stessa evidenza Di dare Prioritariamente Risposta A chi aveva Appunto Questa nuova necessità E quindi La condizione Sine qua non Anche per delibera Di protezione civile Doveva essere Il fatto Di non avere Ricevuto Altri contributi Pubblici Ma nel contempo Non abbiamo Chiuso il portale Ad altre Richieste Che abbiamo Soddisfatto Grazie alla bontà Di tante Donazioni Perché i 311 utenti Che hanno fatto Domanda Pur già percependo Reddito di cittadinanza O invalidità O altri Emolumenti Sono comunque Stati da noi Soddisfatti Completamente Quindi Nessuno È rimasto fuori Dalle domande Fatte Di questi Dobbiamo andare Orgogliosi Perché insieme Siamo riusciti Con tutti gli strumenti Messi in campo Giustamente Come diceva Laura A far fronte Alla prima fase Dell'emergenza Siamo tutti Consapevoli Aime Che non arrivando Delle risposte Dal nazionale Ci troveremo Costantemente A dover Affrontare Queste situazioni Di nuove necessità E benvenga Il contributo Di tutti Affinché si possa Essere sempre Più precisi Puntuali E vicini A coloro Che hanno bisogno Grazie Signor Sindaco A questo punto Ci sono Le dichiarazioni Di voto Chi vuole intervenire Consiglio del Bianco Vuole intervenire No grazie Presidente Intervengo Alla prossima pratica Dove tratteremo Perfetto L'argomento Non c'è problema Nella sua facoltà Qualcun altro Vuole fare Dichiarazioni di voto Non essendoci Altre Dichiarazioni di voto Partiamo Col tour Delle votazioni Quindi Chi non può O ha la voce Di un bambino Di due anni Scriva In chat Ecco Consigliere Ragni Per favore Scriva Consigliere Testa Lei scrive In chat Intanto Avevo chiesto Di farvi Prima Le presente Gobbi A telecamere Rotta Ok Allora procediamo Allora Lucioli Favorevole Entrambe Perfetto Allora Angelini Favorevole Entrambe Vedina Favorevole Entrambe Boschetti Favorevole Entrambe Carbonari Favorevole Entrambe Conti Io ero stato Troppo ottimista Aprire il microfono Così presto Favorevole Entrambe Del Pianco Favorevole Entrambe Frisotti Favorevole Favorevole Galassi Favorevole Favorevole Gambetti Favorevole Gobbi Favorevole Favorevole Imola Favorevole Entrambe Maionino Favorevole Entrambe Mussoni Favorevole Favorevole Pellegrino Favorevole Favorevole Pullè Favorevole Favorevole Ragni Ha scritto Favorevole Favorevole Ah perfetto Ce l'abbiamo fatto Si sentito Una volta E' chiaro Favorevole Ok Viva l'Italia Bene Ricci Favorevole Entrambe Rosati Favorevole Favorevole Testa Ho scritto Allora Testa Favorevole Per Entrambe Ha scritto In chat Ok Poi Conti Favorevole Entrambe Ok Tosi Favorevole Entrambe Ubaldi Assente Vandi Favorevole Tutte e due Vescovi Favorevole Entrambe Ok Allora Con 24 voti Favorevole L'unanimità Il Consiglio Comunale Approva E dichiara Immediatamente Eseguibile Possiamo appunto L'ordine del giorno Ratifica Deliberazione Di Giunta Comunale Avente oggetto Variazione Urgente Di Bilancio Di Previsione 2020-2022 Proponente L'assessore Santi Prego Assessore Grazie Presidente Voglio iniziare Dicendo che la nostra Amministrazione Anche con questa Delibera Prosegue Negli investimenti Nelle scuole Che sono Permettetemi Il punto principale Della nostra azione Gli investimenti Nelle scuole Per creare Edifici nuovi Più sicuri Più fruibili E più accessibili Non solo gli edifici Ma ricordo anche La fibra Che connette E connetterà In maniera veloce Tutte le scuole Come pochi Altri comuni In regione E in questi tempi È particolarmente Importante Anche questa possibilità Di connessione Ci siamo attrezzati Prima dell'emergenza Quindi questo È un vanto Che dobbiamo avere Come città La delibera Che andiamo a trattare Riguarda La realizzazione Di una nuova scuola In via Catullo La nuova scuola Di via Catullo Con un partner privato È un nuovo modo Di finanziamento Che è in uso In altri enti Che ha portato Benefici In ordine Al tempismo E alla qualità Che attendiamo Anche da questa operazione Ricordo che anche L'attuale governo Nel dicembre 2019 Ho letto qualche giorno fa Una dichiarazione Dell'attuale presidente Del consiglio Chiedeva di incentivare Questa modalità Come modalità Principe Per queste soluzioni E Cogliamo anche Favorevolmente Quello che la regione Ha dichiarato Cioè L'investimento Nelle opere pubbliche Deve essere svolto In maniera Più celere possibile E questo è uno strumento Che garantisce Questa celerità E questa opportunità Quindi ci attendiamo Che anche Da questo punto di vista Le minoranze Possano dare Un supporto importante In termini Di aiuto E non In termini Di Di polemica Ecco Perché Sono interventi Che riguardano Tutta la città Riguardano Le nostre famiglie E riguardano I nostri ragazzi Dovremmo tutti avere Un'unità di intenti E Da ultimo Posso dire Che Manteremo Il milione Duecentomila euro Che ci è arrivato Grazie Al ministero Quindi va ringraziato Il ministero Per questo contributo Di un milione Duecentomila euro Come ha detto Prima il sindaco È stato Viene poi Veicolato Dalla provincia In questi giorni I dirigenti Competenti Hanno fatto Delle verifiche E Non ci sono problemi Nel mantenimento Anch'io In commissione Avevo espresso La mia fiducia Sul mantenimento Del contributo E oggi Posso dire Che La soluzione Che abbiamo avviato Ci consenterà Quindi la costruzione Di una nuova scuola Più bella E più fruibile E anche Con il contributo Da parte del ministero Di un milione Duecentomila euro Che andrà ad abbattere Naturalmente Il costo finale Di realizzazione Vi chiedo Un voto favorevole Grazie Grazie Assessore Ci sono interventi? Grazie Rosati Davide È il intervento principale Manco lo vedo Essi Bisogna accendere il microfono Perché non la sentiamo Con il consigliere Rosati Dove è? Lo vedo È là Di canto conti Tra cosa Ah è là Ok Grazie presidente È che a volte Non appare il pulsante Ci mette un pochino No sale 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 Allora Il mio intervento Vuole solo chiarire Gli aspetti politici Della pratica in oggetto Visto che Gli aspetti tecnici Sono stati Già esaurientemente Spiegati dal nostro Precisissimo Assessore Dottor Luigi Santi Come sempre L'occasione È gradita Per ringraziare Porgere i complimenti Di tutta la maggioranza Al preziosissimo Lavoro dei tecnici E dei dirigenti Che come sempre Dimostrano di essere Una risorsa Insostituibile Per la città di Riccione La nostra amministrazione Sin dai primi mesi Del proprio insediamento Ha realizzato Un programma di investimenti Senza precedenti In materia Di edilista scolastica Per far fronte All'impellente esigenza Di adeguamento Strutturale E funzionale Delle strutture scolastiche Di nostra pertinenza Siamo così intervenuti Sui seguenti plessi Riccione Paese Ristrutturazione completa Dell'edificio Per un investimento Di un milione di euro Via Alghero Adeguamento sismico Della palestra Per renderla funzionale Anche ad altre scuole Via Capri Un ampliamento Per includere Cinque nuove aule La mensa Una palestra In grado di ospitare Duecento persone Il tutto costruito Secondo le normative Di edilizia ecosostenibile E quindi Questa è un'opera Utile anche a tutto Il quartiere Via Panoramica Abbiamo costruito Una struttura Di due piani Con biblioteca Mense e palestra Costruita sempre Secondo i criteri Di sostenibilità ambientale Tra l'altro Vincitrice anche Di un concorso nazionale E presa riferimento Come modello Di costruzione In via Catullo Una nuova costruzione Con cinque classi Palestra e uffici Sempre costruiti In un'ottica Di sostenibilità ambientale In via Ionio Abbiamo messo in cantiere La costruzione Di una palestra Identica a quella Di via Alghero Sempre con gli stessi standard Non va dimenticata L'imponente opera Di connessione A cui già fatto riferimento L'assessore Riguardo Dicevamo Alla connessione A rete internet Tramite fibra ottica Che abbiamo realizzato In tutte le scuole O gli evidenti benefici Ottenuti in questi ultimi Due mesi Di didattica a distanza Infine Ci teniamo a ricordare Come le scuole realizzate E da realizzare Soddisferanno E soddisfano Tutti i requisiti Affinché Anche i portatori Di disabilità Le possano vivere In totale sicurezza E soffrire Di ogni spazio Senza preclusioni Da quanto vi ho esposto Potete capire Quanto questa amministrazione Stia credendo E investendo Cospicuamente Su questo aspetto Perché vogliamo dare Le più alte garanzie Per gli edifici Dove crescono E si formano Le future generazioni Di ricionesi Vorrei cogliere L'occasione Anche per togliermi Qualche sassolino Dalle scarpe Perché la mia memoria Sebbene non raggiunghi I livelli impareggiabili Del nostro sindaco Certe cose Non le dimentica Mi riferisco A coloro Che ogni volta Che parliamo Di dirizia scolastica Mirano subito A disprezzare Svilire il nostro impegno Arrivando a dire Che in fondo Quello che stiamo facendo Oggi È il minimo sindacale Richiesto Che misteriosamente Non era altrettanto In vigore Prima della nostra Amministrazione È vero Che risultano Stucchevoli Confronti Con il passato Ma è anche vero Che non si può capire Il valore Di un intervento Se non si ha Un termine di paragone E per noi Il termine di paragone Può essere solo Il passato Allora andiamo a vedere Questo passato Cosa ci dice Guardando quello Che è successo Negli ultimi dieci anni In materia di Dirizia scolastica Riccione Emerge che l'unico Investimento di rilievo È stata la costruzione Della scuola Ex Fornace Che ha chiesto In cambio L'immolazione Della scuola Manfroni E in cambio di cosa? Di quell'operazione Un milione di euro Vanno mai considerati persi Per il fallimento Della società acquirente E non andiamo oltre Con le polemiche Riguardo i problemi Strutturali Funzionali Dalle ex Fornace Se poi aggiungiamo Che il programma Delle amministrazioni Precedenti Era quello Di vendere Sia le scuole Di via Cairoli Che di via Catullo Per fare ulteriori Operazioni immobiliari Potete capire Ancora meglio Quanto la nostra Amministrazione Abbia a cuore Questo tema Ci interessa anche Sottolineare Che oggi Anche la regione E lo stato Si sono accorti Di quanto L'edilizia scolastica Sia importante E quindi confidiamo Presto Di poter cominciare A parlare Anche dell'edilizia Per le scuole superiori In tal senso Abbiamo già sollecitato La provincia In merito Alla necessità Di un intervento Di rigenerazione Completa Della Pascoli Di una riqualificazione Del Volta E la definitiva Eliminazione Della Baraccopoli Del Baruffi Per capirci Per Baruffi Intendiamo L'ampliamento Delle aure del Fellini Che doveva essere Temporaneo Ma come sappiamo Il temporaneo È ciò che È più di Come dire Restabile Nel nostro paese Infine Riguardo alle polemiche Sulle forme Di finanziamento E sulle modifiche Che sono intervenute In corso d'opera Possiamo rassicurare Come ha già fatto Anche oggi L'assessore Possiamo rassicurare La nostra opposizione Che tali modifiche Non comporteranno Alcuna perdita Del finanziamento In quanto siamo In costante rapporto Con gli uffici ministeriali Al fine di garantire Il massimo rispetto Delle norme E per ottenere Il miglior risultato Possibile Con la minore spesa Possibile Concludo Spicando che In questo periodo Di grande difficoltà L'opposizione Mantenga in ogni ambito Uno spirito costruttivo E si unisca a noi Nella continua ricerca Di fondi E nella difficile lotta Contro la burocrazia Che sì È il vero e più grande nemico Alla buona e rapida riuscita Degli interventi Di edilizia scolastica Colgo l'occasione Per effettuare Anche la dichiarazione di voto Del nostro gruppo Che sarà Orgogliosamente positivo Grazie a tutti Grazie consigliere Consigliere del Bianco Vuole intervenire? Sì grazie presidente Il principale? No 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 presidente Ho sentito prima Con attenzione Quanto ha espresso L'assessore Santi In merito Chiaramente alla pratica E chiaramente In riferimento Non tanto all'opportunità E qui Apro una parentesi politica Di riqualificare i plessi scolastici Perché mi pare Un asset fondamentale In una comunità Che vuole darsi uno sviluppo Armonico E quindi Noi saremo sempre favorevoli Alla riqualificazione Chiaramente Delle nostre scuole Delle nostre strutture Delle nostre palestre Perché E' lì che si forgia La nostra comunità C'era stato Anche perché poi In quella commissione Partecipai io In sostituzione Del consigliere Carbonari Un forte dubbio Palesato anche Dalla dottoressa Farinelli Relativamente Al contributo Di un milione Duecentomila euro Che doveva supportare Quell'investimento E Prima L'assessore Ci comunica Che ci sarebbero state Delle rassicurazioni Ora Dato che è una discriminante Assolutamente fondamentale Essere a conoscenza Di queste rassicurazioni Perché Per quanto ci riguarda Noi ci dobbiamo Attenere Ad atti formali A quanto viene scritto Nero su bianco Dai ministeri O dagli enti Che forniscono Supporto finanziario Volevo chiedere Proprio All'assessore Santi Se poteva Cortesemente Leggere in consiglio Comunale Eventualmente Una risposta formale Del ministero Perché questo aiuterebbe Parecchio Lo sviluppo Del dibattito A seguire E anche Una votazione Più Completa E più cosciente Di questa pratica Dato che Non lo sto a ricordare Ma Giusto perché Magari i cittadini Ascolteranno Il consiglio comunale Pare che La formula finanziaria Che è stata utilizzata Per la prima volta Dal comune di Riccione Per realizzare Questo intervento Di riqualificazione Della scuola Catullo È una formula Abbastanza Nuova Nel senso che Non è Un'operazione Classica Dove si In prima persona L'ente Mette a Ricostruire O a ristrutturare Che dir si voglia La scuola Catullo Ma Tecnicamente Cede La proprietà Della scuola Catullo Per un determinato Numero di anni E ripagando Dei canoni Rientra in possesso Se non erano In 25 anni Del bene Una volta Che questo piano Finanziario Si chiude Lo dico Per i cittadini Che ascoltano Perché è una formula Tecnica Che si chiama Lisi incostruendo Nuova E siccome c'erano state Queste perplessità Che l'assessore Ha in qualche maniera Nella sua esposizione Voluto in qualche maniera Rassicurare il consiglio In merito A un chiarimento Del ministero Volevo sapere Se era possibile Leggere in questo In questo contesto Qui in consiglio comunale Queste rassicurazioni Perché queste Darebbero chiaramente Una visione Molto più chiara Della pratica Grazie 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 No Aspetta Mi sto spegnendo La televisione No No Ok Non trovo No Lo farò che qui Scusate Mi si spegneva Il monitor Prego Qualche altro intervento Consigliere Ricci Prego A breve Rizzone avrà Tutte le scuole nuove Riconificate E messe a norma Andranno a compimento La panoramica A Catumbo La Capri E la palestra Fratelli Cervi Di via Ionio Per la scuola elementare Di via Catumbo Si è fatto ricorso Ad una forma Di cooperazione Tra pubblico E privato Il partenariato Capace di attrarre Maggiore risorse Di investimento E di competenze L'amministrazione Ha effettuato La gara Che ha consentito Di individuare Il futuro soggetto Finanziatore Che ha poi Elaborato Il progetto Definitivo Esecutivo Il soggetto Finanziatore Si è assunto L'onere Della consegna Dello stabile A con auto Concluso E l'obbligo Della manutenzione Durante L'arco Temporale Di vent'anni Il futuro Il futuro Oppresso Sarà realizzato Ex novo A due piani Con sottotetto E sarà Completamente Ispirato Ai medesimi Principi Della scuola Panoramica Rigenerazione Urbana Sostenibile Con un approccio Didattico Orientato A un modello Pedagogico Di Gianfranco Zavarmoni Nel piano Triennale Dei lavori Pubblici 2019 21 Viere Elementare Di via Cattumo Con 3 milioni Di euro Di cui 2 milioni E mezzo Nel 2020 E 500 mila Nel 2021 Oggi Portiamo In consiglio Una ratifica Della Atto Di giunta Nel bilancio Di previsione 2020 22 Di euro 50 mila Si sono Bruciati I templi E il compimento Dei lavori Della scuola Elementare Di via Cattumo Sono notevolmente In anticipo Questo È un merito Che vogliamo Riconoscere All'amministrazione Scuola Che c'è Si è dedicata Fortemente Avremo tutte le scuole Praticamente In grado Di A tempo Importante Anche il contributo Di euro Milione e due Ricevuto Dallo Stato Visto il regolamento Di contabilità E parere favorevole Del dirigente Grazie a tutti Consigliere Conti Vuole intervenire lei Grazie Grazie presidente Sì Io Ho parecchi dubbi Perché Fino a ieri Non c'era nulla Di Questa opportunità Che oggi Di cui oggi Ci parla Santi Però Se c'è Qualche atto Del MIUR Che ci dica Che quel contributo È compatibile È un discorso Perché Qui noi stiamo E votiamo Su atti Se invece Ha degli accordi Con il MIUR Sta prendendo contatti È un altro discorso Perché A oggi Dagli atti Che abbiamo Non è un contributo Non è un contributo Compatibile Oggi In cui andiamo A votarlo Con quel tipo Di Finanziamento E di costruzione Della scuola Quindi Se ci sono Dei documenti nuovi Che attestano Questo È un discorso Altrimenti È molto difficile Affrontare Questo tipo Di Di Ragionamento Anche perché Io lo voglio ripetere Noi votiamo Degli atti E andiamo a votare In questo momento Degli atti Dovremmo votare Degli atti Che presuppongono Anche delle responsabilità Nostre E quindi Se sono supportati Da documenti Va bene Ma se Sono semplicemente Contatti col ministero Noi A oggi Noi A oggi Abbiamo un metodo Di finanziamento Dell'intervento Che non è compatibile Con Il finanziamento Del ministero Ok Quindi è Inaccettabile Andare a fare Una variazione Di questo tipo A meno che Ripeto Non ci siano Degli atti O delle comunicazioni Del ministero Che ci dicono Oggi Che andiamo a votare Questa cosa Che è compatibile Se ce lo girano domani È un altro discorso Ma oggi Se non ci sono È una pratica Con la quale Non si può Noi non possiamo Prenderci una responsabilità Del genere E votarla Ok Siccome Ci sono altre forme Per andare A prendere Quei soldi A questo punto È anche Da pensare L'idea Di Vedere se si può cambiare Se quel contributo Non è fattibile È un contributo Troppo importante Per noi Come la riqualificazione Delle scuole E quindi Se siete sicuri Di andarlo a prendere In questo modo E che oggi Sia già compatibile Con questo modo Ma ci devono essere Degli atti Possiamo anche Votarlo Ma se quegli atti Non vengono palesati In questo momento Per noi Non è possibile Votare Questa pratica In modo favorevole Per quanto Ci piacerebbe molto Ma questi atti Li vogliamo vedere Perché fino a ieri Non c'era nulla Se avete preso contatti Col Ministero Per lavorare Benvenga Ma a questo punto Ne parleremo Quando il Ministero Darà una risposta Se non l'ha già data Perché venire fuori Oggi Che è diventato Compatibile Mi va bene Ma noi votiamo Degli atti Non votiamo Dei rapporti Personali O degli iter Che sono appena iniziati Noi abbiamo bisogno Che quegli iter Siano conclusi E di avere delle certezze Perché comunque Se io voto Questa pratica Mi assumo Una responsabilità E quella responsabilità Voglio che sia Tutelata dagli atti Non dalle parole Quindi se li avete Per cortesia Li rendete noti adesso Prima della votazione Altrimenti Non possiamo Assolutamente Seguire semplicemente Quelle che sono Delle relazioni O l'inizio di un percorso Che fra l'altro Ci auguriamo Che anche nel caso In cui non cambiasse Questa forma di costruzione Vadano a buon fine Perché il Comune di Riccione Non può permettersi Di perdere Un milione e due Soprattutto di questi tempi Perché se Di questi tempi Un milione e due Equivale A molto di più Di qualche Di qualche tempo fa Con la situazione che c'è Grazie mille Grazie consigliere Ci sono altri interventi? Ci sono altri interventi? Non vedo nessuna mano Io Gabriele Andruzzo di Cristian Ah non ti vedevo Scusa Prego Intervento principale? Sì signor Presidente Prego Grazie Presidente Mi sentite? Anche io Volevo sottolineare L'importanza Di avere contessa Del fatto che Il finanziamento Di un milione e due Del Ministero Sia effettivamente Compatibile Con la formula scelta Dal Comune di Rizzone Perché chiaramente Il nostro voto Dipende Da Quella posta E quindi Sarebbe gradito Avere Contessa formale Volevo anche Sottolineare Che Chiaramente Tutti Siamo favorevoli Alla Ristrutturazione Alla Ripetificazione Di tutti i plessi Scolastici E anche nel Consiglio Comunale I precedenti Penso che Tutti quanti Abbiamo sostenuto Queste iniziative Che ricordo Chiaramente Vanno nell'interesse Di tutti Così come Chiaramente Tutti i passati governi Almeno Gli ultimi Insomma Degli ultimi Quelli Che ci sono succeduti Negli ultimi Cinque Sei anni Hanno comunque Incentivato E messo a bilancio Le risorse Per andare incontro Alla necessità Degli enti locali Di riformare Insomma Di Ristrutturare le scuole Quindi Da una parte Io rimango Anche un po' così Lo devo dire Con molta pacatezza Però Lo voglio dire Un po' basito Dalle parole Del consigliere Rosati Che io Capisco Tra l'altro Ho anche stima personale Nei suoi confronti Per cui Era proprio Una questione politica Questa Io penso Che Dobbiamo fare uno sforzo Io capisco Che purtroppo Il discorso politico In generale Ma soprattutto Anche in questa città A volte assume Dei toni E diciamo Troppo duri E anche uno scontro Che poi non permette Il dialogo Tra le persone Quindi a me Questo dispiace Perché poi È un clima Che si ripercuote Anche Tra le persone comuni Che poi hanno Chiaramente Le loro opinioni politiche E guardano noi Che siamo quelli Che in qualche modo Dentro l'istituzione Ci facciamo Portatori Di quello che È la nostra visione politica E della nostra proposta Per la città Quindi io Ecco Penso e invito tutti Anche su questi temi qua Dove è necessario Chiaramente La volontà E come dire Proprio Lo spirito Di comunità Perché nelle scuole Ci vanno I figli di tutti Perché l'interesse Di avere i figli In sicurezza In una scuola È l'interesse Di tutti Di nessun colore politico In particolare Così come di avere Un'istruzione di qualità Così come avere Tutte le istruzioni pubbliche Che funzionano Quindi io Sono sempre in buona fede Nei vostri confronti Rispetto a queste scelte Così vorrei che sia anche rispettata Anche la parte della minoranza Come dire Che su queste cose qui Devo dire È sempre stata favorevole Vi è sempre stata al fianco È chiaro che in questo momento Avete voi Chiaramente L'onore E l'onere Di guidare la città Dal punto di vista Delle scelte amministrative Chiaramente È nostro Onere Chiaramente Controllare Per quello che deve fare Chiaramente Una minoranza Così come è stato fatto in passato Dalle minoranze prima Chiaramente Ma anche stare vicino All'amministrazione Quando fa Scelte Come dire Che sono condivisibili Per l'intera città Detto questo Su questa Su questa pratica In particolare Su questa variazione Voglio ricordare Che noi Il voto Viene richiesto Per impegnare Diciamo Il primo canone Di spesa Che andrebbe Alla società Che si Ha giudicata Il bando Ricordo Perché ho chiesto In commissione Che ancora Non è stata firmata Nessuna convenzione Con la società Quindi noi stiamo impegnando Preliminarmente L'importo Per poi Tra l'altro Per L'esercizio Esercizio 2021 Quindi Io avrei Avrei gradito Essere arrivato Questa votazione Avendo Da una parte Almeno La piattaforma Contrattuale Su cui il comune Poi andrà Chiaramente A fare il contratto Vero e proprio Per la società Che sia giudicata Questo bando Dall'altra Avere contesto Di quel Di quel finanziamento Perché Chiaramente Secondo me È importante Perché Altrimenti Anche Penso che In primis La giunta E poi Il consiglio comunale Deva valutare Se quel finanziamento Dovesse non essere compatibile Chiaramente È una soluzione Alternativa Per mantenere La certezza Di quel finanziamento Ecco Quindi Se L'assessore O il sindaco Possono darci Questa certezza Io insomma Sarei contento Così posso Anche formare Il mio voto In maniera Consapevole E completa Con le informazioni Disponibili Grazie Grazie Consigliere Andruccioli C'è qualche altro Intervento Da parte Di consiglieri? Non essendoci Altri Interventi Do La parola All'assessore Prego Consigliere Conti Volevo intervenire Assessore Prego Eccomi Grazie Allora Il bando Che ricordo È uscito È stato pubblicato A luglio Del 2019 Contiene Tutti gli elementi Per soddisfare Le richieste Del ministero Al fine Di erogare Il contributo E qui Devo ringraziare I dirigenti Che lo hanno Predisposto Quindi la dottoressa Farinelli E l'ingegner Bonito Perché hanno Previsto Tutte le possibilità E quindi Posso dire Che non perderemo Nessun contributo Avere dei tecnici Così preparati Ci permette Veramente Come dico Sempre Di dormire Sonni Assai tranquilli Perché Danno tutte le garanzie Possibili Non solo All'aggiunta Ma anche A tutto il consiglio Comunale Quindi Ripeto Li ringrazio Non Quindi non rinunceremo Al contributo Ma Nel bando Ci sono gli elementi Per soddisfare Le richieste Del ministero Eventuali richieste Del ministero Gli atti Mi rivolgo Ai consiglieri Intervenuti Sono Tutti pubblici Possono essere Consultati Quindi non ci sono Irregolarità Non ci sono Situazioni Di ombra Ma situazioni Di atti Che sono Perfettamente Riscontrabili A partire da questa delibera Il bando Per l'affidamento Ci sono le determini Ci saranno Poi vari atti successivi Non c'è Niente Di oscuro E questa è una cosa Importante Che va messa in chiaro Quindi ripeto La nostra volontà È quella di realizzare Bene presto Con i contributi Che ci arrivano Alle scuole E ci aspettiamo Che anche la minoranza Abbia fuori questi principi E voglia come noi Arrivare a fare A realizzare E non voglia Ritardare O rinviare Credo che sia Debba essere Come ho detto all'inizio Un obiettivo comune A tutta la città E a tutto il consiglio comunale E quindi La collaborazione È assolutamente Importante In questa fase Grazie Grazie Assessore Sindaco Vorrei intervenire Sì Io A fianco Agli ringraziamenti Dell'assessore Anche i miei Perché la nostra Macchina amministrativa È una macchina Attenta Puntuale E precisa Che per l'appunto Non Sul quale Non solo Non ho nessun timore Ma che ci permette Di avere Appunto Anche in questi Atti particolari Nuovi Massima serenità Avete sottolineato il fatto Che siamo andati a ricercare Anche una formula Di finanziamento Per realizzare la scuola Quella appunto Del project financing O meglio Del progetti di finanziamento Del leasing finanziario Meglio detto Che è veramente poco utilizzato E ce ne dispiace Ma siamo andati a ricercarla Vorrei ricordare Nell'ambito del codice Dei contratti Quindi è una pratica Sicuramente poco utilizzata Ma assolutamente Possibile Congra E utile Per poter realizzare Anche scuole E quindi anche impianti pubblici Veramente molto importanti Dal punto di vista Politico Quindi anche per la novità E la procedura Così innovativa Ringrazio oltremodo Tutto lo staff Tecnico E dirigenti In modo particolare La dottoressa Farinelli E l'ingegner Bonito Perché proprio è Di fronte a queste Particolari situazioni Che insieme Con il lavoro di squadra Si riescono a trovare Tutti gli strumenti Utili e necessari Per fare Cose E quindi per andare A realizzare Nel caso di specie Un'importantissima Infrastruttura Che è quella Scolastica E a questo proposito Voglio sottolineare Dall'intervento Del consigliere Rosati L'importanza In questi anni Della Della nostra attenzione Sull'edilizia Scolastica E che come diceva Anche il consigliere Ricci Noi abbiamo Puntato E voluto Sin dall'origine Qualcuno Ricordo bene Cita ciò Di un atteggiamento Ordinario Nel pensare Alle opere pubbliche Per la città Ma forse Siamo stati Avvenieristici Perché Oggi Più che mai Sia lo Stato Che la Regione Ci hanno appunto Chiamati E interpellati Per comprendere Se ci sono Appunto Scuole Da mettere A sistema Scuole Da innovare Sismicamente Scuole Da rinnovare Energeticamente E scuole Da rinnovare Anche negli spazi Esterni E pubblici Quindi credo Che la nostra Scelta politica Che è quella Appunto Che è stata Sin dall'inizio Di regalare Insieme Regalare Tra virgolette Alla nostra Città Un'edilizia Scolastica Nuova Forte E capace Di ospitare Quella che è la parte Più importante Della nostra popolazione Senza mantenere Secondi nessuno Ma che è quella Dei bambini Della cultura E della loro crescita Io per questo Ringrazio La mia maggioranza E il lavoro Di tutto lo staff Tecnico Fatto A questo proposito Giusto per chiudere Vorrei sottolineare Come anche noi Come amministrazione Abbiamo sempre Parlato Di bambini Di cultura E di scuola Quando invece Come vedete Nelle mille occasioni Che abbiamo avuto Per sentire Il nostro governo E il presidente Del consiglio In modo particolare Diciamo che Il grande sconosciuto Dai suoi interventi Sono stati appunto I bambini E la cultura Quindi da questo punto di vista Mi dico Mi dissocio Da uno Stato Che non Mette al primo posto La cultura La scuola E la riapertura Con forza E con determinazione Dei luoghi Nei quali si fa cultura Perché non parlare Di scuola In questi giorni È secondo me Il grande peccato Grazie Signor Sindaco A questo punto Passiamo Le dichiarazioni Di voto Consiglieri Per venire Prego Consigliere Conti Lei vuole fare Di dichiarazione Di voto Sì Solo perché Prima ho lasciato Aperta La possibilità Di due voti Differenti A seconda Della produzione Di documenti O no E volevo chiarire Solo quello Posso Presidente Lei avrebbe Sarebbe già intervenuto Consigliere Potrebbe intervenire La Consigliere Carbonari Sì ma È solo perché Avevo detto Nel caso Avevo due voti diversi Volevo solo precisare Quale sarà il voto Tutto lì Se è possibile Se no non importa Voto e basta Non è un problema Presidente Assolutamente Non è niente Precisiamo Tanto Precisi pure Consigliere Guardi Il nostro voto Noi abbiamo chiesto Appunto Che fosse Palesata La documentazione E non Quella del bando Per cui Sappiamo già Perfettamente Che oggi Non è compatibile Con quel tipo Di finanziamento Il leasing In costruendo E quindi Il nostro voto Purtroppo Purtroppo Sarà Contrario Avremo Avuto molto Piacere Di votarla Positivamente Però Abbiamo avuto Solo Rassicurazioni Che Andrà Tutto bene Ma gli atti Purtroppo In questo momento Non danno Quella direzione E quindi Il nostro voto Sarà Purtroppo Contrario Grazie Presidente Anche Dell'opportunità Di chiarire C'è qualche Altra Dichiarazione Di voto Consigliere Vescovi Io Presidente Scrivo Nella chat Ma Leo Non guarda La chat Non vede I miei messaggi Va bene Allora Partirei da questo Noi abbiamo È stata fatta una domanda Molto precisa All'assessore Santi Gli è stato chiesto Di leggere il documento Del MIUR La risposta è stata Non rinunceremo Al contributo Quindi non ci sono Elementi di certezza Sulla parte fondamentale Di questa pratica Che credo intervenga Anche Sulla validità Dei pareri Espressi A sostegno Di questa pratica In aggiunta Come ricordava Il consigliere Andruccioli Ci sono anche Dei temi Di sottoscrizione Contrattuale Io credo Che negli interesse Di tutto Il consiglio comunale Di tutti i consiglieri A salvaguarda Della responsabilità Espressa con il voto Ci sarebbero Tutte le condizioni Per poter ritirare Questa pratica E riportarla In consiglio comunale Quando si avranno Elementi Di maggiore certezza Perché servono Le certezze In questo caso Perché anche L'atteggiamento Ostentato Di finta sicurezza Di un assessore Al bilancio Che si assume La responsabilità Di venire a dire A questo consesso Che è un consesso Istituzionale Che rappresenta Le persone Abbiamo ottenuto Il contributo Dal MIUR E poi Messo davanti Ad una domanda Precisa Chiara Inequivocabile Non risponde Ed ovvia Dicendo Non rinunceremo Al contributo Non può essere Un elemento Fondante Per la costruzione Di una determinazione Di voto Ci sentiamo Presi In giro Io credo Che quella Certificazione Del MIUR Deba essere Un allegato Di questa pratica Io ritengo Ci siano E penso Ci siano Le condizioni Per poter Rinviare Onestamente Tutto il pippone Da campagna elettorale Del sindaco Dei suoi consiglieri Ci è anche Un po' stancato Noi quella scuola La vogliamo E la vogliamo Costruire Ma la vogliamo Costruire Senza prenderci Responsabilità Che sono In questo momento Non certificate In termini Di sicurezza E di validità Dei pareri Della costruzione Della pratica Usciamo Per favore Della campagna elettorale Cominciamo a fare Consiglieri comunali Come ci è chiamato E ci è chiesto Di fare Se si può valutare Insieme Una mozione d'ordine Sul rinvio Della pratica Io pongo Questa come Mozione d'ordine Se il presidente Non riterrà opportuno Raccogliere Questa mozione d'ordine Sempre nell'intento E nello spirito Costruttivo Di far bene Le cose Perché voi siete Molto bravi A raccontare Che siete bravi Siete molto bravi Ad essere Costantemente In campagna elettorale Anche in un momento Drammatico Come questo E mi permetto Di dirvi Che dovreste Astenervi Nel rispetto Delle persone Però siete forse Un pochino Sono meno capaci Di dare rassicurazioni Sulla correttezza Formale degli atti A questo punto Se non viene accettata La mia mozione d'ordine Anche il PD Esprimerà Un voto contrario Come Ho specificato Più volte Nel corso Dei vari Consigli comunali Che abbiamo Tenuto in questi anni La Luogo Specifico Per Domande Tecniche E Cose Pratiche Non è Il consiglio comunale Ma è la commissione Sono stati Dei catti Medici Consigliere Sto parlando Io Grazie Scusi Non l'ho interrotta La commissione Se non è stata Sufficientemente Esaustiva È nel vostro diritto Chiedere Un'ulteriore commissione O ulteriori Specifiche Esaustive Quindi La pratica È arrivata In consiglio comunale È arrivata Tramite la commissione E tramite Il percorso Che fa Normalmente Quindi la pratica Come Come tale Viene votata In consiglio comunale Ogni gruppo politico Ha L'opportunità Di votarla Come crede Nessuno Vi sta Lì Con la pistola Alla testa Per chiedere Cosa dovete votare Siete Tutti Adulti E maggiorenni Per poter fare Questa cosa Detto questo Ci sono Altre Dichiarazioni Vi voto Non ci sono Non ci sono La testa Prego Tematiche di oggi Ma faccio tra computer E cellulare Perché al computer Non mi viene concesso Il microfono Quindi Momentaneamente Sono dal cellulare Allora Innanzitutto Volevo precisare Che come consigliere Vescovi Ricorda che siamo In un consenso comunale E glielo vorrei ricordare Anche io Perché Sentire dire Che il sindaco E i consiglieri Fanno dei pipponi Lo trovo Alquanto offensivo E poco professionale Detto questo Volevo precisare Che Forza Italia È assolutamente Favorevole All'adozione Della pratica E al buon operato Che costantemente Effettua l'amministrazione Grazie C'è Qualche altra Dichiarazione Di voto Non ci sono Altre Dichiarazioni Di voto A questo punto Vedo Che si sta Pernotando Qualcuno Alta la mano Scusate Ma C'è un po' Di confusione Se vi muovete O alzate la mano C'è qualcuno Che deve intervenire Consigliere Poulet Prego Mi sentite Sì Adesso Sì Prego L'intervento Del consigliere Vescovi Secondo me È grottesco È grottesco Perché Consigliere Vescovi Interviene Su di una scuola Che Ricordiamolo bene Il PD E il consigliere Vescovi Voleva Vendere Cioè Forse Noi non ci ricordiamo Quello che è successo In questa città Perché Si fa presto Sempre a dimenticare La storia Di questa città Ma la storia Di questa città Si fonda Sulle cose Che venivano Fatte In questa città Quella scuola Doveva essere Venduta Alienata Dovevano venire fuori Probabilmente Degli appartamenti Questa è La storia Di questa città Ok Non parliamo Delle manfroni Che sono diventate Appartamenti Ma anche La Catullo Dovevano diventare Appartamenti Doveva essere Venduta Ok Fortunatamente Non si è venduta Ora noi Ci siamo presi L'impegno Già in campagna Elettorale Di andare Attraverso Un percorso Di rinnovazione Di tutti gli edifici Scolastici E lo stiamo facendo In tutti gli edifici Scolastici E oggi Cosa dobbiamo Ascoltare Questo Scusatemi però È veramente Veramente Difficile Ascoltare Queste cose Poi per carità Ogni consigliere Può assolutamente Dire tutto Ma la storia Di questa città È la storia Di questa città E questo Deve essere Sempre rimarcato Stanno Parlando Le persone Stanno parlando Le persone Che quella scuola La volevano Vendere Volevano farne Degli appartamenti Io non dico altro Grazie Ci sono altri interventi No Non può intervenire Allora Non essendoci altri interventi Pongliamo in votazione Alla pratica Consiglieri Lascia la parola Allora Consigliere Adesso Vi dichiarazioni Non sono fatte Personale Fatte personale Può essere Se la offende Qualcuno O se la sua abilità Di persona Viene Mi scusi Consigliere Ma non è così Che funziona Ha detto La bugia Sul mio conto Quindi Io chiedo Per fatto personale No Mi dispiace Consigliere Non sono d'accordo Non mi interessa Atena La bugia Sul mio conto Riguardo Ok Poniamo in votazione Purtroppo Consigliere Non sono d'accordo Mi dispiace Ma non funziona così Sono io Che do la parola Quindi Vi chiedo Cortesemente Di passare Alle votazioni Lascio la parola A Secretaria Comunale Per l'appello Allora Andruccioli Voto contrario Per entrambe Angelini Svenuto Favorevole per entrambi Angelina ha scritto Allora Ha scritto Favorevole per entrambi Boschetti Favorevole per entrambi Cargonari Vedina prima Grazie Scusate Vedina Favorevole per entrambi Perfetto Allora Boschetti Ha già fatto Carbonari Cargonari Per entrambi E non ho sentito Contrario Contraria per entrambi Perfetto Conti Contrario E contrario Del Bianco Purtroppo Contrario Per entrambi Frisotti Favorevole Favorevole Galassi Favorevole Favorevole Gambetti Contrario 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 Gobi Contrario Contrario Imola Contrario Contrario Maiolino Favorevole per entrambi Mussoni Favorevole Favorevole Pellegrino Favorevole per entrambi Fulè Favorevole Favorevole Ragni Favorevole Favorevole Ricci Favorevole per entrambi Rosati Favorevole Favorevole Testa Favorevole per entrambi Favorevole Conti Favorevole Favorevole per entrambi Tosi Favorevole per entrambi Vandi Favorevole tutte e due Vescovi Contrario ad entrambe Bene, con 15 voti favorevoli e 8 contrari la pratica è stata votata favorevolmente e dichiarata immediatamente eseguibile Passiamo al prossimo punto all'ordine del giorno che è rinegoziazione mutui, cassa, depositi e prestiti e sensi della circolare al 1300 del 23 aprile, proponente l'assessore Santi, prego assessore. Eccomi, eccomi presidente, grazie. Allora portiamo questa delibera con la quale attraverso la rinegoziazione dei mutui che abbiamo in essere con la cassa depositi e prestiti potremmo avere un risparmio di 1 milione e 500 mila euro sui 30 milioni di mutui che abbiamo ancora da rimborsare con la cassa. La rinegoziazione porterà un risparmio dal punto di vista degli interessi, quindi minori interessi nei prossimi anni e le date rimarranno immutate. Quindi è un'operazione che tutti gli enti stanno facendo perché ha delle condizioni importanti anche visto il periodo e vista l'emergenza che abbiamo, che stiamo subendo, l'emergenza sanitaria. Il nostro ente se ne avvale, così come si è avvalso anche della sospensione di alcuni mutui in essere con istituti bancari, mediante la convenzione che l'ABI ha formulato con lo Stato. Quindi andremo a sospendere anche i mutui che abbiamo con credit agricol, con Intesa, con Unicredit, Banca Malatestiana e il credito sportivo che ci permetteranno insomma di avere un altro risparmio quantificato nel milione e mezzo, milione e sei, milione e sei cento mila euro. Rimangono così, facciamo un'operazione di trasparenza ai massimi livelli, rimangono i BOC, buoni ordinari comunali che risalgono ai primi anni del 2000, che sono difficili da rinegoziare perché l'istituto che li deteneva è fallito. Quella è una modalità che purtroppo oggi ci porta dei problemi, parliamo di circa due milioni e sei cento mila euro, come è stato anche detto dalla dirigente in commissione e dobbiamo quindi valutare ancora la possibilità di poterli o estinguere o comunque sospendere il pagamento delle rate. Ricordo che il decreto rilancio prevede la possibilità di arrivare alla rinegoziazione dei mutui anche solo con delibera di giunta comunale, noi oggi portiamo la pratica della Cassa Depositi e Prestiti e con la mia relazione anche con le banche, la portiamo in questo consesso, quindi Consiglio Comunale, ripeto, per trasparenza e anche per informare il Consiglio e i consiglieri dei passaggi che si stanno portando avanti. Chiediamo quindi un voto favorevole. Grazie. Grazie Assessore. Ci sono prenotazioni da parte dei consiglieri? Consigliere Ricci, prego, è l'intervento principale? Sì, sì. Ricci chiede di intervenire. Consigliere Ricci, deve accendere il microfono. Ce la fa consigliere? Passiamo, consigliere Ragni, intanto lei ci prova a accendere il microfono. Consigliere Ragni, l'intervento principale? Anche lei, consigliere Ragni, deve accendere il microfono. Eccoci, mi sentite? Prego, consigliere. Grazie, grazie presidente. Allora, purtroppo questo maledetto virus ha picchiato duro anche nella nostra provincia, con oltre 2.000 contagiati e 227 morti, non risparmiando Riccione, dove si sono registrati oltre 250 contagi e purtroppo 35 decessi. A tutte le famiglie riccionesi colpite va tutta la nostra vicinanza e soprattutto vanno le nostre preghiere. Questo preambolo lo faccio perché siamo qui per questo, purtroppo. Questo tsunami che ci è venuto addosso, siamo qui. Entrando più nel merito del punto di discussione, volevo un attimo esplicitare il nostro parere. Sui mutui con la cassa depositi e prestiti, come diceva l'assessore Santi, ci sono condizioni standard che ci permetteranno di risparmiare per il 2020 circa un milione e mezzo di euro, senza allungare la durata dei mutui, ma anzi andando ad applicare negli anni successivi al 2020 un tasso più favorevole per il comune. L'aggiunta ha poi deliberato l'altro ieri un'ulteriore sospensione dei mutui con i cinque istituti di credito, che poco anzi l'assessore Santi ha detto, che porteranno alto risparmio. Ma ancora non basta, purtroppo, per sorperire, a mancate entrate per dare risposte a famiglie ed imprese. Finora, per gli enti locali, l'esecutivo nazionale ha fatto poco e male. Come anche sottolineato da molti amministratori del PD, che stanno facendo maggioranza ed opposizione, tentando a maldestramente di cavalcare il malcontento contro un governo PD, che non sta dando le risposte che il Paese chiede a gran voce tutti i giorni. Serve un cambio di passo per dare ai comuni le risorse essenziali per garantire quei servizi fondamentali, oggi a rischio, in tutti gli enti. Ci aspettiamo che il governo faccia di più. Il governo, appunto, penso che abbiamo il peggior governo nel peggior momento della nostra, della storia moderna. Oltre 750 provvedimenti, contando tutte le ordinanze regionali, in poco più di 100 giorni. Annunci a reti unificate all'ora di cena. Gli elargezioni di danaro a destra e a manca, balletti di responsabilità, indecisioni, ritardi e tantissima vana gloria. Il governo delle quattro sinistre, come l'ha definito Silvio Berlusconi, si è mostrato per quello che è inadeguato. Chiudo con una citazione del professor Massimo Cacciari, non certo iscritto alla Lega, che dice Il fine della sinistra è solo il governo, ma arrivataci non sa cosa fare. Chiaramente il nostro voto sarà favorevole. Grazie. Grazie consigliere Ragni. Proviamo col consigliere Ricci. Il consigliere Ricci è in grado di accendere il microfono? Non è in grado? Andiamo per chiedere un altro consigliere. Qualcun altro vuole intervenire? Diamo per l'ascoltato l'intervento del consigliere Ricci. Aspetta un attimo, prova tu. Io non posso, non mi 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 posso. C'è qualche altro consigliere che vuole intervenire? Io sto facendo mele tecnico, mele tecnico, mele linea per i consigliere Ricci. Eccolo, eccolo. Ce l'abbiamo fatta. Eccolo. Rinnegoziazione dei mutui e cassa depositi e prestiti. La cassa depositi e prestiti, a partire dal 6 maggio, ha dato vita ad un'importante operazione di rinegoziazione dei mutui, 34 miliardi. L'obiettivo è quello di consentire ad enti e amministrazioni di liberare risorse per fronteggiare l'emergenza sanitaria. Sono così coinvolti oltre 7.200 enti territoriali e si potranno liberare risorse fino a raggiungere 1 miliardo e 400 milioni di euro che andranno a sostegno di pubbliche amministrazioni nel contesto dell'emergenza coronavirus. La giunta comunale di Riccione ha approvato il 12 maggio una rinegoziazione dei mutui presso la cassa depositi e prestiti ai sensi della circolare 1.300 del 23 aprile 2020. Il provvedimento dà avvio alla rinegoziazione dei mutui e prestiti presso la cassa depositi e prestiti per un importo di 30 milioni di euro con un risparmio per le casse comunali di 1.500.000 euro. Si otterrà un tasso di interesse più basso, le rate non saranno allungate e i mutui avranno scadenza a 31 dicembre 2043. Altre rinegoziazioni con altre banche sono previste prossimamente, quali Banca Intesa, Credit Agricole, Unicredit, Banca Molotestiana. La rinegoziazione dei mutui offre una iniezione di liquidità. Andrà ad aumentare le risorse che l'amministrazione sta acquisendo per poter essere sempre pronta a residenze dei cittadini e delle imprese, come lo è stato per il recente esonere delle rette di aprile, dovuto alla sospensione dell'attività dei nidi e delle scuole di infanzia e anche per il resonero COSAP per le attività fino al 31 ottobre. Grazie. Grazie consigliere Rizzi. Non vedo altre persone che vogliono intervenire, altri consiglieri. Consigliere Del Bianco, vuole intervenire lei? Sì, grazie Presidente, due parole. Non ho ancora detto, oggi sarò breve Presidente. No, allora, due parole le voglio dire. Bene e giusta l'operazione di rinegoziazione del portafoglio dei prestiti, dei mutui che ha in capo l'amministrazione, perché è opportuno farlo e perché le condizioni sono oggettivamente di vantaggio. Questo senza dubbio. Interessante la riflessione sui BOK che sono in portafoglio. e lì sarebbe davvero da attivare la macchina comunale, perché se ci fosse la possibilità di riacquisire quei titoli e anche eventualmente di mettere delle poste per stracciarli, o per poi rinegoziarli, non sarebbe assolutamente un'operazione trascurabile, visto che è vero che hanno una scadenza breve, ma molto pesante sul bilancio comunale in termini di ammortamenti, quindi di impegno di risorse. Perché c'è un fatto, io parto anche dalla considerazione che ho fatto nella mia question time relativa alla quantificazione eventuale di quanto il bilancio comunale nei prossimi mesi verrà assegnato da questa crisi indirettamente, perché sarà assegnata sicuramente la nostra di economia, il nostro tessuto, ci saranno dei mesi a venire, probabilmente degli anni, dove la nostra struttura di bilancio vivrà un necessario assestamento. E visto e considerato che gli investimenti andranno fatti, si dovrà pianificare in modo molto oculato sicuramente le priorità. Credo che sia abbastanza condivisibile un ragionamento su quelle che diventeranno le priorità relativamente agli investimenti. Come ho detto in altri momenti, in altri dibattiti, quando si parlava proprio di investimenti, ho anche stimolato e suggerito l'idea, visto che il nostro bilancio, già prima di questa rinegoziazione e prima anche della situazione purtroppo sciagurata di questa crisi pandemica che ci ha investito, avevamo noi come bilancio spazio per intervenire con nuove aperture di mutui. Chiaramente non per sciallacquare danaro, ma assolutamente per accelerare gli investimenti. Se questo deve essere un anno dove necessariamente, pare evidente e condivisibile da tutti, si dovrà ripensare alle priorità, sarà anche opportuno, visto che probabilmente le risorse scarseggeranno, valutare, ove necessario e ove opportuno, anche l'apertura di nuovi mutui, quindi ampliare lo stesso portafoglio, perché mi immagino che, visto e considerato, qui vado dietro alle considerazioni che hanno fatto in diversi passaggi anche altri consiglieri, c'è un'attenzione, almeno per ora, scarsa da parte del Governo centrale rispetto alle esigenze di bilancio dei comuni, noi siamo in questo contesto proprio il comune che avrà più bisogno, visto e considerato che abbiamo solo il settore turistico. E chiaramente il fatto che l'amministrazione possa anticipare degli interventi, anche utilizzando la leva del debito, rispetto anche a un cronoprogramma che magari aveva impostato, possa aiutare e stimolare gli stessi imprenditori a seguire il comune in queste operazioni, magari prima di quello che si era previsto nel piano triennale sarebbe opportuno. Divago un attimo, ma non di tanto, visto e considerato che noi avevamo un piano triennale delle opere che era fortemente legato alla dismissione di cespiti immobiliari e di proprietà del comune, mi pare evidente che in questa situazione avremo dei prezzi ancora più depressi di quei cespiti immobiliari e ancora quindi sarà più opportuno fare un ragionamento sul focus degli investimenti da fare e quindi anche da quelli che dovranno essere finanziati per mezzo dei mutui. Quindi questa secondo me è una riflessione che dovrà essere centrale perché altrimenti se non si vede una reazione da parte dell'amministrazione forte, dal lato investimenti che non possono essere supportati che non possono uscire dall'alvo del ragionamento di nuovi mutui non si vede come si possa portare avanti il piano triennale per quanto già fosse critico prima e oggi sicuramente lo è ancora di più. Quindi il mio passaggio voleva dire bene la renegoziazione ma non dobbiamo temere di spingere dal lato degli investimenti perché non avremo probabilmente le risorse che pensavamo di poter gestire. Grazie. grazie consigliere del bianco ci sono altri interventi? Ecco il mio nonna e il figlio ci sono altri interventi? Non essendoci altri interventi cedo la parola deve intervenire chi vuole l'assessore? Posso? Prego assessore Allora per rispondere al consigliere del bianco gli uffici stanno lavorando per trovare la soluzione più opportuna per quanto riguarda i BOC già la dottoressa Farinelli si era espressa in tal senso in commissione quindi sono convinto che i nostri uffici troveranno la soluzione migliore per risolvere anche la questione di questi BOC che rappresentano certamente un problema un problema che ci portiamo dai primi anni 2000 e che adesso cercheremo di risolvere per quanto riguarda il bilancio e la domanda di attualità su cui ha risposto il sindaco certamente il decreto rilancio che doveva fornire ulteriore liquidità e ulteriori contributi agli enti locali è arrivato alla promulgazione come sapete due giorni fa e da una prima lettura c'è ben poco quindi dovremo certamente rivedere riguardare insieme alla maggioranza insieme naturalmente agli uffici insieme alla giunta il nostro bilancio per poter portare avanti le nostre priorità gli investimenti non mancheranno ma sempre nel rispetto delle norme cioè non vorremmo mai trovarci con un bilancio bocciato da revisore dei conti o un bilancio non a norma o un bilancio mandato alla corte dei conti vogliamo sempre mantenere il bilancio in linea con la normativa un bilancio certificato un bilancio che rispetta bene tutti i parametri a garanzia ripeto soprattutto di voi consiglieri che il bilancio lo votate perché noi lo presentiamo in consiglio comunale quindi presentiamo variazione il bilancio stesso ma voi lo votate quindi gli investimenti non mancheranno però saranno fatti secondo le norme secondo quello che ci permetteranno le norme chiaramente quindi rassicuro il consigliere e cercheremo sicuramente di fare tutto il possibile per i nostri cittadini e per le nostre imprese grazie grazie Assessore Sindaco vuole intervenire? no non vorrei intervenire ci sono dichiarazioni di voto a parte dei consiglieri? non essendoci dichiarazioni di voto pongo in votazione la delibera prego consiglieri allora Andruccioli mi estengo per entrambe e Angelini favorevole per entrambe Bedina favorevole per entrambe Boschietti arriva favorevole per entrambe Tarbonari mi estengo per entrambe Conti scrive in chat Conti anni proprio spento non va adesso si è attivato? si no prima si scrivi ok provi provi parli la selezione per entrambe grazie scusatemi ancora e Frigiotti favorevole favorevole Galassi favorevole favorevole Gambetti astenuta 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 Gobbi astenuto astenuto Imola astenuto astenuto Maiolino favorevole per entrambe Mussoni favorevole favorevole Pelletrino favorevole favorevole Pullè favorevole favorevole Ragni favorevole favorevole Ricci favorevole per entrambe Rosati favorevole favorevole Testa non la vedo no è uscita non la vedo ok Tonti favorevole per entrambi Tosi favorevole per entrambi Vandi tutti e due favorevoli Pescovi astenuta 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 ok 1,2,3,4,5,6,7 8 astenuti il resto favorevole a me mi manca del bianco mi manca del bianco dottoressa non ho votato io presidente e allora del bianco del bianco doppia astensione chi è che l'altro? ok poi a me risultano tutti sì con otto astensioni e quindici voti favorevoli la pratica è stata dichiarata immediatamente eseguibile e votata favorevolmente anch'essa esaurite le pratiche di giunta passiamo agli ordini del giorno le pratiche di consiglio scusate il primo ordine del giorno è a titolo modifica vigente regolamento comunale per l'implicazione delle canne e l'occupazione spazi di aree pubbliche proponente Imola Simone consigliere occupazione solo pubblica aree occupazione occupazione grazie presidente do lettura sì do lettura dell'ordine del giorno visto il proprio regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche cosa padotato con deliberazione commissariale con i poteri del consiglio comunale numero 15 del 16-03-2017 e successive modificazioni di integrazione eccetera eccetera preso atto che tra le misure adottate per contrastare la diffusione epidemiologica da covid-19 è stata vista ed imposta la chiusura delle attività ricettive commerciali dei pubblici esercizi del commercio in forma ambulante con gravi ripercussioni di carattere economico finanziario ritenuto pertanto necessario adottare provvedimenti al fine di contenere e mitigare gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica che covid-19 sta producendo sul tessuto economico introducendo misure a favore e di sostegno e a favore per le imprese considerato che al fine di rispettare i protocolli di sicurezza che il distanziamento sociale ci renderà ci renderà necessario in particolare per le attività di somministrazione di alimenti e bevande disporre su aree pubbliche di spazi superiori a quelli già autorizzati ed autorizzati nell'annualità precedenti ritenuto pertanto di introdurre nel vigente regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche una disposizione di carattere eccezionale e transitorio atta a ridurre per l'anno 2020 il canone complessivo dovuto per la determinazione fattispecie di occupazione nonché ad esentare gli ampliamenti di suolo pubblico rispetto a quelli autorizzati precedentemente al fine di consentire lo svolgimento dell'attività in condizioni di sicurezza nel rispetto dei protocolli previsti ritenuto altresì di prevedere parametri massimi entro i quali consentire eventuali ampliamenti di spazi pubblici il consiglio comunale delibera come? il consiglio comunale delibera uno di introdurre nel vigente regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi da repubbliche una nuova disposizione di carattere eccezionale e transitorio a valere esclusivamente per l'anno 2020 ovvero l'articolo 31 quindi successivo all'ultimo articolo successivo all'ultimo articolo del regolamento del capo sesto denominato misure a sostegno dell'imperazione di contenere le conseguenze negative di carattere economico finanziario derivanti dall'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19 per lo conto non c'è punto 2 di approvare l'articolo 31 che risulterà il seguente posso andare avanti? posso andare avanti? prego grazie esclusivamente per l'anno 2020 la misura complessiva del canone per l'occupazione di spazi e da repubbliche è ridotto nella misura del 50% per le occupazioni di carattere permanente per le nuove occupazioni temporanee e per quelle autorizzate dal primo marzo 2020 per le occupazioni annuali stagionali o occasionali relative a postesi autorizzati per il commercio su aree pubbliche restano infine escluse dalle esenzioni di cui sopra le occupazioni effettuate dalle aziende erogatrici di pubblici servizi e da quelle della telefonia mobile i passi carrabili i distributori automatici le occupazioni effettuate per fine privati le occupazioni del suolo realizzate sia per fini commerciali che per fini privati punto 3 prevedere una procedura semplificata in virtù della quale per le richieste di ulteriore occupazione di spazi di cui in premessa nei corsi 5 giorni scatti il silenzio assenso per ogni aspetto autorizzativo le occupazioni per la somministrazione di alimenti e bevande richieste in ampliamento a quanto già autorizzato nella precedente sono esentate dall'applicazione del canone la superficie massima concedibile in aumento sarà determinata dagli uffici preposti fermo restando la compatibilità delle occupazioni con il vigente collega della strada e con le condizioni del traffico e della viabilità delle zone interessate al fine di garantire l'occupazione in condizioni di sicurezza sulla sede stradale l'occupazione del suolo pubblico potrà estendersi limitatamente agli spazi precedentemente disciplinati dagli uffici preposti con appositi provvedimenti per determinare l'occupazione delle corsie adibite al traffico veicolare dovranno essere collocate fioriere secondo un eventuale modello stabilito dalla giunta comunale con l'intento di scegliere ed abbreviare le procedure amministrative finalizzate al rilascio delle autorizzazioni del suolo pubblico le superfici dei locali adibite alla somministrazione saranno dichiarate mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà non sarà inoltre necessario produrre per ampliamento la planimetria dell'occupazione richiesta in sostituzione dovrà essere allegata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà firmato da un tecnico incaricato in cui oltre al rispetto delle disposizioni del vigente codice della strada si dovrà dichiarare che l'occupazione non andrà a collocarsi sugli attraversamenti pedonali in corrispondenza delle fermate dell'autobus o in corrispondenza di passi carrabili e che la stessa non occluderà il libero ingresso ai negozi nelle abitazioni e nei cortili io vi ringrazio per avermi ascoltato è stato un po' lungo richiedo un voto favorevole del consiglio comunale grazie grazie consigliere Imola ci sono altri interventi da parte dei consiglieri nessun consigliere interviene io io presidente chiedo di intervenire per lo sito in chat si non è ancora arrivato ma vada al giorno vedi che devi andare prego Angelini grazie presidente e buona quasi sera a tutti allora questo ordine del giorno presentato dal gruppo democratico ha per argomento la modifica del regolamento cosa? a favore degli imprenditori che devono in questo drammatico momento storico affrontare problematiche economiche eccezionali a tal proposito questa amministrazione si è già attivata in merito esentando esentando dalla cosa tutti gli esercenti sua Repubblica artigiani commercianti e pubblici esercizi non solo abbiamo fatto di più con l'introduzione dell'iniziativa Riccione Square progetto che consente ai pubblici esercizi di ampliarsi negli spazi all'aperto per favorire appunto il distanziamento sociale e mantenere le misure di sicurezza come da protocolli sanitari il tutto mediante la semplice compilazione di un modulo di autocertificazione di una sola facciata una da inviare via PEC al settore attività produttive corredato di una planimetria in forma semplice con l'indicazione dell'area oggetto di occupazione tutto questo mediante la formula del silenzio senso ossia se non si ricevono comunicazioni contrarie da parte degli uffici entro tre giorni tre la richiesta si considera tacitamente approvata senza inutili e dannosi lungaggini burocratiche Riccione Square è ben evidenziato in bella vista sulla home page del sito del comune di Riccione ora a lato pratico per fare un esempio concreto un locale con la disponibilità pre-covid di circa 100 coperti si trova ora date le restrizioni sanitarie imposte a fare i conti con solo 40 barra 50 clienti è evidente che ogni metro quadro esterno in più possa fare galleggiare il più possibile i conti economici di tali attività non solo mediante l'esposizione di qualche tavolino in più ma anche con la possibilità di organizzare attività di intrattenimento all'esterno creando così più momenti belli per la città in una stagione molto difficile in cui non ci saranno eventi o altro non pagare il suolo pubblico costituisce per ciascun imprenditore sia esso artigiano o commerciante o appunto pubblico esercizio un incentivo economico importante con risparmi di migliaia di euro ora basta leggere la stampa di questa mattina abbiamo già un notevole riscontro da parte degli operatori dei pubblici esercizi ben due zone aderiscono entusiasti al progetto di Cione Square le attività di Viale Corridoni e della zona Porta e dai rumors che si sentono in giro tra gli imprenditori tanti operatori di altre aree si stanno già in queste ore attivando in merito questa iniziativa si sta allargando e questa è una cosa straordinaria veniamo ora all'ordine del giorno presentato dal gruppo consigliare Partito Democratico in merito vorrei far notare un paio di basilari differenze con le nostre decisioni la prima il PD di Cione vorrebbe cambiare il regolamento ed applicare solo il 50% di sconto la seconda il governo centrale anche questa maggioranza PD e PD 5 Stelle ha esentato dalla cosa solo la parte nuova diciamo il prolungamento rispetto allo spazio pubblico già occupato secondo il governo sulla parte già occupata bisogna pagare la cosa in forma interna bene invece cosa abbiamo fatto noi di questa amministrazione da sempre attenta alle esigenze degli operatori di tutti abbiamo esentato al 100% ripeto 100% sia la vecchia occupazione di suolo pubblico che la nuova anticipando e migliorando in tal modo anche gli interventi del governo centrale suolo pubblico tutto gratis se non a spizziche o bocconi è scontato solo del 50% a tale proposito e faccio anche la dichiarazione di voto respingiamo l'ordine del giorno presentato dal gruppo democratico in quanto abbondantemente superato la luce dei risultati già ottenuti la dichiarazione di voto la giocamente sarà contraria grazie grazie consigliere Angelini c'è qualche altro consigliere che vuole intervenire? scusate ma mi si incrociano gli occhi quindi guardo anche la chat se qualche consigliere vuole intervenire non vedo qui nessuno nessuno di voi ah la consigliere Vescovi consigliere Vescovi prego è l'intervento principale immagino dieci minuti sì sì ma sarà molto breve allora si sente? sì allora è evidente che c'è stato una susseguirsi nella presentazione di questi atti anche da un punto di vista temporale vorrei brevemente fare la cronistoria noi eh il consigliere Imola ha presentato questo ordine del giorno nella data del 12 maggio il giorno dopo la presentazione il deposito di questo ordine del giorno c'è stato un comunicato stampa da parte del sindaco dove si è anticipato che si aveva l'intenzione di intervenire sulla cosa e lo sia sarebbe fatto attraverso il progetto di Riccione Square quindi solo dopo che il consigliere Imola aveva depositato appunto il proprio ordine del giorno addirittura nei giorni successivi è arrivato il DPCM del governo che ha esentato eh tutte le nuove espansioni di occupazione suolo pubblico e solo questa mattina la giunta scusate l'altro ieri mattina la giunta ha deliberato Riccione Square estate 2020 va bene l'obiettivo è raggiunto noi volevamo che la città di Riccione potesse essere esentata in capo ai propri operatori dal pagamento della cosa perché come giustamente aveva eh sottolineato sottolineato il consigliere Imola e ha ribadito eh seguendo le gli interventi di Imola anche il consigliere Giulini la possibilità di espandersi sulle aree esterne è l'unica possibilità che noi possiamo avere affinché gli operatori soprattutto quelli della ristorazione degli esercizi pubblici possano garantire il rispetto del distanziamento sociale previsto dai vari protocolli mi premeva a fare questa cronistoria non perché io intenda eh mettere il cappello su questa iniziativa ma perché ritengo che da questo punto di vista è un po' ehm da questo non particolarmente utile a nessuno volere eh rimarcare che questo ordine del giorno è superato questo ordine del giorno è superato ma tutti gli atti che questo comune ha prodotto sono successivi al deposito del nostro ordine del giorno il nostro ordine del giorno ha raggiunto il suo scopo perché il nostro interesse è sgravare i i gli operatori dalla da questa da questa tassa ben venga l'esenzione totale noi lo avevamo fatta proposta al 50 per cento seguendo anche un po' le cose che ci vengono riportate continuamente dal sindaco che dice che i bilanci del comune sono di fatto eh in fallimento tecnico cosa poi tutto da verificare andando avanti nelle prossime settimane e anche proprio per volere in qualche modo salvaguardare questo equilibrio da questo punto di vista abbiamo chiesto di sgravare al 50 per cento per tutti i restanti mesi dell'anno che non fossero quelli appunto della stagione estiva quindi anche quelli dopo la stagione estiva in autunno se la giunta ha deciso di sgravare il cento per cento noi non possiamo che essere soddisfatti ancor più siamo soddisfatti del fatto che anche se poco l'azione politica dell'ordine del giorno del consigliere di Imola è servita ad intervenire in modo unitario su questa presa di decisione per questo motivo ritengo che essendo l'ordine del giorno superato sostanzialmente dal dpcm e dalla giunta dell'altro ieri della giunta e dalla scusate dalle delibere di giunta dell'altro ieri del comune di Riccione noi possiamo anche ritirarlo questo ordine del giorno ci sono altri interventi? non ci sono altri interventi consiglieri? non essendo altri interventi il sindaco vuole intervenire? sì posso dire? vabbè va Luigi Luigi ah sono consigliere Luigi consigliere sì volevo dire due due cose veloci prima di tutto il sindaco visto che prima si facevano paragoni il sindaco che si lamenta del bilancio dissestato non è quello di Riccione ma forse bisogna andare un po' più a nord per leggere tutti i giorni sui giornali certe dichiarazioni noi abbiamo detto che cercheremo di fare il possibile con le risorse che avremo io l'ho detto anche in questa occasione e questo è un primo sforzo da parte del nostro bilancio perché come ripeto il governo ha previsto l'esonero per l'ulteriore allargamento ulteriore si legge nella norma mentre noi abbiamo esonerato tutto il suolo pubblico da parte non solo delle attività di somministrazione di bevande ma anche delle altre attività commerciali e artigianali quindi questo insieme all'eliminazione delle rette degli asili nido del mese di aprile è un primo provvedimento fiscale su cui è stato impegnato anche il nostro bilancio perché ripeto non è bastato quello che il governo ha fatto per quanto riguarda Riccione Square sta dando risposte celeri in sicurezza amministrativa e anche il consigliere Angelini ha correttamente riportato due esempi ma poi speriamo ce ne saranno altri in città che seguiranno questi esempi un iter molto snello molto apprezzato quindi basta una semplice autocertificazione scaricabile dal sito in silenzio assenso entro tre giorni una semplice planimetria quindi gli operatori sono entusiasti e questa la delibera direzione square è stata prodotta anche grazie al continuo confronto con i commercianti con gli operatori economici che con cui da settimane stiamo dialogando per la cosa da settimane se non da mesi abbiamo avuto contatti ci hanno esposto anche loro queste richieste insieme abbiamo trovato le soluzioni più efficaci e più giuste bene che la minoranza sia d'accordo però ripeto questo confronto è importante e ha portato questi provvedimenti ha portato veramente a una a una nuova possibilità di fare turismo in una era così difficile che darà nuovo lustro a interi quartieri della nostra città darà nuovo lustro nel senso di intrattenimento nel senso di sicurezza e di fruibilità quindi eh benvengano anche le sollecitazioni della minoranza ma noi ripeto è da tempo che stiamo condividendo questo percorso e ne porteremo avanti porteremo avanti altri percorsi sempre nell'ottica di aiuto ai nostri cittadini e alle nostre imprese grazie prego sindaco sì volevo oltremodo precisare pur ringraziando il contributo di tutti perché le sensibilità piuttosto che le osservazioni sono ben gradite che questo non riguarda semplicemente l'occupazione del suolo pubblico in città ma dà una copertura completa e totale anche a quegli ampiamenti che saranno necessari nell'ambito del demanio cioè non abbiamo con la formulazione di Riccione Square se mi potete permettere senza togliere niente all'ordine del giorno del consigliere Imola non abbiamo elaborato una notte sono settimane e settimane che stiamo lavorando con le associazioni di categoria e con i tecnici proprio per dare una copertura completa a quella che deve essere l'opportunità che una città deve dare ai propri operatori sotto tutti i punti di vista quindi logicamente Riccione Square si applicherà nella parte del maniale portuale avete visto questa mattina sulla stampa l'iniziativa tra i tre locali vicini alla darsena di Levante dove di Ponente scusate dove per l'appunto il Gher Fino lo Chalet faranno una sistemazione che viene dall'ampliamento ma nel contempo anche dall'offrire un nuovo prodotto di intrattenimento così è stato lungo il corso di Viale Carducci così sarà eh di Viale Corridoni stanchezza di Viale Corridoni così saranno anche i tanti ampliamenti che si potranno avere nei ristorantini del mare i quali in accordo come è precisato nella delibera con gli altri operatori del mare potranno chiedere anche solo per le ore serali l'occupazione del solo pubblico quindi al di là dell'esenzione della tassa che è cosa buona e saggia e che abbiamo dovuto maturare nel tempo per poter arrivare come ben capite in una delibera anche alla copertura finanziaria e quindi al parere favorevole di tutti i dirigenti sia tecnico che economico abbiamo guardato con un respiro molto più ampio perché ad esempio sulla eh spiaggia e nel De Magno quella che è l'imposta sia pur eh diciamo minimale che dovrà essere corrisposta quindi con il progetto abbiamo voluto creare un prodotto turistico e una rilevanza turistica a quella che potrebbe eh apparire solo una scendere nella strada dei tavolini ma che deve invece per Riccione costituire una nuova offerta di intrattenimento e una nuova offerta per l'estate 2020 grazie signor sindaco ci sono a questo punto delle dichiarazioni di voto? non ci sono dichiarazioni di voto specifiche la tiene con l'ordine del giorno lo ritira quindi eh consiglio eh mettiamo in votazione l'ordine del giorno non si quindi la consiglia del bianco posso concludere? un attimo il consigliere Imola ha chiesto la parola al consigliere del bianco poi faccio concludere lei d'accordo consigliere Imola? grazie il consigliere del bianco certo una cosa una cosa molto veloce ma non ho capito quindi viene ritirato questo ordine del giorno dato che non c'ha più senso non ho capito se lo viene ritirato oppure no proponente? solo il proponente può ritirare l'ordine del giorno nessun altro e il proponente è il consigliere Imola ok 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 consigliere Imola vuole intervenire lei? sì io prendevo parola appunto per dire il mio il mio punto di vista e io chiaramente non il mio intento non era di fare una corsa che arrivava prima a fare l'ordine del giorno immagino che voi come me ci abbiate lavorato sodo per quella delibera e per quelle categorie anche noi chiaramente prima di emettere un'ordine del giorno anche io mi sono confrontato con le categorie e sono pronto a ritirare l'ordine del giorno dal momento che lo possiamo ritenere forse superato grazie anche a quello a quanto preposto dal DPCM di Conte e da quanto emanato nella vostra delibera di giunta delibera di giunta che però nell'albo operatorio ancora non è pubblicata e ho ricevuto oggi un gentile concessione dagli uffici mi chiedo però un chiedimento prima del ritiro dell'ordine del giorno su questa delibera perché dal momento che per lo meno quella che ho ricevuto io ha dei punti nelle proposte mal posti nel senso che il punto 1 2 3 riparte poi dal 2 2 3 io voglio richiedere esenzione della cosa in riferimento alla delibera numero 117 mi sembra che sia sì è previsto dal 23 maggio al 31 ottobre oppure per tutto il corso dell'anno come indicato dai commenti precedenti per quanto riguarda l'esenzione della cosa è prevista per tutto l'anno per quanto riguarda l'ampliamento è autorizzato tra virgolette dal 23 di maggio al 31 di ottobre è sufficiente la risposta allora ringrazio per la presenza sì sì la risposta che mi ha dato sindaco mi ha chiarito tutto e quindi dal momento che quest'ordine del giorno lo possiamo ritenere superato dalla delibera di giunta sono pronto a ritirarlo perfetto prendo le sue parole come buone quindi ritiriamo l'ordine del giorno passiamo al prossimo ordine del giorno che era quello del consigliere Andruccioli che ha ritirato e che ne ha presentato uno successivo non l'ha ritirato quindi no ma l'ha confermato il consigliere Andruccioli conferma che ritira quest'ordine del giorno per presentare quello successivo no? certamente come comunicato già per il meno agli uffici e a tutti i capigruppo con cui si è concordato di presentare un ordine del giorno condiviso era solo per il verbale questa richiesta il consigliere Andruccioli perfetto si era ritirato la ringrazio proseguiamo quindi passiamo al prossimo ordine del giorno presentato dal non vedo più niente consigliere Gobbi scusate ma variazione del regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose a carattere temporaneo per l'anno corrente 2020 proponente appunto il consigliere Gobbi consigliere non lo vedo è lì però non compare consigliere Gobbi c'è? perché in questo caso in questo caso consigliere Gobbi io non c'è beh si deve considerare per illustrato e passiamo sì però è anche sempre eccolo consigliere Gobbi sì consigliere Gobbi consigliere Gobbi prego lo do per letto lo do per letto perché non riesco purtroppo ad avere due telecamere contemporaneamente apriamo il dibattito se serve lo posso leggere io presidente va bene per me se volete va bene se i consiglieri lo ritengono necessario altrimenti io direi di passare la discussione io se Imola c'è la sottomano che lo vuole leggere lui ringrazio perché non riesco ad attivare l'altra telecamera per farla per farla per farla breve per farla breve posso leggere solo le le conclusioni diciamo le richieste il dispositivo ecco ma non riesco il consiglierimolo leggo il dispositivo certo grazie presidente e si richiede al sindaco alla giunta e dal presidente del consiglio comunale di impegnarsi a modificare per il solo anno corrente 2020 l'articolo quattro comma due relativo alla sezione due del regolamento comunale per la disciplina e delle attività rumorose a carattere temporaneo di cui sopra posticipando al primo luglio l'inizio della fascia temporale ai fini della determinazione degli orari dei cantieri e delle attività rumorose sul territorio comunale si richiede inoltre di modificare conseguentemente per il solo anno corrente 2020 l'articolo quattro comma tre relativo alla sezione due del regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose a carattere temporaneo di cui sopra posticipando al primo luglio l'inizio della fascia temporale relative alla zona a b e c si richiede inoltre di modificare conseguentemente per il solo anno corrente 2020 l'articolo cinque comma due relativo alla sezione due del regolamento comunale per la disciplina dell'attività rumorose a carattere temporaneo di cui sopra posticipando al primo luglio l'inizio della fascia temporale relativa alle zone a b e c ivi compreso l'inizio della fascia temporale in cui nella zona c non verranno comunque autorizzate attività temporanei nei cantieri edili comportanti l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi questa è la conclusione dell'ordine del giorno il vulnus è dare la possibilità a tutti i cantieri in essere di proseguire la loro attività fino a quello che potrebbe essere un inizio più vivace della stagione della stagione estiva permettendo così di sopperire ai problemi derivati al lockdown legato al coronavirus permettere a persone di avere un posto di lavoro garantito per un po' più di tempo diciamo e alle attività di terminare i lavori precedentemente iniziati grazie a tutti grazie grazie consigliere Imola a questo punto apriamo la discussione se il consigliere Gobi vuole intervenire o gli altri consiglieri sono liberi di farlo vi esorto a prenotarvi nessuno supernota consigliere Pullè prego prego sì grazie presidente mi sentite mi sentite prego consigliere vada pure grazie presidente ma questo ordine del giorno secondo noi probabilmente dovrebbe essere anche questo ritirato nel senso che in realtà tutto quello che è inserito nell'ordine del giorno di fatto viene già concesso ricordiamo che abbiamo il comune ha già dato più di dieci deroghe proprio per effettuare questo tipo di lavori anche fuori dai termini che sono stati che erano previsti dal regolamento e oltretutto è in diciamo in approvazione è stata approvata o in approvazione una delibera per per semplificare tutte le procedure in modo che anche gli uffici possano essere in qualche modo anzi sono stati invitati tutti gli uffici a rendere più snelle le risposte che devono dare a chi deve effettuare i lavori di campiere quindi secondo me noi abbiamo già dato nei fatti le disposizioni di quello che c'è in quest'ordine del giorno presentato dal consigliere Gobbi quindi così com'è noi se lo dobbiamo votare lo votiamo negativamente ma semplicemente perché tutto ciò che viene chiesto di fatto l'abbiamo già avallato diversamente se ritiene di voler ritirare anche questo ok grazie perfetto ci sono altri interventi? c'è qualcun altro che vuole intervenire consiglieri? io posso intervenire nonostante che ho presentato il posto di Simone? se vuole intervenire consiglieri che Imola intervenga si molto brevemente circa quanto dichiarato dal consigliere Pulle in precedenza ha utilizzato la parola deroghe e a me non piace quella parola nel senso che io ho cioè io il consigliere Gobbi ha scritto un regolamento per tutte le attività quindi questo regolamento per noi ha senso votare a una modifica regolamento ha senso votarla per garantire a tutte le attività di poter svolgere il loro lavoro tranquillamente per noi senza il bisogno di deroghe deroghe che chiaramente possono essere concesse arbitrariamente mentre un regolamento è così per tutti punto poi ha citato una delibera io sinceramente probabilmente non l'ho vista io probabilmente ancora non è stata resa pubblica non capisco di che delibera parla in ogni caso il regolamento ripeto e concludo è ben diverso da dare deroghe deroghe una tantum o tu cur grazie grazie consigliere Imola aveva chiesto l'intervento il consigliere del Bianco prego consigliere sì grazie no in merito a infatti l'intervento del consigliere Pullet anche noi ravvisiamo che chiaramente i cantieri sono rimasti fermi e c'è la necessità magari e quello può avere un senso di tentare di ultimare delle opere soprattutto se sono opere di infrastrutture strumentali l'attività turistica quindi noi ci troviamo d'accordo con chiaramente l'utilizzo di deroghe specifiche perché dall'altra parte dall'altro canto c'è un aspetto da non sottovalutare che in questa stagione strana e speriamo che in realtà non lo sia ciò vuol dire che magari la gente popolerà la città parlo dei turisti degli ospiti fin da subito questo l'augurio di tutti non vogliamo ma non vorremmo mai che scusate il proseguimento di alcuni cantieri possa danneggiare la qualità del soggiorno quindi onestamente sì la parola deroghe può essere intesa interpretata male ma se fossero o se vengono utilizzate con granusalis con intelligenza forse sono una soluzione da non scartare perché chiaramente faccio un esempio per essere più chiaro se devo riaprire un cantiere che non può essere chiuso e tranquillamente può essere riaperto a settembre ci vedo poca utilità un mese o venti giorni o quello che è nel momento che torna in pista quel cantiere il fatto di poter essere operativi per un mese o 40 giorni in più se invece devo riaprire un cantiere per finalizzare un'opera perché magari una struttura apre magari può valerne la pena e quindi magari giusta la deroga ecco questa è la posizione secondo me intelligente che si dovrebbe avere in questo in questo campo e quindi anche nei momenti in cui si danno le deroghe grazie grazie consigliere del bianco ci sono altri interventi qualcun altro vuole intervenire se no passo la parola all'assessore che in questo caso non c'è nessuno io compare se si viene fuori quindi lascio la parola al sindaco che in questo caso è anche l'assessore del ramo si sostituisco l'elena raffaelli perché regolamento in questione o regolamento delle attività economiche no non ho ben compreso che cosa intendesse Imola per occorre darle a tutti perché noi le diamo deroghe a tutti il problema è che siamo anche una città turistica quindi è anche giusto e corretto non tanto dare o non dare la deroga ma andare a concordare con l'impresa gli orari in ragione della tipo di attività da svolgere vicino perché in linea di massima noi siamo propensi a far lavorare e forse non si ricorda il fatto che abbiamo fatto lavorare sul cantiere dell'ex Aquiladoro fino al mese di luglio anche l'anno scorso abbiamo fatto lavorare l'anno scorso tutto estate il cantiere della fattoria abbiamo fatto lavorare durante il Natale il cantiere dell'ex Majestic cioè cerchiamo in tutti i modi e in tutti i termini proprio sentendo anche direttamente le imprese costruttrici piuttosto che la proprietà anche in ragione del tipo di lavoro se è un lavoro particolarmente rumoroso o anche fastidioso dal punto di vista di polveri o calcestruzzo piuttosto che è un lavoro interno che possiamo sempre comunque tenendo conti degli orari comunque anche di una città turistica andare adeguatamente a calzare all'esigenza dell'imprenditore per quello che vi dico non è necessario modificare il regolamento che porterebbe in alcune situazioni anche a situazioni di disagio nella parte turistica della città ma come ci siamo avvalsi sempre sulla base del regolamento non è una delibera del regolamento il quale prevede una valvola di sfogo nell'articolato poter dare eh la eh diciamo autorizzazione ad hoc senza scartarne nessuna vi dico anche che dieci sono state le domande pervenute e dieci sono state le autorizzazioni che abbiamo già concesso grazie signor sindaco a questo punto passiamo alle dichiarazioni di voto ci sono dichiarazioni di voto non ne vedo mettiamo in votazione l'ordine del giorno prego allora Andruccioli qua c'è l'imiliazionabilità no no è l'ordine del giorno Andruccioli favorevole Angelini contrario Pedina contrario Boschetti è uscita Carbonari non c'è non la vedo Carbonari non la vedo Conti è uscito Del Bianco astenuto Frigotti C'è Frigotti mi sentite? Sì Pronto Pronto Sì Sì Voto Siamo tutti? Sì Contrario Galassi Contrario Gambetti Favorevole Gobi Favorevole Imola Favorevole Maiolino Contraria Mussoni Contraria Pelledrino Reggito Pullè Contrario Ragni Contrario Ricci Contrario Rosati Contrario Testa Contrario 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 Tonti Ce l'ha fatta che entrava Tonti non lo vedo No è uscito e non riesce entrare Tosi Contrario Contrario Bambi Contrario Vescovi Favorevole Con 5 voti favorevoli Un astenuto e 13 contrari L'ordine del giorno è stato respinto Passiamo all'ultimo punto del Consiglio Comunale che è l'ordine del giorno presentato dal Consigliere Andruccioli a firma di tutti i gruppi consigliari quindi io lascerei la parola al Consigliere Andruccioli che ci presenta questo ordine del giorno Prego consigliere Grazie presidente Prima magari di leggere il dispositivo volevo fare un piccolo preambolo della genesi di quest'ordine del giorno Noi come gruppo del Partito Democratico ne avevamo presentato un altro che chiedeva in sostanza di poter reperire delle risorse per la solidarietà alimentare aggiuntive Chiaramente a quelle che erano arrivate tramite la protezione civile nazionale E sono stato contattato chiaramente dalla maggioranza che aveva interesse comunque su questo tema che è un tema sentito da tutti E quindi a fare un ordine del giorno insieme e abbiamo tutti ben accolto questa insomma questa richiesta Questo lo dico perché secondo me su temi del genere che riguardano comunque le fragilità delle persone Non c'è nessuno che si deve appiccicare una medaglia al petto perché riguardano la carne viva delle persone Persone in carne e ossa che soffrono e che chiaramente meritano che tutta la comunità E specialmente le istituzioni nel suo intero quindi chi governa ma anche nella parte della minoranza Si impegnano per affrontare insomma questa situazione di difficoltà Una situazione che chiaramente oggi si è acuita perché purtroppo questo virus ha dovuto bloccare le attività Ha creato emergenza di liquidità nelle famiglie e quindi benvenga insomma il fatto che su questo tema Il consiglio comunale di Riccione sia chiaramente unito Chiaramente in accordo poi con la maggioranza è stato anche giunto, adesso andrò a leggere Chiaramente abbiamo voluto dare un respiro anche più ampio all'ordine del giorno Proprio per non limitarci diciamo a solamente a reperire le risorse che tra l'altro Nelle more del deposito dell'ordine del giorno e oggi in sede di discussione in consiglio comunale Chiaramente poi il dirigente competente tramite una variazione compensativa le risorse le ha trovate Su questo come ha già fatto prima l'assessore Galli e anche l'assessore Santi Voglio ringraziare a nome di tutti chiaramente i cittadini ricconesi che chiaramente grazie alle donazioni effettuate sul conto corrente Aperto dal comune per gestire questa emergenza hanno dimostrato una grande sensibilità E penso che i cittadini in primis diano l'esempio al di là della propria appartenenza politica Al di là delle loro divisioni insomma che su questi temi qui una comunità si unisce Non si divide, una comunità è sempre pronta a farsi carico Anche perché io penso, questa è una considerazione personale Che il fatto purtroppo che ci troviamo a gestire i temi delle fragilità Sia in primis, così io parto, una sconfitta in primis di tutti Perché alla fine almeno penso che certe situazioni di ingiustizia dovremmo evitare che si creino Ecco, in questo senso penso che almeno una risposta comune Anche un'intenzione, un impegno comune su questi temi sia almeno Come dire, doverosa verso chi in questo momento soffre Per una sua situazione di difficoltà economica ma anche sociale o di fragilità diversa Per cui, adesso tralascio i punti più tecnici E voglio leggere solamente una prima parte delle premesse Considerata la richiesta formulata in cabina di regia regionale Di rimodulazione di tutti i progetti sociali Anno 2020 Con l'acquisizione in capo al comune di maggiore flessibilità Anche in risposta alla nuova emergenza sociale Crescente a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19 Considerato l'esistenza presso il comune di Riccione Di un conto corrente solidale Appositamente attivato a seguito dell'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile Numero 658 del 29-3-2020 Di cui sopra Capace di accogliere le donazioni private Che potrebbero così godere della detrabilità fiscale Invita il Consiglio Comunale Invita l'Aggiunta Comunale a reperire Nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario dell'ente Le risorse necessarie per soddisfare Limitatamente agli eventi di diritto Tutte le richieste di buone spese Che ancora non hanno potuto trovare a ristoro Pervenuto al comune A seguito della pubblicazione in data 6 aprile 2020 Dell'avviso pubblico per la concessione di buone spese Alle famiglie in condizioni di necessità economica contingente Derivata dalla momentanea sospensione dello stipendio O dell'attività lavorativa Per l'emergenza Covid-19 In seconda distanza A mettere in campo tutte le iniziative pubbliche e private Per dare risposta compiuta e puntuale Alla nuova emergenza sociale Scaturente dall'emergenza sanitaria Covid-19 Che vede ampliare la platea delle fragilità Questo è l'ordine del giorno Sottoscritto da tutti i gruppi consigliari Penso che sia Anche positivo concludere questo consiglio comunale Dando questo segnale Alla città di vicinanza Da parte di tutti noi Su un tema che In questo momento è particolarmente sentito Quindi ringrazio Insomma che sia potuti collaborare Penso che Al di là che una prima parte Selle risorse sono state reperite Grazie soprattutto Alle donazioni dei cittadini Penso che Il voto favorevole Dia proprio questo segnale alla città E penso che si voglia Grazie dell'attenzione Grazie consigliere Andruccioli Si è prenotato Il consigliere Bedina Prego consigliere Bedina In maggio c'è il principale Si il principale Mi sentite? Si Ok Allora buonasera a tutti Niente io mi volevo Unire al discorso di Cristian In merito proprio alla situazione In la quale viviamo E soprattutto Esprimere un forte grazie Verso i rizzonesi Che in questo momento Più che in ogni altro Ha dato prove di essere una vera comunità Una comunità che sa Comunque aiutarsi Veramente Lasciando da parte ovviamente I propri Le proprie idee In questo caso anche politiche Al fine di non lasciare nessuno indietro E in particolar modo Però un grazie va anche All'assessore Galli Al dirigente Pierigè E a tutte le donne E gli uomini Dell'assessorato Che hanno lavorato veramente In maniera incomiabile In pochissimi giorni Vista la grande mole di Domande per questi buoni pasto Che sono proprio Arrivati in brevissimo tempo Non tiro fuori i numeri Non dico niente Perché tanto Ne abbiamo già disquisito Precedentemente Però un particolare ringraziamento Soprattutto a quelle persone Sempre dipendenti Che hanno lavorato Ovviamente da casa Anche in condizioni di malattia Perché come ho detto prima Nessuno doveva restare indietro E questo Denota un segno di grande responsabilità Non solo lavorativa Ma proprio anche di sensibilità umana Nei confronti di queste persone Come detto prima Giusto come nota Abbiamo cercato di rispondere A tutte le esigenze Per dare subito liquidità Per concedere alle persone Di portare in tavola Un pasto Per poter mangiare Sicuramente Le obiezioni costruttive Che sono arrivate Ne faremo tesoro E sicuramente Saranno comunque messe Presse in considerazione La Basta Niente scusate Finito qui In un sentito Grazie a tutti Davvero Grazie Consigliere Bedina Consigliere Del Bianco Prego Si è prenotato lei Vero? Sì Grazie Vorrei aggiungere Due riflessioni O meglio Rimarcare Due riflessioni Che Secondo me Sono opportune Anche Soprattutto Guardando I mesi a venire Perché E' pur vero E anche io Ringrazio in questa sede Tutta la comunità Le famiglie Gli imprenditori Le aziende Chi ha messo Chi ha messo Dei soldi In quel conto corrente Si è messo Una mano sul cuore Capendo il momento Ma purtroppo Il sentore Che Buona parte Della città E che mi Che mi trova concorda E che avremo Di fronte a noi Dei mesi Molto Molto Difficili Quindi Non si sa E visto che non si sa Scusate Quanto possa reggere La solidarietà Del nostro territorio Rinnovo L'invito O meglio Rilancio Un invito Proprio Alla condivisione E voglio fare Un appello Alla dirigente Pierigè Voglio fare Un appello Al vice sindaco Nonché assessore Preposto A seguire La questione Buonispesa Cioè L'assessore Galli Proprio A una Condivisione Di questo Tipo Di intervento Se E soprattutto Come dicevo Prima Mi immagino Possa durare Nel tempo Perché Dovremmo Non solo Trovare le risorse Ma visto che Non saranno Infinite Sperando sempre Che qualcosa In più da Roma Arrivi Così ci capiamo Meglio Magari Che quelle Che abbiamo Siamo Cioè Ci mettiamo Nelle condizioni Di essere certi Che vadano Davvero Nelle persone Che sono Davvero Nelle disponibilità Delle persone Che sono In difficoltà O che magari Acquiranno Anche le difficoltà Che per ora Si spera Rimangano Passeggere Ma che potrebbero Essere Diventare Strutturali Quindi Io voglio Lanciare un appello Condividendo Ovviamente Questo ordine Del giorno Proprio La macchina Comunale Per la Condivisione Anche Proprio Nelle modalità Di intervento Per essere Più efficaci Più specifici E più Puntuali Non tanto Magari Curando solo La velocità Ma curando Davvero L'obiettivo Cioè andando A cogliere Proprio Quelle sacche Di disagio Anche Morale Perché Ho questa Sensazione Noi ci Confronteremo Con un tessuto Che secondo me Avrà anche Una grande Difficoltà A chiedere Perché magari Non è abituato Perché magari In questa condizione Non si è Mai trovato Prima E quindi Ci vorrà Molto tatto Molta sensibilità E anche Molte risorse Quindi Visto e considerato Che non so Quanto durerà Come dicevo Prima La solidarietà Del territorio E quante risorse Arriveranno da Roma Sarà molto importante Un confronto Proprio Per fare arrivare Quelle risorse E magari Anche qualcosa In più A chi veramente Ne ha bisogno Grazie Grazie Consigliere Del Bianco Ci sono altri Interventi Non ci sono altri Interventi Quindi Io vorrei In votazione L'ordine del giorno Cosa dite Consiglieri Consigliere Andruccioli Ha intenzione Di concludere No Quindi mettiamo In votazione L'ordine del giorno Passo la parola Secretario comunale Allora Andruccioli Favorevole Angelini Favorevole Berina Assolutamente Favorevole Boschetti È uscita Carbonari È uscita Carlo Conte Uscito Del Bianco Favorevole Frisotti Favorevole Galassi Favorevole Gambetti Favorevole Gobbi Favorevole Imola Favorevole Maiolino Favorevole Mussoni Favorevole Pellegrino È uscito Pullè Favorevole Ragni Favorevole Ricci No è uscito Rizzi È uscito Ok Rosati Favorevole Testa Favorevole Tonti Anche Tonti è uscito Tosi Favorevole Ubaldi Non c'è Bambi Favorevole Vescovi Favorevole Allora Nell'Italia Consiglio Comunale Approva quest'ordine del giorno Non essendoci altri argomenti All'ordine del giorno Dichiaro Chiuso Consiglio Comunale All'ora 19 E 34 Buonasera a tutti Arrivederci Grazie mille Buonasera a tutti Buonasera a tutti Buonasera 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 a tutti 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 Grazie a tutti.